Eccoci qua, buon pomeriggio, è un appuntamento importante e si è caricato anche nelle ultime ore di ulteriore importanza, sempre ammesso che vi interessi la politica italiana o la sorte della legislatura, della sfida per le elezioni eccetera. Perché sta per iniziare la direzione del Partito Democratico allargata alle varie istanze locali e si capisce che sarà davvero il teatro di un confronto duro. La presenza di Bersani, la presenza di D'Alema che era assolutamente dato per quasi impossibile, ma soprattutto il rincorrersi di voci riguarda il fatto che effettivamente Renzi darà o annuncerà le sue dimissioni. Conciò aprendo conseguentemente, e questo del resto lo scopo dell'ex premier, il congresso e quindi la sfida e la conta interna al partito. Forse da farsi a tappe forzate perché Renzi non abbandona, secondo quanto dicono molti, ma sentiremo cosa dirà, la prospettiva di andare a elezioni o alla fine della primavera. Dopo la metà di giugno, i tempi sarebbero tecnicamente possibili anche rispetto a un congresso che darebbe il suo risultato all'inizio di maggio, oppure all'inizio dell'autunno, alla fine dell'estate, cioè a settembre. Prima magari di quella barra del fatidico 16 settembre che è quella del fantomatico vitalizio o quant'altro. Insomma, una barra psicologico-demagogica, chiamiamola così per molti, che però è diventata anche un punto d'onore sempre nella sfida indiretta e conclamata tra PD e Movimento 5 Stelle. E c'è tanto, c'è tantissimo. Perché? Perché ovviamente questa direzione sarà anche il primo appuntamento del Partito Democratico con il dopo referendum. È la prima volta che il pilota di Formula 1 Renzi, dopo aver tanto corso e dopo l'incidente grave del 4 di dicembre, torna in pista. Bisognerà vedere con quali idee, con quale forza e con quali avversari soprattutto. Come la minoranza interna, le minoranze interne si mostreranno. È tutto questo quello che sta succedendo. Avremo molti ospiti lungo questo pomeriggio, cercheremo di darvi tutti gli strumenti per decodificare e cogliere a pieno il senso e la sostanza di questa direzione PD che si apre ovviamente con la relazione di Renzi. Come avete già visto dal telegiornale e da Cronache, lì davanti all'ingresso, accanto a Via Margutta, praticamente tra Via Margutta e Piazza di Spagna, in quelli che sono angoli ben noti della vecchia Roma, c'è il nostro Paolo Celata che come un suiveur all'ultimo chilometro di una tappa del Giro d'Italia è lì che vede susseguirsi gli arrivi. Diciamo che è un gran premio della montagna soprattutto. Paolo, ci sono novità rispetto alle ultime cose che ci hai fatto vedere e sentire e qual è innanzitutto il tuo feeling? Che in realtà la minoranza si presenta a ranghi compatti, quindi ci sarà battaglia interna, anche se sappiamo che nella direzione nazionale i numeri sono ovvi, scontati. Sì, i numeri sono quelli, però come abbiamo anche documentato con le interviste, ma come si capisce da quello che hai raccontato direttore, a proposito delle presenze importanti, pesanti di Bersani e D'Alema, si presentano qui, la minoranza si presenta qui per dare battaglia come può. Tra l'altro, guardavo perché sta arrivando Gotor, se riusciamo a fermare, il senatore Miguel Gotor della minoranza, se riusciamo a fermarlo sta rilasciando un'intervista un po' più avanti. Sono arrivati anche il ministro Franceschini, abbiamo visto la Scani, Giacchetti, il consigliere economico Nannicini. La novità rispetto a quello che abbiamo detto prima, vi dicevamo di un intervento in direzione del Premier Gentiloni, ecco su questo ci hanno detto che in realtà è incerto. Importante Gentiloni anche per capire rispetto, dicevamo, alle voci di un'eventuale manovra in Parlamento per indebolirlo verso un'eventuale sfiducia anche interna al PD. Ecco, l'intervento di Gentiloni è tornato in dubbio, mentre prima questa mattina veniva dato per certo. Così come è presente il ministro dell'economia Padoan, ma per quello che sappiamo lui invece Padoan sicuramente non dovrebbe intervenire. Io continuo con un occhio a guardare da una parte perché sta arrivando, dicevo, Miguel Gotor e cercherei di fermarlo, se ci riusciamo. Beh, insomma... Almeno appunto per avere conferma sul fatto che la minoranza vuole dare battaglia, sappiamo, molto vicino a Bersani. Certo, certo. No, insomma, per quello che riusciamo a fare. Non fisicamente in questo momento sarebbe più interessante perché vorrebbe dire che c'è anche Bersani. Però ricordiamo che la presenza o meno di Gentiloni è significativa, è il Presidente del Consiglio di questo Paese. Quella di Padoan ha lo stesso modo e anche un pochino di più perché Padoan non è un dirigente del Partito Democratico, è a ogni evidenza un esterno. E però è anche una presenza un po', come si potrebbe dire, barcollante dal punto di vista dell'opportunità, in quanto oggi è una giornata in cui ancora c'è sofferenza per quanto riguarda l'Italia sui mercati e la presenza comunque di Padoan in una assise di partito forse non è precisamente un tocca sana o comunque una presenza del tutto propria. Poi ovviamente non c'è nulla di illegale in tutto questo, sia ben chiaro. Ma non sorprenderebbe che all'ultimo momento poi forse Padoan non ci fosse, a meno che non lo si sia già visto, ma non mi pare proprio. Alessandra Sardone, tu... No, ancora non si è visto Padoan, la sua presenza era confermata, vedo che Padoan... Però vedo boccia invece, un altro esponente, un altro esponente, tra l'altro accreditato anche dal punto di vista economico, diciamo, non sente, dice lui, fa un chiaro gesto, però aveva indicato l'orecchio sbagliato, quindi non poteva sentire. No, no, adesso sento. Ora sento, ora sento. Allora che fate, date battaglia? E' la politica mentana, che le conosce bene. Non era una parolaccia, date battaglia. Oggi, sì, 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 no, no, certo, noi siamo pronti, abbiamo raccolto le firme per un referendum interno, se dovessero servire le utilizzeremo nei prossimi giorni. Spero di no, spero di sentire una relazione conciliante del segretario, una relazione che inevitabilmente deve avere come obiettivo finale quello di riunire il partito e si può riunire solo con un congresso vero. Né congressi lampo, né congressi scorciatoie, né primarie di coalizione, se non sai quale coalizione vuoi. Congresso vero, quello che ha consentito a Renzi di trovare un partito contendibile e di scalarlo dal sindaco di Firenze. Quindi Boccialè condivide questa proposta del segretario di garanzia, che poi è quello che ha fatto Epifani l'altra volta. Sì, questa può essere una soluzione che garantisce tutti, si può anche trovare un'altra soluzione intermedia, c'è un comitato per il congresso che rappresenti i possibili contendenti, ci saranno più mozioni. L'importante è creare un campo in cui tutti si sentono tranquilli, con tempi certi e trasparente soprattutto, perché quando si apre un congresso si apre una fase non semplice. Chi ha un'idea diversa da quella del segretario, che immagino si ricandiderà ad un certo punto, deve avere il tempo di andare nelle 100 province italiane a presentare una mozione alternativa. E se sono 3-4 i candidati, questo tempo bisogna darlo a tutti. Lei sa che il vice segretario Guerini, a proposito del segretario di garanzia, lo ha interpretato come un rinvio del segretario di garanzia, poi lo spieghiamo, insomma, che cos'è. Se Renzi si dimette, a quel punto si crea un nuoto all'interno del partito e l'altra volta, nell'altra occasione, è stato nominato Guglielmo Epifani per, diciamo, traghettare verso la nuova elezione del nuovo segretario. Questa è stata la proposta che è venuta ieri dalla minoranza PD e Guerini ha detto che è un modo per perdere tempo, questa in sostanza. A Guerini io ricordo che tutte le volte in cui hanno corso, hanno corso e tanto alla Forrest Gump, poi ci siamo schiantati. Qui non si può più scherzare. Siamo di fronte allo snodo, non solo della legislatura, ma di questo ciclo politico. Abbiamo alle spalle 20 anni di centrosinistra, 10 di Ulivo e 10 di PD. Io non voglio passare alla storia come facente parte di un gruppo dirigente che ha liquidato 20 anni di storia, che tra l'altro erano nati con grandi sacrifici di chi ci ha preceduto. Quindi facciamo un congresso. Ricordo semplicemente a Guerini e agli altri che quando si è dimesso Veltroni le elezioni di Bersani ci sono state otto mesi dopo. E dalle dimissioni di Bersani all'elezione di Renzi sono passati otto mesi. Ora, non dico otto mesi, ma almeno sei mesi per fare un congresso ci vogliono. Poi non staremo senza fare nulla, perché bisognerà dare in Parlamento una mano seria a Gentiloni che dovrà arrivare a fine legislatura e bisognerà fare una legge elettorale condivisa con tutti, perché non voglio ritrovarmi alla condizione in cui mi sono ritrovato Cioè sembra che lei sia per le elezioni ritardate sulle riforme? Perché si è antecipata. No, no, io so solo, Mentana, che la legislatura è finita. A dicembre Mattarella deve sciogliere le camere. Non lo dico io, non lo dicono altri, lo dice la legge dello Stato. E quindi siamo a febbraio, mancano dieci mesi alla fine della legislatura e in questi dieci mesi consentiamo a Gentiloni di fare alcune cose importanti per il Paese dagli interventi sul terremoto a quelli sulla crescita a quelli sulle povertà facciamo una legge elettorale. Lì sì, perdiamo tempo, ma seriamente, con il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega, Sinistra Italiana e tutti i gruppi di opposizione e diamo agli italiani una legge elettorale che duri cent'anni, come in tutti i Paesi civili e non che debba essere poi ricambiata dalla prossima maggioranza nella prossima legislatura. Non penso che questo programma possa avere, diciamo, trappole. E se in questo periodo noi ci facciamo anche un congresso, diciamo, dentro casa non rompendo le scatole agli italiani che non si occupano di PD magari facciamo anche il nostro dovere. Poi dopo vi appassionerete quando faremo le primarie aperte alla fine del congresso ma evitiamo anche di discutere sui giornali delle questioni nostre interne che oggettivamente devono restare anche questioni di una parte politica. Grazie Boccia e grazie Celata. Dobbiamo andare in pubblicità. Sì, è passato Del Rio, quindi ci siamo attenzione. È passato Del Rio. E quindi ci siamo quasi con la partenza della direzione. Perché Del Rio è come l'ultima moto appunto della Caruana di Giro. Beh, sì. Allora, andiamo subito in pubblicità così poi non ne avremo perché seguiremo tutta la fase iniziale e la relazione di Renzi. Tra poco. Allora, eccoci qua. In questo momento mancano 20 secondi alle 3. L'orario presumibile in cui in ritardo doveva iniziare la direzione del Partito Democratico che per la verità era stata convocata per le 2 e mezzo ma vige uno just consuetudinario all'interno del Partito Democratico per cui tutti pensavano che sarebbe iniziata alle 3. cosa che tecnicamente è possibile anche se sono le 3 proprio esattamente in questo momento. Tra pochi secondi ci ricolleghiamo. Vedo già in postazione con il nostro Paolo Celata. Miguel Gotor che di suo è un apprezzato storico e saggista ma che dopo essere stato lo speechwriter e consigliere politico di Bersani per tutto il periodo della guida da parte dello stesso Bersani del Partito Democratico è diventato uno dei più agguerriti senatori della cosiddetta minoranza DEM, degli oppositori a Renzi e uno di quelli che sanno qual è la strategia, se c'è una strategia, se c'è un metodo nella strategia bersagnana e delle minoranze DEM per questa direzione, per quello che succederà. Prima però di collegarci ancora con il centro congressi nel pieno centro di Roma in cui si svolge la direzione del PD, Alessandra, vediamo di intenderci e di capirci. Secondo te davvero questo sarà il giorno e il momento del rederazione? Cosa sicuramente capiremo oggi? Ma intanto capiremo Renzi, che cosa farà Renzi? Tutto sommato questo era l'appuntamento che finora non c'è stato, è l'appuntamento mancato, perché anche l'Assemblea nazionale che c'è stata dopo la sconfitta tutto sommato aveva chiarito poco. Questa volta ci sono sul piatto le dimissioni e le dimissioni significa che siano dimissioni tecniche o che siano dimissioni politiche, significa che si apre il confronto. Ora capiremo delle cose perché vista la presenza di tutti i big, intanto dovrebbero parlare, quindi sarà anche una delle prime volte in cui li sentiamo tutti quanti parlare, prendere la parola e scontrarsi. Io penso che sia la prima volta, correggimi se sbaglio, tu che sei una biografa storica del PD, la prima volta che in una stessa assise potremmo sentire nell'arco dello stesso pomeriggio Renzi, Bersani e D'Alema. Penso proprio di sì, almeno spero di non sbagliare con la mia memoria, però non ce lo ricordiamo perlomeno tanto tempo, tanto che né io né te ci viene in mente una situazione del genere. No, ma il vigente Renzi non è mai successo. E quindi questo intanto è un primo fatto significativo e che rende anche molto interessante l'appuntamento di oggi, visto che abbiamo raccontato... Per i amanti del genere, perché ci sarà qualcuno che dice a me non mi importa né l'uno né dell'altro. Però essendo il partito di maggioranza comunque poi riguarda tutti, poi questo non ci scherziamo, però anche gli odiatori è una cosa molto importante e soprattutto perché è importante l'altro sottotesto. Tu alludevi alla presenza e ti riferivi, evocavi la presenza di Padoan, che è l'altra curiosità della giornata di oggi. È curiosità perché non è scontato, non è un membro del Partito Democratico, al massimo ha fatto parte di italiani e europei, della corrente d'Alemiana, ma non di altro. E il sottotesto è quello del rapporto con il governo Gentiloni e con la politica economica che il governo Gentiloni andrà a fare. Proprio in queste ore, oggi c'è stata tra l'altro le previsioni della Commissione europea e Padoan arriva a questo appuntamento con la fiducia del commissario europeo Moscovici, quindi insomma è una cosa importante. Certamente il tema del rapporto con Gentiloni è il tema anche di questa direzione. Allora, con Miguel Gotor, storico Bersaniano, storico virgola Bersaniano, una bella virgola ci metta però, mi raccomando, non ci allarghiamo. Potrei peggiorare la situazione perché studioso di quello che è stata una delle pagine cruciali della Prima Repubblica, il rapimento Moro, e adesso è storico, vivente, day by day, di quello che sta succedendo nel Partito Democratico che vede dalla prospettiva della minoranza Bersaniana. La mettiamo così? Che è brillantissima. Un protagonista della cronaca, diciamo. Gotor, mi scusi. Gotor, 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 un po' a proposito, così personifichiamo e semplifichiamo. Chi è il leader che voi volete presentare? Chi è il leader della parte sinistra? Perché i nomi sono diversi. Speranza, si propone Emiliano, Rossi, abbiamo l'ha salutato adesso, è passato il governatore della Toscana. Chi è? Io al Congresso sosterrò Roberto Speranza. Mi sembra la persona più adatta a fare il segretario del Partito Democratico. Lo conosco da ormai cinque anni. Insieme abbiamo fatto politica, abbiamo vissuto delle esperienze anche difficili e io ho visto una persona di grande limpidità. Ci sarebbero state tante occasioni in cui Roberto Speranza, ecco, poteva cambiare anche lui, accodarsi e diventare l'ennesimo che saliva su un carro all'ora dei vincitori di Renzi. Non l'ha mai voluto fare, è stato sempre coerente. Si è dimesso da capogruppo, si è dimesso da capogruppo del Partito Democratico e ha ritenuto e ritiene di poter costruire un'alternativa a Renzi. È quello che siamo impegnati a fare. Lei fa il nome, quindi ha la forza per rappresentare tutta l'area? Beh, noi siamo impegnati perché questo sia e perché questo avvenga. Ci sono naturalmente anche altri... Attiverete del dialogo, dei rapporti, parlare con le altre parti del tante anime perché poi presentarsi separati fa il gioco degli altri, no? Ma questo dipenderà dalle regole congressuali. Noi non sappiamo ancora se le primarie, ad esempio, quelle che concludono il processo congressuale interno al partito saranno primarie a un turno o primarie a due turni, ad esempio. Quindi le regole dovranno essere stabilite. Noi stiamo lavorando e ci sentiamo tutti i giorni in grande coordinamento sia con Enrico Rossi e sia con Emiliano. È possibile oggi che presenteremo un documento comunitario? E con Orlando anche, ma guardate, nella consapevolezza che ci sono stati percorsi diversi e in momenti cruciali della storia italiana recente ci sono state posizioni diverse. Io penso alla questione del referendum del 4 dicembre. Io credo che sia importante che ci sia anche una riflessione critica su ciò che è stata la stagione del renzismo e quella che vuole continuare ancora ad essere. Io vi ricordo sempre, ricordo a chi ci ascolta, che Renzi è un uomo politico che 3-4 mesi fa dichiarava, guardando una telecamera, che avrebbe lasciato la politica. Siccome io penso che c'è per gli politici un grande problema di credibilità che significa guardare negli occhi le persone, dire delle cose e poi farle. Ecco, faccio notare che invece oggi stiamo discutendo delle dimissioni di Renzi e di una sua nuova candidatura al segretario. Io ad esempio vedo una contraddizione forte. Beh, vorrei farlo notare agli italiani, ecco, soprattutto in questo momento, parlando con lei. A chi ci ascolta. Mi interessa di più, non so come dirle. Sì, ma così è un punzecchiamento, diciamo. Invece una scelta politica è alzare la mano in direzione e dire scusa, hai detto che ti dimettevi dalla politica, vattene. Cioè, in realtà non l'ho mai sentito dire da nessun avversario di Renzi. Io non faccio il tifo né per la lepre né per il cacciatore, ma invece di dirlo a noi o dovrebbe dire a noi? No, no, assolutamente. No, guardi, noi abbiamo, noi come Partito Democratico, un problema enorme che è quello di guardarci la punta delle scarpe. Cioè, io credo, sono una settimana che si sta discutendo sulla durata del congresso del PD. Credo che non interessi a meno dell'1% degli italiani quanto dura il congresso del PD, se due mesi, tre mesi o quattro mesi. Qual è invece il problema, ed è questo sul quale dobbiamo riflettere, è se il PD e il suo segretario Renzi, che non so ancora se si presenterà dimissionario o no, sostiene o non sostiene il governo a guida Gentiloni. Il dibattito sulla durata del partito in realtà nasconde questa questione. Noi siamo nel PD e riteniamo che sarebbe scellerato far cadere per una terza volta prima stai sereno Enrico, poi stai sereno Matteo e ora stai sereno Gentiloni far cadere per tre volte un governo a guida PD. Credo che gli italiani proprio non riuscirebbero a capirlo. Siamo impegnati su questo. Io mi aspetto oggi da Renzi, mi aspetto da Renzi delle parole chiare proprio su questo punto. In questo modo, come dire, si comporterebbe in modo responsabile. Poi tutto il resto viene da sé. In tutto il resto c'è anche uno che si alza col ditino e fa notare l'incoerenza di qui sopra. Gotor, mi sembra di capire, io prima parlavo di dialogo con le altre anime della sinistra, che con quella che avrebbe interesse a parlare con Pisapia, lei non è interessato. Ma no, perché? Scusate. Pisapia dice io con il PD di Renzi ci sto. È una situazione... ma io sono nel PD... la differenza che c'è tra noi e Pisapia... No, lei dice che Renzi se ne deve andare. Si sta nel PD ma... Ma come se ne deve andare? Io sto dicendo che Renzi adesso se si dimissiona non è più segretario del Partito Democratico. La differenza che c'è tra noi e Pisapia, con tutto il rispetto, è che noi facciamo parte del Partito Democratico. E invece Pisapia non fa parte del Partito Democratico e non vuole farne. Qual è il punto? Io guardo con grande attenzione, grande rispetto e anche grande interesse all'iniziativa politica di Pisapia, proprio perché è una situazione in movimento. Io sono sicuro che il congresso che faremo non potrà essere un congresso soltanto legato alle figurine, al concorso di bellezza, a scegliere il candidato migliore. Poi non sappiamo più a che cosa, nel senso che poi diciamo per la premiership, ma in realtà il quadro della legge elettorale è cambiato e quindi così non sarà in maniera inevitabile. Deve essere un congresso che riflette sul progetto politico e sull'identità del Partito Democratico. Si sbrighi che sta iniziando. E la riflessione di Pisapia, quindi mi interessa moltissimo. Vado, grazie, buon lavoro. Vada, anche se... Va bene, andiamo a vedere dentro. Andiamo subito dentro. C'è, come sentite, l'inno di Mameli. Vediamo alla presidenza... Guerini, a Seracchiani, il presidente del Consiglio. Geltiloni e Renzi. All'altra parte vedete Orsini, la Zampa e forse il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, vicepresidente del Partito. All'altra parte vedete Orsini, la Zampa e forse il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, vicepresidente del Partito. All'altra parte vedete Orsini, la Zampa e forse il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. All'altra parte vedete Orsini, la Zampa e forse il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. All'altra parte vedete Orsini, la Zampa e forse il sindaco di Pesaro. Vi assicuro che la presidenza era ignara delle modalità con cui è iniziata questa direzione. Non mi riferisco all'inno nazionale. Ovviamente nelle prossime ore cercheremo di capire chi è il colpevole. Lo consegneremo al ministro Minniti per che agisca di conseguenza. Questa è una direzione evidentemente importante. Noi abbiamo già moltissimi iscritti a parlare. Io ruberò pochissimo tempo solo come d'uso per stabilire le modalità di lavoro. Siccome questa direzione terminerà a un certo punto, vediamo al termine della redazione quanti altre persone si iscriveranno a parlare con un voto. e come sempre noi cercheremo di fare in modo che tutti possano partecipare al voto e quindi di non allungare eccessivamente i tempi della direzione. Voi sapete abbiamo in questa occasione particolare anche allargato a molti invitati questa direzione. Abbiamo invitato i parlamentari, i segretari regionali e provinciali. Ovviamente nel tenere conto delle esigenze di questa direzione io attribuirò un diritto di precedenza ai membri della direzione negli interventi, per ovvie ragioni, soprattutto formali ma anche sostanziali. Se questa direzione come sarà si terminerà con un voto è del tutto evidente che dobbiamo cercare di garantire ai membri della direzione che hanno diritto al voto di poter esprimere, almeno nel modo più largo possibile, il loro punto di vista prima che appunto si produca quella. Ecco vi voglio dire che il riferimento che faceva Orfini alle modalità strane tra le relazioni e i primi due interventi con cui si è iniziata la direzione faceva riferimento al fatto che prima dell'inno di Mameli è stata diffusa un'altra melodia ben diversa cioè Occidentalis Karma, la canzone di Gabbani che ha vinto il Festival di Sanremo. Ora Renzi. Volevi fare la scimmia nuda e non ti è riuscito? Ma credo che sia anche io molto molto importante che si possa parlare con molta franchezza e con molta chiarezza in questa direzione perché io penso che dal giorno dopo il referendum la politica italiana ha messo le lancette indietro è tornata a riti e metodi che negli ultimi anni avevamo dimenticato il PD ha riniziato con discussioni interne molto dure autoreferenziali spesso sono tornati i caminetti e la domanda principale ha smesso di essere dove va l'Italia è diventata quanto dura la legislatura non più cosa proponiamo al Paese ma quando si fa il congresso e credo che ne siamo tutti responsabili la discussione interna è incardinata sulle polemiche e sulle accuse reciproche la politica sembra essere incentrata più sui litigi e sulle accuse che non sulle proposte e questo devo dire che vale non soltanto in casa nostra ma soprattutto in casa nostra perché se dovessimo per un attimo alzare lo sguardo vedremmo Sel scindersi Salvini e Berlusconi litigare i 5 stelle dilaniati al proprio interno in una misura in una modalità e direi con una ferocia che non era immaginabile fino a poche settimane fa ma noi pensiamo che tutto questo dibattito esterno sia inutile se prima non ci chiariamo al nostro interno lo avevamo detto che una delle reazioni al referendum poteva essere questo non c'è niente di sorprendente lo avevamo detto perché era nella logica dopo uno sforzo di riforme bocciato dagli elettori e quindi di cui come è noto mi sono assunto la responsabilità in primis senza dare responsabilità ad altri colpa mia me la son presa tutta ma dopo che si verifica una rottura di questo genere è naturale che ci sia una reazione una controreazione solo che se vai su Google e digiti resa dei conti del PD emerge un dato sconvolgente anche basta amici e compagni diamoci una regolata tutti insieme perché non è immaginabile che ancora una volta a fronte di una grande speranza che abbiamo suscitato negli italiani tutto venga rimesso in discussione in questo modo certo adesso partirà qualcuno e dirà ma come parli del referendum e non affronti il tema di come tu hai fatto l'analisi del voto io credo che l'abbiamo fatto analisi del voto autocritiche e interviste con il capo cosparso di cenere ancora oggi sento dire qualcuno è ma ancora lui non ha fatto i conti con la sconfitta non penserà mica di cavarsela con un'intervista svelo un segreto io mi sono dimesso non sono più a Palazzo Chigi anche io sappiamo soltanto Paolo e Dio perché nel momento in cui uno perde una sfida è giusto che paghi il pegno di quello che ha perso tuttavia se l'errore principale della campagna referendaria è stata la personalizzazione io non credo che sia quello ma sicuramente è stato uno degli errori vorrei umilmente proporre di depersonalizzare almeno il post referendum se possiamo evitare la personalizzazione anche del dopo perché il problema del referendum non riguarda la mia persona adesso riguarda una incredibile situazione della politica italiana che è totalmente bloccata da due mesi a questa parte e noi dobbiamo farcene carico ma prendendo atto della realtà e chiamando le cose con il loro nome lasciate stare gli aspetti personali la caduta di un uomo è il momento più bello per chi sa vivere la difficoltà ti giudicano e ti giudicheranno dal modo con il quale indossi le tue cicatrici ma credo che al netto dello stress test del carattere che uno può considerare a livello personale ci sia un dato di fatto improvvisamente è scomparso il futuro dalla narrazione politica italiana e questo è un dato di fatto non è un problema del CNEL non è un problema del ballottaggio non è un problema del Senato del titolo quinto delle regioni è improvvisamente scomparso ogni tipo di riferimento al futuro l'Italia sembra rannicchiata nella quotidianità e allora vi invito fermiamoci un attimo guardiamo fuori che cosa sta succedendo fuori dal nostro orizzonte dopo questi due mesi fermiamoci un attimo e guardiamo che cosa sta avvenendo al di là dei nostri confini a Davos Xi Jinping apre la sessione del World Economic Forum con un grande invito a scommettere sul libero mercato è fantastica nello stesso momento qualche ora più tardi Donald Trump giura come presidente con un discorso tutto impostato sul protezionismo tutto incentrato su un modello culturale prima ancora che economico che ha funzionato talmente bene da fargli vincere contro tutti i pronostici la sfida per la Casa Bianca ma che è una profonda novità una rivoluzione negli ultimi anni di politica americana il Muslim Ban non è importante semplicemente come atto concreto eppure ha delle conseguenze per alcuni aspetti persino drammatiche non è il muro la novità in America il muro c'era già i respingimenti c'erano già negli Stati Uniti non ci prendiamo in giro certo cambia la forma la modalità il tono ma quello che cambia con quell'intervento del Presidente Trump nelle prime ore con quell'ordine esecutivo dalla Casa Bianca è che propone un'America diversa un volto dell'America in cui la società è aperta viene messa in soffitta un volto dell'America in cui ci lasciamo chiudere nelle nostre paure anziché scommettere sulla curiosità dove la vita degli altri diventa potenzialmente un pericolo per me e non un elemento di curiosità e di fascino il problema è che finisce l'American Dream e nasce un modello culturale in cui l'altro diventa il volto della tua paura che sia il messicano per l'americano l'europeo per l'inglese il meridionale per il padano l'immigrato per l'europeo in ogni caso è un processo culturale enorme con una ricaduta pazzesca che non possiamo far finta di non vedere il muro diventa il bisogno fisico di proteggerti e diventa in realtà lo strumento per incatenarti nel tempo della paura accade che qualcuno che soffia sulla paura finisce per accettare magari la protezione del tizio che non è attentissimo ai diritti umani e quindi lo scambio diventa in nome della risoluzione della mia angoscia della mia ansia io sono disponibile anche a mollare qualcosa rispetto ai miei valori fondamentali ecco perché è fondamentale che la scommessa sulla parola sicurezza di sinistra il governo il ministro dell'interno stanno cercando di fare abbia una grande eco nella discussione politica del nostro paese quelli che si esaltano per il made in di trump che nel momento del giuramento sottolinea come bisogna comprare americano e vendere americano e che da casa nostra fanno la ola quando trump dice queste cose dimenticano che se fosse portato agli estremi questo ragionamento metterebbe in ginocchio la politica italiana l'export italiano metterebbe in ginocchio quelle realtà che investono sull'estero e si dice che la globalizzazione penalizzi i poveri non è così la globalizzazione è la più straordinaria arma per combattere la povertà il problema è che la globalizzazione sta mettendo in crisi il ceto medio l'economista Milanovic con il suo modello dell'elefante ha fatto riflettere molti di noi in questa fase esiste una parte del mondo che sta recuperando in modo straordinario possibilità di ricchezza che sta uscendo dalla fase della povertà ma contemporaneamente noi siamo nel punto più basso della curva noi siamo il problema principale perché noi siamo quelli che hanno il ceto medio che sta soffrendo in misura più forte di tutti le conseguenze della crisi non è da oggi una discussione su globalizzazione ceto medio e cittadino insomma chi di noi ha letto Bauman non nei giorni successivi alla sua scomparsa ma qualche anno fa ricorda per esempio che la solitudine del cittadino globale mi pare che fosse il 2003 o 2004 già indicasse con grande forza la ricaduta culturale di ragionamenti di questo genere ma il punto vero è che mentre la curva finale la proboscide dell'elefante della curva di Milanovic è la percentuale di quelli che stanno sempre meglio e che vivono delle condizioni economiche ingiustificabili e delle diseguaglianze inaccettabili contemporaneamente non è vero che la globalizzazione mette in difficoltà i poveri però è che la globalizzazione mette in difficoltà il ceto medio mette in difficoltà quella parte di popolazione europea che oggi più di altri soffre Obama ottiene dei risultati straordinari se noi guardiamo gli archivi di Obama così sono definiti anche nella rappresentazione grafica e nella rappresentazione comunicativa che egli ha scelto vediamo delle performance che sono difficilmente guagliabili neanche il Clinton del 92 2000 produce risultati positivi come quelli del Presidente Obama nei suoi otto anni ma alla fine il declino del ceto medio la fine dell'età dell'oro per il ceto medio produce una sconfitta che è impressionante in questo scenario si parla di un'Europa a due velocità e credo che sia apprezzabile la sottolineatura positiva che in tanti hanno fatto io mi accontenterei di un'Europa che iniziasse a avere una velocità visto che la considero ferma la considero in folle per utilizzare un'espressione automobilistica mi basterebbe dire pur si muove ma l'Europa quest'anno ha un passaggio fantastico che non è soltanto il passaggio elettorale in diversi paesi è il passaggio della discussione sul fiscal compact nel 2012 i governi decidono di andare sul fiscal compact decidono in alcuni casi e qui vi sono anche i responsabili di quella scelta di portare in Parlamento e di modificare l'articolo 81 della Costituzione decidono cioè di costituzionalizzare quei principi espressi nel fiscal compact ma si scrive chiaramente che dopo 5 anni almeno nei trattati avremmo dovuto ridiscutermi avremmo dovuto verificare se quella strategia economica funziona o no io penso di no ma questa è un'altra valutazione non è importante ciò che penso io sono 5 anni passati con delle performance ben diverse tra l'Europa e gli Stati Uniti anche nei paesi europei che sono andati bene io non voglio violare le regole europee tornerò dopo su questo ringraziando anche il ministro Paduan per la presenza io voglio discutere le regole europee se è possibile io voglio cambiare le regole europee non è facile non è semplice ma è un dovere morale per chi in questi anni ha fatto una battaglia contro la politica dell'austerity e contro la cultura tecnocratica del pareggio di bilancio guardo la campagna elettorale di Martin Schulz che si concluderà il 24 settembre in Germania con grande attenzione con grande attenzione perché credo che sia un cambiamento l'avvicendamento tra Sigmar Gabriel e Martin Schulz alla guida dei socialdemocratici tedeschi penso che sia una partita molto difficile ma credo che per la prima volta si sentano parole di chiarezza contro la cultura dell'austerity e contro l'atteggiamento che anche la Germania ha avuto in questi anni e proprio con Martin Schulz nei mesi scorsi abbiamo discusso a lungo di come porre formalmente il tema del fiscal compact verso l'appuntamento di Roma che vedrà il governo Gentiloni e tutti i partiti che lo sostengono protagonisti nella logica di superare quel modello e verso gli appuntamenti che nel 2017 vedranno votare non soltanto la Germania ma anche altri paesi per esempio l'Olanda o la Francia la Francia vede il rischio di una vittoria di Marine Le Pen avete visto il video di Marine Le Pen di presentazione avete visto il modo con il quale Marine Le Pen parla è straordinario dal punto di vista comunicativo io lo giudico straordinario lei che si presenta come donna di legge come madre come persona che assume su di sé dei valori fondanti l'identità francese e l'identità europea ma lo fa in una dimensione ben diversa da quella che aveva caratterizzato la sua campagna nel 2012 e a maggior ragione di quella che aveva caratterizzato le campagne del padre guai a sottovalutare ciò che potrà accadere il 23 aprile e poi il 7 maggio in Francia dove il partito socialista francese che sceglie una strada di sinistra estrema sembra destinato all'irrilevanza e dove paradossalmente le chance maggiori di poter fermare l'avanzata della Le Pen sono da oggi nelle mani di Emmanuel Macron se a questo aggiungiamo ma non voglio farla troppo lunga le parole che ad esempio Giuliano Ferrara ha dedicato a una delle ultime dichiarazioni della Le Pen perché io ho fatto l'elogio della sua campagna comunicativa e allo stesso modo voglio dire con forza che marco una distanza siderale dall'ultima che non definisco nemmeno provocazione dall'ultima sua presa di posizione rispetto al doppio passaporto ai cittadini ebrei francesi ci troviamo di fronte a un fenomeno di cambiamento che è importante impegnativo ben più grosso della estensione dei collegi dell'Italicum o delle modalità con le quali andremo a votare al primo o al secondo turno nella fase interna nella fase esterna il nuovo segretario aggiungo lo lascio lì sullo sfondo il cui è alla fine del suo percorso il quantity vising è alla fine del suo percorso lo è logicamente dopo tanti anni ma lo è anche culturalmente perché a un certo punto diciamo la verità se il cui ci ha aiutato a tenere sotto controllo la spesa per interessi è anche altrettanto vero che il cui segna per il risparmiatore un tendenziale problema perché abbassa il livello di rendimento dei singoli risparmiatori e quindi per un paese come l'Italia dove il risparmio privato è un elemento fondamentale e cruciale è paradossalmente un bene per lo Stato ma non necessariamente un bene per il cittadino davanti alla complessità di queste sfide il partito democratico è il più grande partito della sinistra europea e che cosa fa? discute di una scissione sulla base delle seguenti parole se il segretario non farà il congresso prima delle elezioni sarà scissione io ho un'idea alta del congresso e un'idea ancora più alta della scissione per me la scissione è un momento traumatico un momento drammatico che mette in in subbuglio i sentimenti un groviglio di cuori che si dipana con tensioni scontri litigi discutiamo su due linee politiche alla fine ci dividiamo non ho mai immaginato che si potesse arrivare a una scissione sul calendario o fare il congresso prima delle elezioni o me ne vado e mi verrebbe voglia di considerare questo una sorta di ricatto morale per definizione sono sempre contrario a cedere ai ricatti ma ma credo che sia buon senso non applaudite che sto per arrivare alla conclusione opposta credo che sia buon senso da parte di chi ha responsabilità di conduzione di una comunità che è una comunità sempre sempre non a seconda di chi la guida è una comunità quando sei in maggioranza è una comunità quando sei in minoranza credo che sia buon senso da parte di chi ha responsabilità accettare l'invito a fare il congresso prima delle elezioni ci tornerò tra un attimo io non voglio scissioni e se le voglio le vorrei sulla base di opinioni diverse di una discussione e se scissione deve essere ma io spero di no che sia una scissione senza alibi certo non con l'alibi del calendario qualcuno pensa che il congresso del PD debba costituire la strada per costruire un'alternativa al renzismo troppo onore a mio giudizio il congresso del PD dovrebbe costruire un'alternativa al trumpismo all'epenismo al massimo al grillismo agli amici e compagni della minoranza agli amici e compagni della minoranza voglio dire mi dispiace se costituisco il vostro incubo ma voi non sarete mai il nostro avversario per noi gli avversari non sono in questa stanza sono fuori da questa stanza ed è bene ridirselo con forza e con chiarezza in particolar modo in un passaggio precongressuale ciò che costituisce la nostra identità non è essere contro qualcuno ma per qualcosa e credo che si debba riconoscere che la vera sfida di oggi sia quella di presentare una identità forte nel nostro dibattito italiano e europeo in Europa abbiamo cambiato il vocabolario ma non basta abbiamo parlato di crescita lo sa il presidente Gentiloni lo sa il ministro Paduan lo sanno tutti i membri del governo devo dire con una convinzione diffusa di tutto l'esecutivo andando a IPR quando nessuno voleva neanche scrivere in un documento la parola crescita era il giugno 2014 condizionando il voto favorevole a Jean-Claude Juncker alla realizzazione di un documento che fosse che mettesse al centro le infrastrutture e il piano di investimenti lo sanno i deputati europei a cominciare da Patrizia che sono qua noi abbiamo detto voteremo Juncker solo se ci sarà un atteggiamento diverso sugli investimenti europei è nato lì il piano Juncker che funziona potrebbe funzionare meglio dovrà funzionare meglio l'Europa amici commentatori che dall'estero o dall'interno dite ah l'Italia ha avuto flessibilità l'Europa non ci ha concesso margini di flessibilità ce li siamo presi con una battaglia politica condizionando il nostro consenso alla liberazione di alcune poste di bilancia adesso però possiamo entrare nel merito e dire che questo congresso dovrà essere su alcune tesi di fondo partendo da parole che possono sembrare strane nel dibattito europeo cultura e identità se il dibattito è tra società aperta e società chiusa e noi scegliamo la società aperta dobbiamo avere consapevolezza che nella società aperta e inclusiva la parola identità non è un valore di destra è un valore costitutivo il senso della cittadinanza perché se tu stai in una società chiusa è un film ma se tu accetti la sfida del confronto devi essere consapevole che il confronto parte da ciò che sei e la cultura è elemento qualificante accetto con voi una scommessa io penso che nei prossimi mesi con la presidenza Trump sarà abbastanza scontato che la Nato modifichi il proprio atteggiamento e se la Nato modifica il proprio atteggiamento sarà abbastanza scontato che finalmente una delle proposte italiane quella di portare le spese militari fuori dal patto di stabilità possa essere finalmente accettato bene io vorrei che in quella discussione noi portassimo un'altra battaglia italiana di questi anni e cioè che quello che varrà per le spese culturali deve essere considerato esattamente nello stesso modo delle spese militari perché noi abbiamo detto in questi anni che ogni euro investito in sicurezza aveva diritto a richiamare un euro investito in cultura abbiamo detto che l'investimento sulle nuove generazioni che Macron ha voluto in qualche modo replicare nel suo programma di governo è un investimento che cerca di creare nel cittadino nel diciottenne un senso di avvicinamento e di appartenenza all'Europa come sarebbe bello se portassimo questo tipo di battaglia ok volete tenere fuori dal patto di stabilità le spese militari sì noi vi chiediamo di tenere fuori anche le spese culturali perché pensiamo che elemento della nostra identità e del nostro essere cittadini europei sia il valore culturale quando le periferie sono piene di situazioni potenzialmente esplosive noi non possiamo limitarci a parlarne indotti convegni il giorno dopo ma dobbiamo avere il coraggio di dirsi con grande forza con grande determinazione con grande chiarezza che il piano Juncker deve arrivare anche nel cuore delle periferie non basta ciò che sta facendo il governo che è importante serio e fatto bene sugli investimenti nelle periferie sul bando che ha visto l'anci protagonista non basta questo occorre un investimento europeo per cui i fondi del piano Juncker vadano in via preferenziale proprio nel cuore delle periferie del nostro scontento secondo la base del grande ragionamento di Renzo Piano che ci propose più volte secondo la filosofia del rammendo e potrei continuare sul tema dell'Europa sociale ma perché la prendi così lontana perché ogni valutazione su ciò che stiamo facendo sulla povertà il primo miliardo e 800 milioni liberato che il governo nei prossimi mesi avrà modo di presentare con il reddito di inclusione con le iniziative che certo ancora non soddisfano del tutto l'alleanza contro la povertà ma che comunque segnano un passo in avanti il primo dopo 30 anni di discussione concreta un miliardo e 800 milioni che sono stati messe nelle stabilità 2015 e 2016 ma non basta limitarsi a un intervento tampone e occorre avere un ragionamento più ampio con gli svedesi abbiamo iniziato a discutere di social europe vedo Sandro Gozzi che ha seguito questo tema l'Europa sociale significa che noi oggi siamo un continente che ha il 7% della popolazione il 15% della ricchezza e il 49% del welfare ci rendiamo conto di che cosa vuol dire che noi produciamo meno ricchezza di come di quella che investiamo giustamente per la sicurezza sociale ma questo è un elemento che ci fa grandi ma come crei quel sistema di protezione sociale guardo Giuliano di cui tante volte abbiamo parlato insomma se vogliamo discutere di Europa parliamone parliamo dell'Europa delle cattedrali e delle start up dei laboratori e dei musei ma l'Europa non può essere soltanto la maestrina che ci chiede lo 0-2 peraltro sbagliando anche il momento perché lo 0-2 ce l'ha chiesto tutte le volte non ce lo sta chiedendo stavolta sono tre anni che tutte le volte c'è una discussione costante con i nostri amici europei ed è una trattativa come fanno tutti gli altri soltanto da noi questa trattativa assume i contorni di una sfida all'ok corra ma tutti i paesi hanno questo atteggiamento tutti i paesi hanno questa discussione tutti i paesi sono chiamati a rientrare in delle regole poi qualcuno se ne accorge un po' di più qualcuno un po' di meno qualcuno è meno attento al surplus commerciale come accade ai nostri amici tedeschi noi gliel'abbiamo ricordato più volte qualcuno è più attento al deficit ma il punto chiave di questa discussione è che non può essere lo 0-2 in un momento peraltro in cui il paese vive la difficoltà che conosciamo a cominciare dal terremoto allora noi è certo che dobbiamo trovare un punto di intesa con l'Europa è ovvio che troveremo un punto di intesa con l'Europa su questo ne parlerò tra poco ma quello che per me è cruciale che l'Europa non sia soltanto sta roba qua non sia a fronte delle sfide che stiamo vivendo insomma quando il presidente degli Stati Uniti va su quel palco lo stesso da cui Franklin Delano Roosevelt non dico Kennedy con l'ask not ma Franklin Delano Roosevelt aveva fatto un discorso bellissimo 84 anni fa l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa quando Trump va a fare un discorso totalmente diverso ma siamo noi che dobbiamo richiamare da questa parte il tema del New Deal un New Deal di investimenti un New Deal di iniziative politiche economiche culturali ambientali quando si mette al bando la battaglia di Obama sul climate change che ha visto tanti paesi a Parigi compreso il nostro stare dalla parte dei nostri figli dei nostri nipoti quando si mette in discussione la idea stessa di comunità io penso che l'Europa abbia un valore importante certo poi però ci sono ci sono da guardare i contenuti veri perché trovi che quegli stessi che fanno dichiarazioni contro i documenti di Trump sull'immigrazione sono gli stessi che quando si è trattato di dar umano all'Italia sull'immigrazione hanno girato la testa dall'altra parte hanno lasciato i siciliani e gli altri abitanti del sud Italia da soli e hanno lasciato il nostro paese sostanzialmente con tanti buoni elogi con tanti entusiasmanti commenti ma senza un aiuto solidale vero e allora bisogna avere il coraggio di dire a questa Europa che è finito il tempo della doppiezza per cui si critica Trump per l'immigrazione e però si chiude gli occhi di fronte a quello che accade nella peligione italiana io penso che su questi temi sarà interessante discutere e parlare sarà interessante discutere e parlare di fisco a livello europeo giusto fare la web tax a livello europeo giusto bisogna anche avere il coraggio di dire che non possiamo avere di 28 paesi due o tre che sono paradisi fiscali e gli altri che inseguono bisognerà avere il coraggio di dire che se si interviene sulla difesa bisognerà dotare le nostre strutture quelle italiane di possibilità di fare investimenti anche con zone economiche speciali al sud perché se tu fai un investimento di orizzonte diverso sul campo della difesa se vai a raggiungere il 2% devi avere il coraggio di dire che alcune realtà vanno agevolate accompagnate e aiutate con strumenti fiscali diversi da quelle degli altri insomma sarebbe affascinante stare a discutere ore di questi argomenti quello che deve essere chiaro di metodo è che il populista può permettersi di urlare e basta di criticare e basta ma chi populista non è non può permettersi di criticare e basta di contestare e basta ciò che intravede nello splendore dell'idea così diceva Giorgio Lapira ciò che si vede nello splendore dell'idea deve essere poi portato a terra concretizzato bisogna sporcarsi le mani bisogna saper dire qualche sì non soltanto dei no bisogna essere capaci di fare delle proposte questo vale anche per il partito democratico e vale per il partito democratico in questa fase perché a mio giudizio noi non possiamo continuare soltanto a fare una discussione tra di noi in cui ci si lamenta gli uni degli altri ma poi non si scarica a terra tutto il peso l'importanza e la bellezza delle proposte concrete è evidente che il 41% non è tutto per noi a noi è evidente spero che sia evidente anche a qualcuno degli amici del no che il 59% è soltanto in minima parte di alcuni di quelli che in queste ore hanno spiegato come funziona il mondo il punto è che il no non aveva una strategia condivisa vi ricordate le autorevoli parole di chi diceva che in sei mesi si sarebbe fatta una nuova riforma costituzionale io dico che dopo due mesi dopo oltre due mesi non è che non si è fatta la riforma costituzionale cosa che era evidente e non è che non si è incardinata quella riforma costituzionale è che non si è eletto il presidente della commissione affari costituzionali al senato dunque è evidente che noi non possiamo fare affidamento su una proposta positiva alternativa dobbiamo confrontarci dobbiamo discutere e per farlo io credo che non si debbano scegliere scorciatoi ora qualcuno mi ha preso un po' in giro dicendo Matteo la fase zen perché siamo partiti e abbiamo detto congresso siamo arrivati tutti all'assemblea del 18 lancia e resta si fa il congresso ci è stato detto dai fai uno sforzo unitario non chiedere la conta interna allora non abbiamo chiesto la conta interna abbiamo detto facciamo una grande campagna di ascolto e ci è stato detto è che fai i bus e i questionari mi ci vuole un luogo di contendibilità politica allora abbiamo detto facciamo un luogo di contendibilità politica Orfini mi ha tradotto mi ha detto voglio le primarie ho detto ok benissimo facciamo le primarie e mi è stato detto no non c'è lo statuto perché lo statuto non prevede la formazione delle primarie e allora cosa c'è nello statuto il congresso la strana impressione di ritornare al punto di partenza mi ha accompagnato solo per qualche istante perché è evidente che ero io che non capivo è evidente che ero io che stavo guardando il negativo e non comprendendo lo sforzo politico di una riflessione condivisa ma noi non possiamo più prendere in giro la nostra gente potete prendere in giro me ma non potete prendere in giro la nostra gente e allora da questo punto di vista nel pieno rispetto dello statuto procedendo con le stesse regole del passato voglio augurarmi così evitiamo perché non vorrei che poi da domani mattina il discorso fosse sulle regole facciamo le stesse dell'ultima volta non c'è problemi vanno benissimo quelle che vorranno la commissione di garanzia congressuale ma torniamo alla politica a fronte di quello che sta avvenendo fuori da qui a fronte delle speranze che il PD comunque suscita sì un po' ammaccate dopo il referendum certo ma a fronte delle possibilità che possiamo esprimere in questa fase torniamo alla politica noi vi aspettiamo lì siamo altro siamo altrove dalle polemiche quotidiane scegliamo qual è il campo di gioco e giochiamo con rispetto in modo aperto allegro trasparente vinca chi ha le idee migliori e chi si mette in gioco e non vince il giorno dopo dia una mano a chi ha vinto non scappi col pallone come è accaduto non lasci chi vince le primarie da solo non faccia ciò che è avvenuto alle ultime elezioni comunali di Roma con il candidato Giacchetti e qualcuno che telefonava agli assessori che se magari gli avessero detto di sì non sarebbe stato nemmeno male ripensandoci perché chiediamo il congresso perché io non sarò mai il custode di un caminetto io non sarò mai il garante di un patto tra correnti io per carattere scelgo sempre il mare aperto della sfida e non la palude di equilibri interni per i quali non sono adatto se volete quello prendetene un altro si chiude dunque un ciclo alla guida del partito democratico io sono segretario del PD dal 15 dicembre del 2013 giusto per fare tre o quattro punti di verifica di bilancio noi scout siamo abituati così ho preso un PD che aveva il 25% di voti e nell'unica consultazione politica nazionale lo abbiamo portato al 40,8 era un partito che in Europa non aveva casa non aveva casa e che si è iscritto al PSE per alcuni aspetti lo ha persino guidato aveva un problema di bilancio grande come una casa con 38 milioni di euro di giro di bilancio e si è chiuso il bilancio del 2013 con 10 milioni di disavanzo quindi avevamo quasi 50 milioni di fatto con il taglio al finanziamento pubblico siamo passati da un bilancio di 38 a un bilancio di 22 da un deficit di 10 milioni a un avanzo di qualche centinaia di migliaia di euro ringrazio tutti i dipendenti i dirigenti e naturalmente il tesoriere per il lavoro che è stato fatto sono andato in questi anni alla guida del governo del paese non per una scelta personale è un capolavoro di storytelling quello del ha deciso di notte perché la direzione ha deciso quello sulla base di una richiesta che proveniva dalle allora minoranze ho concorso alla scelta dei vertici delle istituzioni di questo paese e sono molto fiero che dall'alto vertice di Bruxelles fino a tante periferie ci siano più donne impegnate oggi nelle istituzioni e nella cosa pubblica di quelle che c'erano quando siamo partiti tra le letture di queste settimane io sto leggendo un sacco e mi diverto molto come potete immaginare alcuni libri mi ha suggerito Paolo per cui sono anche in linea poi tornerò su questo ma c'è uno riletto delle cose di Henry De Luca che per essere chiari vorrei che domani il fatto ha detto no al referendum gli stiamo antipatici eccetera però è un grandissimo scrittore quindi non lo sto citando per arruolarlo sto semplicemente dicendo che alcune letture che ho fatto c'è un'immagine molto bella quando lui parla di Giuseppe citando in uno dei tanti suoi testi che parla della Bibbia e dice che il nome ebraico contiene il destino Giuseppe colui che aggiunge vita ma è molto bella l'immagine del nome che contiene il destino nella cultura ebraica se ci pensate il partito democratico ha un nome che contiene il suo destino forse non siamo rimasti in tantissimi di partiti che contengono il destino della democrazia interna forse non abbiamo gli algoritmi giusti forse non siamo bravi come altri forse non abbiamo i giusti strumenti tecnologici ma noi abbiamo questa abitudine questa faticosa abitudine che si chiama democrazia interna e per la quale però è bene essere chiari l'esercizio della democrazia interna non si esaurisce con la richiesta di un congresso con il voto l'esercizio della democrazia non è a tempo non sta soltanto nel votare ma sta nel rispettare l'esito del voto chi non rispetta l'esito del voto viola la prima regola interna di condotta e io qui dico come verbo a chi si immagina che oggi si possa qui dire vattene te vattene io vattene vattene amore no diciamo questa è una canzone sempre serremese ma io non dico vattene io dico venite il verbo che vorrei usare oggi è venite confrontiamoci scambiamoci le idee venite discutiamo venite vediamo chi ha più popolo con sé venite aiutateci a capire aiutateci a cambiare aiutateci a imparare l'uno dall'altro venite rendete contendibile il ruolo della leadership in questo partito venite senza alcuna paura e dico venite anche a quelli che stanno fuori dal PD c'è il tesseramento aperto fino al 28 febbraio non portateci le vostre tessere portateci le vostre idee portateci i sogni portateci i motivi per cui credete nel PD vi aspettiamo qui in un confronto civile siamo una forza tranquilla avrebbe detto qualcuno siamo persone miti vi aspettiamo senza alcuna polemica ma vi aspettiamo nel confronto democratico non nella guerra del fango do un annuncio ai giornalisti sto per entrare nelle uniche due parti del discorso che saranno riprese domani data delle elezioni e rivincita personale chiusa per entrare è come tutta questa parte sull'Europa è tutto un esercizio di stile che la curva di Milano c'è tutte cose interessantissime però sceltiamo nella parte che domani durerà circa un minuto no non vorrei che si fossero assopiti nel corso della mia brillante riflessione politico-culturale si fa il congresso perché si vuole decidere il voto prima non si faceva il congresso perché si voleva andare a votare vorrei svelare un segreto il voto e il congresso il voto delle elezioni politiche e il congresso dentro il partito democratico sono due concetti totalmente divisi e aggiungo che io non sono più il presidente del consiglio non sono mai stato il ministro dell'interno non sono mai stato e mai sarò il presidente della repubblica non faccio parte del governo non faccio parte del parlamento il tema di quando si vota non lo decido io questa visione giuca scaselliana della politica quando lo dirò io è una visione che va cancellata rimossa voglio essere molto franco ci sono degli argomenti positivi per votare prima dopo è una discussione vera che sarà fatta da chi ha responsabilità istituzionali perché non ci possiamo prendere in giro ci sono degli aspetti positivi negli uni e negli altri vicende deciderete decideranno gli addetti ai lavori le persone che ne hanno responsabilità ma quello che deve essere chiara a tutti è la notizia che il congresso del PD non si fa per decidere il giorno in cui si va alle elezioni politiche prima o poi le elezioni politiche ci saranno a meno di dichiarare guerra a San Marino cosa che Gentiloni non mi pare intenzionato a fare è molto mite come persona ma spero che possa contenere anche gli slanci di Minniti e di Alfano Minniti siamo tranquilli Alfano come ministro degli esteri non credo che voglia dichiarare guerra a San Marino quindi di conseguenza da qui a un anno prima o poi si dovrà votare io vi dico facciamoci trovare pronti quando arriverà è come l'immagine del palio non sono io il cavallo che entra nei canapi ma quando il cavallo entra nei canapi parte la corsa secondo punto la rivincita amici giornalisti mi piacerebbe tanto avere una rivincita sul referendum ma non c'è possibilità quella era una finale secca cioè non è fai le politiche c'è l'andata e poi c'è il ritorno perdi una volta vinci quella lupo no? c'è le amministrative vinci una purtroppo e lo dico con la morte nel cuore di quello che quel referendum ha perso è una gara senza rivincita io penso che alla fine il danno lo paghiamo in termini di ragionamento istituzionale per il futuro del paese perché per anni non si potrà fare poi magari in quattro mesi faranno quello che in sei mesi non sono usciti a fare ma non lo so non voglio dire ma la riforma era una partita a sé stante le elezioni non sono la gara di rivincita rispetto al referendum quel referendum è andato è purtroppo perso me ne sono assunto tutte le responsabilità possiamo tornare a parlare di politica adesso fine della parte interessante per i giornalisti mi viene chiesto anzi no facciamo altra parte le tasse padrono anche questa vi interessa vabbè per Carlo con il quale c'è una rottura profonda negli ultimi giorni molto seria e significativa in ragione di motivi calcistici che non vorrò riportare qui alla vostra attenzione un gruppo di deputati ha posto il tema delle tasse e questo si è visto come un allertimento una mancanza di lealtà nei confronti del presidente Gentiloni ho visto autorevoli esponenti delle opposizioni dire il segretario dovrà confermare stima e lealtà al presidente Gentiloni io sono molto lieto di farlo lo faccio da qualche anno e se quella stima e quella lealtà fosse stata apprezzata anche prima non vi sarebbe stato bisogno di andare a convincerlo nel 2013 a entrare per forza in Parlamento in un certo modo perché sarebbe stato valorizzato di più e meglio da altri ma non voglio per niente aprire discussioni su quello che è accaduto negli ultimi anni a me interessa il futuro il presidente Gentiloni è il presidente che deve avere la massima stima e amicizia da parte di tutto il partito democratico e direi che nel rapporto ormai decennale credo che non sia la parola lealtà quella che manca il principio di lealtà è una cosa seria il principio di realtà lo è altrettanto la realtà sulle tasse vede che in questi tre anni noi abbiamo ridotto la pressione fiscale io penso che sia stato un fatto positivo penso che sia stato un fatto positivo perché abbiamo fatto una battaglia forte a livello europeo noi non possiamo spremere ulteriormente i cittadini ah ma possiamo aprire la web tax bene facciamo una battaglia in Europa e discutiamo di questo ah ma possiamo lottare contro l'evasione fiscale mi pare che lo stiamo facendo anche con qualche risultato abbiamo detto di rottamare Dracula come principio cioè di giocare molto più sull'incrocio dei dati sulla volontari sulle iniziative che abbiamo messo in campo in questi anni siamo passati a 19 miliardi di recupero della lotta all'evasione ma comunque siamo saliti dai 12 miliardi del periodo di Monti ai 14 dei primi due anni del nostro governo 14 e 14 e 9 la riduzione delle tasse piano piano sta riportando l'Italia ad essere in condizioni di crescita simili a quelle degli altri paesi dunque il tema di non aumentare le tasse non è un principio di qualcuno è un principio di serietà da parte nostra nei confronti dei cittadini bisognerà discutere con Bruxelles dovremo cercare di trovare gli accordi opportuni lo faremo saremo credo agevolati dalle dati del PIL che saranno superiori rispetto a quelli sul 2016 che avevamo scritto perché comunque la prudenza non è stata mai troppa e abbiamo messo dei dati che saranno corretti migliorati nei prossimi settimane nei prossimi mesi quello che però voglio dirvi è che i mille giorni che sono appena trascorsi e che appartengono al passato non devono essere ricordati soltanto per le unioni civili visto Ivan ha fatto un sms molto garbato e puntuale e devo dire che è molto giusto quasi duemila persone quasi duemila coppie da quando noi abbiamo introdotto la legge hanno deciso di dire sì di fronte a un pubblico ufficiale questo è un fatto importante e significativo di diritti ma non è l'unica cosa che resta lo dico perché sarebbe strano che l'unica cosa che resta è una cosa approvata con la fiducia grazie al consenso di Verdini non vorrei che si aprissi una discussione su questo vorrei che restassero alcuni elementi della discussione di questi mille giorni per esempio la produzione industriale tra noi e i tedeschi fatto zero il punto di partenza nel primo mese di gennaio cioè nel primo mese nel mese di gennaio del 2015 è evidente che loro sono molto più alti di noi ma partendo dallo stesso punto la produzione industriale in questi due anni ha visto noi arrivare a 106 partendo da 100 e la Germania a 99,3 sostanzialmente stabile questo è l'esito delle misure che hanno portato all'abbassamento delle tasse si dice ma ci sono stati bonus bonus piccoli mancette meno di un miliardo di euro oltre 20 miliardi nell'industria 4.0 10 miliardi nella riduzione delle tasse per il ceto medio e alla fine la conclusione di questo ragionamento è che il debito non è aumentato in modo significativo a chi scrive sui giornali pensosi commenti sul debito vorrei offrire questa chiave di lettura la striscia blu è Berlusconi Berlusconi 4 dal 2008 al 2011 il rapporto debito PIL sale di 14 punti il governo Monti dura poco più di un anno e mezzo il rapporto debito PIL sale di circa 10 punti il governo Letta 10 mesi il rapporto PIL sale di 4,8% noi abbiamo ottenuto il rapporto leggermente più alto 1,1 nel giro di tre anni non nel giro di qualche mese e contiamo di poter finalmente come si vede dalla curva iniziare a scendere nell'arco dei prossimi mesi a chi dice che abbiamo lasciato un paese con il debito impazzito vorrei ricordare che questa è la fotografia degli ultimi anni lo dico cari amici parlamentari perché ho visto una forte reazione da parte vostra sulla base di un sms che sicuramente avrei potuto risparmiarmi in ordine ai contributi pensionistici spero che ci sia la stessa grado di reazione quando si tratta di difendere non l'esperienza di un governo ma le ragioni per le quali avete allungato una legislatura che tre anni fa sembrava morta che tre anni fa sembrava finita che tre anni fa sembrava bloccata se abbiamo fatto queste cose le abbiamo fatte insieme e io vi dico sono contro la procedura di infrazione va evitata Piercarlo sono d'accordo con te va evitata con tutti gli sforzi ho detto nella unica intervista che ho fatto a un Tg che il PD deve sostenere il governo quando va in Europa ma soprattutto gli altri partiti devono sostenere il governo perché quando il governo va in Europa posso dirlo adesso che sono fuori non rappresenta il PD non rappresenta il governo rappresenta il paese e gli altri quando vanno in Europa vanno a gomiti alti mentre noi siamo sempre in prima fila a marcare le distinzioni tra di noi l'abbiamo fatta anche noi quando al governo c'erano gli altri è arrivato il momento di dire con forza che i 3,4 miliardi si recuperano non aumentando le accise ma con un disegno che permetta all'Italia nei prossimi mesi di tornare ad essere capace di continuare la curva della crescita che adesso è improvvisamente scomparsa vi risparmio tutte le riflessioni sul Jobs Act perché l'ho fatta fin troppo lungo e voglio arrivare a due questioni più politiche anche se sarebbe interessante ragionare dei voucher o per essere chiari io sono dell'idea che se evitiamo il referendum male non fa dal punto di vista politico deciderà naturalmente il governo e il Parlamento non ci vedo niente di sconvolgente anzi però bisogna essere chiari perché per due mesi si è fatto credere che il Jobs Act avesse un problema con i voucher intanto primo segreto il Jobs Act non parla dei voucher no perché bisogna bisogna dirlo con forza il Jobs Act che ha creato oltre 600.000 posti di lavoro c'è un dato del professor Fortis molto interessante sul dato collegato alle curve anagrafiche che vi risparmio ma il Jobs Act non dice una parola sui voucher su 100 lavoratori che riscuotono voucher 50 di loro percepiscono meno di 290 euro lordi all'anno 91 di loro percepiscono meno di 2000 euro lordi all'anno sono tecnicamente lavoretti ah ma forse c'è il nero bene se c'è il nero andiamo e stanghiamo il nero ovvio no il punto che noi abbiamo fatto sui voucher è renderli tracciabili che mi sembra un atto significativo e importante ma se si vuole un confronto su che cosa è stato il precariato e cosa deve essere facciamolo aperto anche partendo dalle misure quelle sulla scuola che più sono state contestate il punto è che tutto ciò che abbiamo fatto in questi mille giorni ovviamente ancora non basta non basta perché in un mondo che ha una crisi di identità tu devi andare a incontrare persone nuove a coinvolgerle a valorizzarle in un mondo nel quale il partito democratico è il punto di riferimento di tutte le proteste e le accuse è evidente che devi individuare un modello nuovo di organizzazione sul territorio a livello sociale io nei prossimi mesi voglio andare a giro senza cerimoniali senza impegni andando a scovare i talenti migliori che questo partito potrà avere per oggi e per le liste di domani voglio andare a scovare le persone che possono portarci un contributo in termini di idee che possono sfidarci che possono fare meglio di noi voglio discutere su popolo e populismi sugli ideali abbiamo discusso a lungo con Graziano su come individuare un nuovo modello di sviluppo economico in una stagione come quella che stiamo vivendo mi piacerebbe che durante la discussione congressuale chi condividerà la mozione sia quelli che allora erano favorevoli sia quelli che erano contrari si trovassero a Lingotto a Torino per dire le cose che hanno funzionato da quella visione ormai di dieci anni fa e per dire quelle che invece non hanno funzionato per dire quale modello economico e culturale possiamo recuperare e quale invece dobbiamo cancellare penso tuttavia che si debba avere il coraggio di dire che in questo percorso di costruzione del programma dal basso dovremo allargare le porte spalancare le finestre del nostro partito dovremo essere capaci di riflettere in modo diverso su alcuni valori cruciali fondamentali per esempio abbiamo fatto tutto bene nel privatizzare quello che abbiamo privatizzato abbiamo fatto bene su Telecom nel corso degli ultimi 15 anni ci pensavo in questi giorni raccontando a me stesso come la storia di queste ultime ore sia una storia che sembra nata improvvisamente sotto un cavolo abbiamo fatto bene a fare tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni su Telecom abbiamo fatto bene su ILVA in questi ultimi 15 anni mi piace poter discutere assieme a voi in modo franco trasparente in un grande tavolo di lavoro programmatico chiederò a Tommaso Nannicini di continuare il lavoro e con una particolare attenzione ad alcuni temi che possono segnare il futuro del nostro dibattito per esempio sulle banche io non vedo l'ora che parta questa commissione di inchiesta sulle banche non vedo l'ora che parta questa commissione di inchiesta sulle banche perché è sembrato per mesi che il problema fosse soltanto di due o tre banchette toscane ma quanto sarà affascinante appassionante poter discutere delle banche pugliesi dalla banca popolare di Bari alla banca 121 ma quanto sarà interessante discutere delle banche venete di Anton Veneta dell'acquisto di Anton Veneta di 121 della banca popolare di Vicenza si è fatto credere che il problema fosse di qualche banchetta territoriale si è fatto credere ci sarà questa commissione di inchiesta e potremmo discutere tutti insieme recuperando l'allegria la tranquillità la gentilezza la trasparenza la voglia di costruire un partito che parli il linguaggio del futuro e che non si fermi ai caminetti di chi per anni ha fatto i caminetti e ha iniziato a contestarli da quando i caminetti sono terminati perché abbiamo smesso di farli e per questo io voglio dire a chi si è candidato alla guida del partito si è candidato se ho seguito bene i nomi Roberto Speranza si è candidato Michele Emiliano si è candidato Enrico Rossi a tutti loro un grande abbraccio un augurio un bocca al lupo se vinceranno loro sarò in prima fila per sostenerli penso che sarà affascinante potersi confrontare chiedo un po' di rispetto non per me ma per i nostri iscritti tutte le volte che si dice tutte le volte che si dice che noi siamo il partito dei petrolieri e dei finanzieri un iscritto un volontario della festa dell'unità di Reggio Emilia o di Modena uno stranguglione tutte le volte che si dice che abbiamo fatto gli interessi dei potenti un iscritto non rinnova la tessera tutte le volte che si dice che abbiamo violato lo statuto senza individuare chi non soltanto un uomo di legge si sente male si ha letto le carte non è detto ma viene meno il sentimento di fiducia tra di noi e questo è molto triste io credo che se anche il referendum avesse segnato un risultato positivo noi avremmo dovuto cambiare linguaggio e contenuti perché una fase si era comunque chiusa ma ci saremmo entrati con più forza come partito democratico e come Italia adesso si tratta di fare i conti con noi stessi quella sconfitta è una sconfitta che ha lasciato una botta pesante chiara evidente ma certo non si può arrivare al punto di essere adesso per la governabilità della legge elettorale dopo aver teorizzato che il ballottaggio avrebbe provocato l'uomo solo al comando delle due luna mettiamoci d'accordo se vogliamo un sistema in cui si vada con il proporzionale e si vada a discutere in Parlamento questo che è un principio di democrazia rappresentativa questo è un principio opposto a quello della democrazia governante che secondo me invece avrebbe dovuto essere portato ma gli italiani hanno parlato punto e hanno ragione loro io avevo torto gli italiani ragione punto quando si vota non c'è discussione però amici e ho finito ripartiamo dai nostri valori quando a Pompei si fa notizia perché non ci sono più i muri che crollano ma perché finalmente si va oltre i tre milioni di persone io penso che noi stiamo difendendo i valori dell'Italia e del Partito Democratico quando sulla sanità si mettono nel giro di un triennio 4 miliardi di euro in più io credo che stiamo difendendo non soltanto i valori dei malati ma i valori del PD e i valori dell'Italia quando il servizio civile universale la legge contro lo spreco alimentare l'autismo il dopo di noi la cooperazione internazionale il terzo settore diventano leggi io accetto che qualcuno dei candidati dica che questo governo è stato peggio del governo Berlusconi ma dico che sono orgoglioso di aver fatto parte di una storia che ha segnato un passo in avanti nel campo dei diritti questo passo in avanti non basta oggi ci sono nuove povertà che chiamano e richiamano attenzione oggi c'è bisogno di un'inclusione diversa oggi c'è bisogno di utilizzare un verbo accudire che è il verbo per il quale probabilmente non ci siamo spesi a sufficienza ma quello che deve essere forte e deve essere chiaro è che io nei prossimi mesi mi divertirò tanto a cercare di imparare di più di imparare meglio chiedo di scomparire dal pastone del Tg è curioso che un politico che dovrebbe puntare tutto sulla visibilità faccia un appello non mi mettete amici giornalisti nelle scene retroscena anche perché quando da dire qualcosa non è che le mando a dire di solito mi piace dirle in faccia non mi piace dire ha detto ha sussurrato ha fatto liberatemi dallo spazio del pastone permettetemi di girare tranquillo per questo paese per cercare di capire che cosa abbiamo fatto bene cosa abbiamo fatto male cosa dovremmo fare meglio ma chi in questo partito vuole giocarsi la carta della contendibilità della leadership io dico porte aperte solo che il mondo fuori da qui ha Trump e la Le Pen in Italia si discute di caminetti e di polizze vita bisogna forse cambiare passo se non lo facciamo noi non credo che lo farà nessun altro io alla fine delle mie inuse scrivo un sorriso vorrei augurare a tutti voi di vivere questa fase che si apre con un sorriso c'è bisogno di tanto entusiasmo di tanta energia c'è bisogno di tanto impegno c'è bisogno di tanto coraggio ma c'è anche bisogno di uscire da una sorta di terapia di gruppo per cui noi siamo quelli che si parlano attorno mentre fuori l'Europa si rimette a correre rimettiamoci in cammino rimettiamoci in cammino insieme viva il PD ecco la stretta la stretta di mano sia pur breve di Gentiloni sentiamo soltanto un attimo grazie come va avanti come iniziano fate sentire l'audio vediamo 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 di capire come grazie al segretario allora grazie Cuperlo poi Del Rio e Bersani se c'è un'entità che governa i microfoni chiederei di tenermi questo aperto allora sentiremo sentiremo Cuperlo però al volo Antonio Polito un commento ci sono dati positivi e negativi come sempre per chi critica però c'è un Renzi che si è risvegliato diciamo uscito dal sortilegio con dei vuoti ma rilanciando le sfide sì soprattutto rilanciando la sfida ai suoi nemici interni nel senso che li ha chiamati alla battaglia alla pugna ha detto se volete la leadership fatevi avanti questo è un annuncio di primari in tempi rapidi credo perché quando si dice congresso poi la minoranza immagina un processo di sei mesi che va al prossimo autunno e così via lui invece immagina di votare ad aprile per le primarie credo che lui abbia bisogno di un voto per rilegittimarsi e per poter anche influire con più energia sullo scioglimento della legislatura e sulle nuove elezioni sentiamo solo un attimo Cooper poi voglio sentire anche Marco Damilano se possibile tutti assieme cerchiamo di mettere il nostro mondo nella condizione di discutere e di scegliere perché noi abbiamo bisogno di entrambe le cose secondo me abbiamo bisogno di discutere e abbiamo bisogno di scegliere sono un po' come i pedali di una bicicletta se ne usiamo solo uno faremo più fatica a stare in equilibrio ecco chi dice contiamoci e vediamo chi ha i voti dei due pedali temo che ne usi uno soltanto ma messa così non è stato il caso di oggi ma nei giorni scorsi qualcuno lo ha fatto messa così è una prova di muscoli di tessere e muscoli mentre io penso che noi ad una scelta consapevole dobbiamo arrivare però mi permetto di dire condivido le cose che ho appena ascoltato attenzione perché di fronte alla scena che abbiamo davanti di fronte a una destra che risuscita alcuni tra i fantasmi peggiori del novecento la via è più complicata di una scheda la via è pensare le soluzioni che ti ricollocano nel tempo il punto mi permetto di dirlo veramente con grande rispetto il punto non è perdo pago pegno il punto è abbiamo perso che cosa dobbiamo cambiare la via è pensare le soluzioni che ti ricollocano nel tempo ora se di questo si tratta riconoscere che quelle soluzioni non si trovano già tutte dietro al tavolo di questa presidenza o in mezzo a questa sala io penso che è un atto di onestà e saggezza anzi una parte dei nostri rimedi temo siano stati causa della rottura che si è consumata con la parte più numerosa di chi è fuori da qui e ha meno di trent'anni è accaduto su scuola lavoro sulla costituzione su quella legge elettorale che io ho creduto sinceramente si volesse cambiare come scritto in quel documento e con lealtà quella linea ho tradotto in un testo di legge elezioni quando con tal quando ma di più forse con tal come e io penso che quel come voglia dire avere regole che ci allontanino da un nuovo governo di larga intesa sarebbe il quinto in 7-8 anni e sarebbe un errore per il motivo che ha detto qui il segretario perché la domanda vera di fondo che abbiamo tutti davanti l'Europa l'Occidente è se la democrazia può reggere alla crisi storica della classe media Matteo hai ragione ho citato segnato la frase il congresso non si fa per decidere la data del voto questo è giusto ma il congresso si fa per decidere cosa dire agli italiani prima che vadano a votare a questo serve un congresso in questo c'è il legame tra la discussione che faremo e poi conta il come perché significa anche aiutare il governo Paolo l'impegno che sta tenendo il Parlamento a portare in porto delle leggi che sono lì per essere licenziate leggi importanti non le cito per ragioni di tempo io oggi so come voi che da soli non bastiamo come non basta sommare i pezzi di una sinistra sparsa la somma da fare con pezzi di società che non trovano in noi la risposta che cercano e la prova è invertire questo segno e secondo me forse si può lo hai citato tu hai fatto bene in un paio di settimane pare che Martin Schulz abbia colmato quasi tutto il ritardo che lo separava dalla cancelliera alcuni giorni fa gli hanno chiesto che cosa c'è di nuovo nel suo programma e lui ha dato una risposta disarmante di questi tempi in questa epoca ha detto nulla allora Marco Damilano abbiamo capito la falsariga dialogante ma di differenziazione di Cuperlo andremo dentro e fuori sul dibattito però come ti è parso Renzi aspetti positivi aspetti negativi in sintesi la frase chiave è sicuramente quando ha detto un ciclo è finito lui ha detto ed era finito comunque col referendum sì finisce il ciclo della sua segreteria lui ha detto sono diventato segretario il 15 dicembre del 2013 in realtà il ciclo è quello che oggi esattamente oggi compie tre anni cioè la direzione del 13 febbraio del 2014 in cui fu spenta la luce al governo Letta e Renzi da segretario del PD eletto qualche settimana prima diventò presidente del Consiglio in una direzione analoga quel ciclo era il ciclo in cui il leader del partito diventava presidente del Consiglio cioè non ci poteva essere un dualismo di cariche il doppio incarico già fatale ad Emita l'unico prima di lui mentre invece lui all'inizio quando ha detto il futuro scomparso dall'orizzonte quindi se il futuro è scomparso dall'orizzonte c'è un ritorno all'indietro della politica italiana e combattere nel congresso per la guida del partito in fondo un ritorno all'indietro anche per lui quindi non so se è un dato positivo o negativo cioè di positivo per Renzi dice che lui rilancia una sfida e così via di negativo a vederlo da un punto di vista sistemico è che lui farà adesso dei mesi che saranno comunque non gentilissimi nonostante i sorrisi perché qui già si è evocato la banca 121 traduciamo era la banca del Salento molto vicina a Massimo D'Alema che fu acquistata dal Monte dei Paschi di Siena De Bustis entrò nella governance di Siena ci sono stati tanti momenti in cui lui ha detto voi voi anche se non siete i miei avversari si è rivolto a un pezzo di partito come a qualcuno che è un avversario allora ci sarà questo momento non si sa quanto lungo molto faticoso per arrivare poi al punto di oggi cioè ritornare a un'investitura di Renzi segretario del PD e da questo punto di vista è obiettivamente un gioco del local al di là delle intenzioni dei protagonisti Alessandra Sardoni sentiamo solo 10 secondi per vedere che non sia nella fase calda Cuperlo che è difficile individuare per solito ma soprattutto senza audio qui dentro con storie biografie diverse perché sappiamo tutti e tutte che l'avversario è la destra ma il punto è se la tua politica è oggi quella giusta per fermare sconfiggere quella destra questa è la domanda che tu devi porre a questa platea che devi mettere al centro del congresso è diverso appena è possibile vediamo anche c'è una foto che ci è pervenuta dall'interno della sala in cui si svolge la direzione del PD appena è possibile segnalatemi se l'abbiamo Alessandra Sardoni in realtà c'è un altro modo di vedere il triennio renziano in realtà è cominciato praticamente in parallelo con una sentenza della Corte Costituzionale che tagliava il porcellum scusa per l'immagine da macelleria e si conclude con un'altra sentenza della Corte Costituzionale che taglia l'italicum è molto importante questo ed è il problema no 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 questo passaggio della Corte Costituzionale è stato fondamentale allora perché fu l'elemento che costrinse in un certo senso Renzi a fare a imboccare una scorciatoia che poi si è rivelata pericolosa perché poi tutte le mosse nascono da lì compresa l'idea di trasformare in plebiscito questo referendum e di forzare di andare subito al voto e di andarci ma soprattutto c'è un elemento di sistema in questa cosa che dici della Corte Costituzionale cioè che la leadership di Renzi è una leadership nata e che aveva una cultura del maggioritario una leadership del bipolarismo che si è rapidamente trasformata e per la verità questa trasformazione c'era già guardate questa foto questa che abbiamo noi però voi volete vedere ci sono tutti allora qui non c'è Bersani ma solo perché probabilmente è già andato c'è Zoggia che è il bersaniano di riferimento che è quel signore col sigaro davanti che si sta grattando il naso è l'ex segretario Epifani c'è poi al centro non potrebbe essere diversamente però lì è capotavola sostanzialmente D'Alema c'è accanto a lui Speranza e dietro Michele Emiliano c'è anche Stumpo che come si sa è l'elemento di forza del pacchetto di mischia della minoranza questa è una foto molto significativa e non solo adesso abbiamo capito chi parlava quando Renzi parlava c'era un preciso punto si capisce che è il caso di dire non aveva problemi di direzionare i suoi strali sono tutti e questi interlocutori di Renzi sono precisamente quelli che in realtà hanno scommesso su un ritorno al proporzionale la leadership di Renzi di adesso è una leadership che sta dentro un sistema che comunque al di là di come sarà esattamente la legge elettorale è quello sentiamo Del Rio che adesso parla Del Rio e dopo Bersani come sappiamo io non credo che i partiti siano così i partiti non sono dipendenti dal capobranco tant'è vero che la crisi dei partiti democratici la crisi della proposta social democratica nel mondo non è italiana è mondiale e lo abbiamo visto che la nostra terza via tra la democrazia capitalistica e la democrazia dei populismi è una terza via difficile da spiegare difficile difficile spiegare che il capitalismo è ancora un'opportunità con la finanziarizzazione dell'economia con la chiusura delle opportunità dell'ascensore sociale difficile spiegare che la proposta capitalistica sia valida nel momento in cui non fa i conti con la vera sfida moderna che è quella dell'ambiente non fa i conti cioè con un modello di sviluppo alternativo e quindi noi siamo in una condizione in cui abbiamo bisogno di riflettere e questo congresso è una necessità per questa riflessione e io spero che coloro che si candidano a contendere la leadership abbiano questa forza questa capacità di mettere in campo idee nuove di radunare gli intellettuali migliori di questo paese perché se è vero per esempio appunto che la sfida ambientale è una delle sfide più importanti è anche vero che Grillo dice che Trump è un grande statista mentre Trump fa passi indietro come tu hai giustamente detto su tutte le politiche ambientali di Obama allora Graziano Del Rio ovviamente è una delle figure principali dell'esperienza di governo precedente e dell'attuale tra l'altro partì come sottosegretario della presidenza figura proprio uomo ombra di Matteo Renzi è sicuramente quello che per prima restiamo restiamo con le immagini anche su Del Rio che ha interpretato quel ruolo fra l'altro era già nel governo Letta uno dei pochi anzi l'unico Renziano nel governo Letta e lui era stato presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni è stato sindaco di Reggio Emilia è una figura che però ha una sua autonomia ricordiamolo rappresenta l'area come si sa un'area lealista democratica che vede in lui rughetti delle figure che però hanno una loro autonomia nel renzismo però è anche una figura autorevole a cui perfino nel primo governo della legislatura pensò Napolitano come un possibile presidente del Consiglio per dire lo standing di Del Rio che però viene considerato ovviamente colui che con più autorevolezza combatterà è uno dei possibili premier nella prossima stagione post elezioni dopo di lui però e questa è l'altra notazione parla Bersani e Bersani non parla nella direzione del Partito Democratico dall'inizio dell'era Renzi sostanzialmente sul Jobs Act l'unica direzione ma sarà due anni e mezzo che non poi D'Alema non c'era D'Alema che abbiamo visto non aveva mai partecipato a una riunione della direzione forse un'assemblea nazionale la prima ma ma in una direzione nazionale dell'era dell'era Renzi soprattutto dopo lo strappo per la nomina di Federica Mogherini alto rappresentante dell'unione europea che però dice D'Alema nelle recenti interviste poi in realtà non sarebbe stato possibile ecco è stata metabolizzata così non si mette mai uno importante un ex premier a quel ruolo quindi non era comunque possibile però l'attesa quindi è forte adesso sentiremo ovviamente il finale ed arriva l'attesa è forte per sentire Bersani che è un punto di riferimento comunque si sa oltre che essere di fatto il padre nobile di Speranza che è già stato candidato prima di questa riunione e di cui ha parlato anche di cui ha evocato esplicitamente il nome anche Matteo Renzi come uno dei suoi sfidanti insieme a Rossi il presidente della Toscana e a quell'emiliano che abbiamo visto dietro a D'Alema sentiamo il grande eroe della vittoria inglese nella guerra Atley disse il programma labulista ha bisogno di duro lavoro buon senso e una rete di protezione per le famiglie oltre a parecchia energia quindi buon senso energia e duro lavoro e però mirare a dare a queste paure una prospettiva dire noi ci siamo e badate io sono d'accordo col fatto che i sindaci abbiano più potere qualcuno dice che sbaglio perché sono troppo poco però non credo che noi dobbiamo fare i provvedimenti pensando alle percezioni chi amministra tra di noi sa che non si fanno i provvedimenti per le percezioni si fanno i provvedimenti per rispondere a problemi reali e quindi i sindaci hanno chiesto una cosa di poter governare in maniera più efficace alcuni problemi delle loro città ma noi sappiamo anche che quella politica lì delle ordinanze o dei regolamenti è una politica che ha bisogno vicino di una grande politica di riqualificazione urbana ha bisogno più delle biblioteche di quartiere che dei poliziotti ha bisogno più delle biblioteche di quartiere quindi è molto importante Matteo che noi la cultura la teniamo dentro io non sono questa storia qua delle spese militari mi ha un po' spiazzato ma insomma vabbè però il tema del fiscal compact il tema del fiscal compact ha un problema grande come una casa lo dobbiamo ridiscutere chiediamo quello che abbiamo chiesto all'inizio poi ci siamo accontentati giustamente perché era giusto non avevamo ancora la credibilità per farlo ma oggi l'Italia ha la credibilità per farlo gli investimenti devono star fuori dal fiscal compact tutti gli investimenti puoi chiedermi come Europa di fare un piano complessivo in cui ti faccio vedere che i miei investimenti non sono il marciapè delle fioriere ma sono qualcosa di più allora approfittiamo Antonio Polito quanto conta il gruppo dirigente renziano in questa battaglia in realtà quello di cui è stato accusato o quello che è stato imputato a Renzi è anche indicato come causa della sua sconfitta è di non aver fatto squadra di essersi fidato soltanto dei suoi collaboratori più stretti anzi di avere del resto un po' allontanato anche del Rio dalla cabina e di regia del governo quanto conta il fatto che stiano tornando i del Rio i Ricchetti cioè le figure che si sa erano lì all'inizio e poi sono state messe in condizione di non oscurare troppo secondo me non conta molto devo essere sincero perché lui è solo lui è solo a condurre anche questa tentativa di rinascita questo tentativo di resurrezione devo dire che ho visto in questi giorni anzi molti saltare dal carro di corsa un chiamparino la torre c'è tutta una corsa chi sta nei giornali riceve molte richieste di interviste per chiarire quindi lo vedo lo vedo solo certo del Rio del Rio è come hai detto tu è un po' a sé diciamo un personaggio un po' a sé con la sua autonomia autorità e sta sostenendo credo lealmente il segretario però diciamo la carenza di questi anni della direzione di Renzi cioè la carenza della costruzione di un gruppo dirigente robusto all'altezza io credo che si avverta anche adesso e che lo asci un po' solo volevo dire una cosa se è possibile su quella 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 rilevazione temporale che avete fatto tre anni fa la sentenza che buttava giù il porcellum beh la crisi del renzismo sta nel fatto che tre anni dopo è caduto tutto l'impianto che doveva sostituire quello e che fu poi quello che lo portò al governo perché lui è andato da Napolitano dicendo io ho le condizioni per fare questo accordo è tutto finito perché è caduta la riforma con il referendum è caduto l'italicum nella corte ma è caduto anche perché qui torneremo anzi è caduto anche perché è stato cambiato il presidente della repubblica quando si è dimesso Napolitano e sulla nomina di Mattarella sulle elezioni di Mattarella è venuto meno il fatto di Mattarella quello che ha il supporto politico fortissimo ma lo si è capito soltanto dopo di Berlusconi è quello l'errore storico di cui non ha parlato perché adesso la condizione come ricorrenza quella la sala in cui ci fu lo strappo perché la sala in cui lui annunciò ai grandi elettori del PD che il candidato sarebbe stato Mattarella e quindi ruppe con Berlusconi Berlusconi se l'aveva preso con l'agenzia esatto fu la decisione lo dico perché in realtà tutto porta all'unica prospettiva di governo che è quella di un accordo con Berlusconi adesso è l'ironia della sorte la ruota il giro tondo sì ed è lui a un certo punto ha detto mi stupisce quelli che mi hanno accusato di essere l'uomo solo al comando adesso hanno a cuore la governabilità ed è una giusta notazione è vero anche il contrario cioè che l'uomo che ha come diceva Alessandra legato la sua la sua carriera politica la sua immagine a quella dell'uomo che corre che corre da solo e che è un leader del maggioritario cioè un uomo che si gioca sempre tutto vince o perde adesso stia cercando di riposizionarsi in un sistema invece che diventa proporzionale in cui al dispetto di quello che lui ha detto più volte oggi pomeriggio bisogna fare il caminetto interno tra i capi corrente e poi quello esterno tra i capi partito perché altrimenti non si fa né un governo del partito né un governo del paese proviamo a mandare la pubblicità sta per sta parlando no non proviamo adesso se sta finendo o no no non sta finendo proviamo a mandare la pubblicità dopo c'è Bersani come sappiamo dobbiamo rinnegare i primi anni 90 appena iniziato a parlare Bersani non c'è niente a rinnegare hanno vinto dappertutto allora quell'idea perché coglievano una realtà si agganciavano a una realtà era la realtà di una globalizzazione nascente era la marea che faceva alzare tutte le barche avevamo di fronte il liberismo noi liberalizzatori loro liberisti fa una bella differenza abbiamo vinto dappertutto ma dopo 20-25 anni è cambiata la fase oggi è il mondo che da tempo da due anni ormai ci dice qual è l'agenda l'agenda è protezione cioè difendersi dai cascami della globalizzazione Matteo lo so anch'io che ci sono più poveri nel mondo che ha mangiato ma va a vedere dove si formano le opinioni pubbliche si formano nei singoli paesi è aumentata la forbice nei singoli paesi l'inuguaglianza non la digerisci non l'accetti il lavoro è diventato vago umiliato ricattato buttato fuori dall'automazione cosa facciamo se noi non decliniamo l'agenda con i nostri valori non tornando indietro a quel che dicevamo no pensando noi guardate ragazzi che la destra arriva noi sappiamo non venirmi a dire che noi accoltelliamo le spalle quelli che combatto contro Trump siamo qui a dire vediamo come fare ragazzi perché arriva questa roba qui ce l'abbiamo sotto i piedi se conosciamo l'Italia ce l'abbiamo già sotto i piedi se conosciamo l'Italia allora cosa allora dobbiamo pensare dobbiamo elaborare aver proposte nostre siamo d'accordo su questo non è vero che mancano idee guardate questo è il paradosso non è vero che mancano idee dice che mancano idee chi non ce le ha noi ci mancano dei luoghi per discutere confrontare e affermare le nuove idee allora se diciamo congresso mi chiedo stiamo dicendo questo no perché se non andiamo un po' in profondità perdiamo l'ultimo treno ragazzi credete a me allora non facciamo cose cotte mangiate per favore che diventano delle conte organizziamo anche in preparazione di un congresso chiamando forze da fuori intellettuali eccetera una riflessione un confronto una discussione un dialogo vediamo cosa viene fuori prima seconda cosa io non sto dicendo di chi è la colpa il 25% il 40% eccetera però vogliamo essere d'accordo spero penso nel dire ripeto a prescindere se è colpa mia colpa sua ma noi ok il 40% ma dalle regionali alle amministrative al referendum ma insomma noi è vero o no che un pezzo della nostra gente che dei nostri elettori che la nostra gente che un pezzo di popolo di ceto medio si è allontanato da noi è vero o no è vero o no che una parte di popolo non ci sopporta è vero o no cioè lasciamo stare ragazzi per favore i sondaggi che dicevano pareggio al referendum il 3 dicembre cerchiamo di vivere nel senso comune ci abbiamo questo problema allora voglio dire senza rinnegare senza fare senza biure ma noi vogliamo dare un segnale di ricevuto da qui a quando si andrà a votare o no e non dobbiamo darlo a parole dobbiamo parlare dove succedono i fatti non finiamo e ci siamo spiegati male facciamo qualcosa che ci facciamo capire allora adesso noi ma già dovremmo governo gruppi parlamentari fare un bel approfondimento e dire cosa scegliamo per fare vogliamo chiamare la manutenzione delle riforme prima manutenzione vogliamo chiamarla manutenzione dell'azione di governo di questi anni vogliamo vedere in quali ambiti gli ambiti ce n'è ce n'è c'è il lavoro c'è la scuola ci sono le istituzioni e la legge elettorale c'è la sanità allora scegliamo e diamo il segno in questi mesi che questo governo mette ci mette in condizione come dire di ritrovare un filo di riconoscimento da parte di quelli perché si vuole anche un po' di umiltà non possiamo dire solo ci siamo ma se no ragazzi guardate che molte di queste cose che dobbiamo aggiustare noi quando arrivano le elezioni saremo costretti a prometterle e ci diranno beh ma allora cosa avete fatto qui c'è fatto il governo perché è un problemino mica da poco terza cosa noi anche qui è l'ultima che voglio dire ma noi aver in questi ultimi tempi questi ultimi mesi forse un anno eccetera aver creato delle ore X degli appuntamenti dirimenti aver alzato la voce lasciando messaggi sfidanti ma noi ci ha portato bene io dico non ci ha portato bene per un motivo molto banale a me sembra molto semplice credo che dovremmo condividerlo gli italiani hanno già dei problemi loro e non amano essere stressati su problemi appuntamenti che a loro giudizio non riguardano la loro vita comune io credo che chi ha in mano perché noi qui possiamo chiacchierare ma il paese pensa che comandiamo noi il paese pensa che comandiamo noi allora noi credo che chi governa debba provare a trasmettere linearità sicurezza non ansia e quindi se vagamente possiamo essere d'accordo su quello che dobbiamo approfondire riflettere che dobbiamo correggere aggiustare che dobbiamo rassicurare dare linearità sicurezza che come concludo io a proposito delle decisioni che dobbiamo prendere allora prima di tutto il paese quindi la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa ai mercati al mondo agli italiani è quando si vota non mi si dica Matteo che è una roba della detta ai lavori ma noi sappiamo ma noi comandiamo noi ma noi possiamo lasciare un punto interrogativo sulle sorti del nostro governo possiamo lasciare ma forse a giugno a settembre ma dico ragazzi ma non possiamo fare una cosa così guardate che mettiamo l'Italia nei guai io propongo poi se qualcun altro dice io propongo che noi diciamo non solo il 2018 che noi garantiamo davanti all'Europa ai mercati e agli italiani la conclusione ordinaria è normale della legislatura perché noi prima di tutto l'Italia io credo che questo noi dobbiamo assolutamente perché lasciare l'interrogativo insomma parlare come la Sibilla non possiamo lasciare la spada di Damocle sul nostro governo che la gente si aspetta che un bel giorno si rimette in streaming non possiamo noi dobbiamo dire qualcosa di preciso su questo e dobbiamo dirlo qui dobbiamo dirlo qui garantiamo la conclusione ordinaria della legislatura da questo dicendo le nostre scelte perché noi veniamo dopo il paese parliamo dell'Italia diciamo questa cosa dopo di che ne discende che il governo ha il tempo di governare di fare qualcuna di quelle correzioni che ho detto si riuniscono i gruppi parlamentari col governo si vede due o tre cose da fare io sono sicuro che la prima cosa per dirne una io è il tema del lavoro l'altra cosa è la legge elettorale io dico solo questo non cacciamoci troppo nei tecnicismi il fondamento vero della governabilità è un minimo di decente rapporto di credibilità fra politica e cittadini quindi noi dobbiamo ridare lo scettro al principe con questa legge elettorale dobbiamo inchinarci alla volontà degli elettori i quali devono essere messi in condizioni di appassionarsi perché sanno di poter dirimere decidere eccetera partiamo da questo poi le tecnicalità i cittadini devono poter scegliere e poi l'ho detto c'è la scuola tante cose da fare c'è l'Europa io figuriamoci tutto bene adesso qui c'è anche Padoan io francamente continuo a dire che in tutti questi mesi se vogliamo fare un braccio di ferro e ce n'è da fare con l'Europa è nostra forza negoziale non spendiamola su due o tre miliardi spendiamola sulle banche e sull'immigrazione e il resto vediamo come fare non sarà non sarà non cascherà non cascherà il mondo su questo quindi da qui ne deriva che il governo può governare che entro giugno si possono fare si può fare la legge elettorale qualche misura a giugno comincia la pratica del congresso in tempo ordinario da qui a giugno possiamo predisporre qualche atto di preparazione del congresso sto dicendo dell'assurdità ecco sì no vorrei sapere chi può dire che è un'assurdità non sto parlando da bersagnano eh attenzione sto parlando da italiano sto parlando da italiano perché noi non possiamo non sapere adesso parlo da uno del PD che prima di arrivare al congresso abbiamo un paio di cose da fare una politica e una politica organizzativa una politica noi attenzione che se partiamo domani mattina facciamo il congresso del solipsismo dell'autorifferenzialità dell'isolamento noi dobbiamo mettere in moto ciascuno dal suo lato io farò una parte voi farete l'altra dobbiamo appassionare mondi più vasti se no quella destra non la fermiamo questo è un tema politico da guardare bene e il secondo è un tema invece politico organizzativo insomma ma lo stato del partito lo conosciamo qui siamo tutti dirigenti amministratori e adesso mi si dirà ma è sempre stato problemi ce ne sono sempre stati sono il primo a dirlo e a saperlo ma non mi si dica che siamo andati migliorando non mi si dica questo onestamente quindi noi abbiamo il problema di avere il tempo necessario per creare un clima congressuale per creare un percorso per creare delle regole di conduzione e mi fermo qui perché conosciamo tutti come è messo questo questo paese quindi io chiudo io dico conclusivamente che se se decidessimo diversamente come pare in modo sibillino ho capito cotte mangiata punto interrogativo su cosa facciamo le elezioni per l'Italia guardate che si apre un problema molto serio molto serio perché noi quando si governa si si mette a servizio e si guida non si mette l'Italia nel frullatore quindi qui adesso vediamo riflettiamo facciamo io concludo citando mia mamma che chi ha più buon senso ce lo metta qui perché ce n'è bisogno secondo me grazie allora Antonio Polito l'intervento di Bersani apre la discussion apre il congresso in realtà e tenta di riempire le pagine bianche che c'erano nella relazione di Renzi conta sapere quando si vota conta dire interrompiamo la legislatura o portiamola a compimento Bersani dice portiamola a compimento conta fare un congresso non sui nomi ma sull'analisi e quindi le prospettive partendo dall'analisi che fa Bersani esiste una nuova destra che non è quella liberista reganiana e poi berlusconiana all'italiana ma è la destra trumpista lepeniana poteva aggiungere putiniana ma non l'ha fatto quella sovranista protezionista e quindi su questo ha in qualche modo aperto le danze o in realtà è un tentativo di chissà che comunque là dentro nella direzione del PD i numeri sono segnati e quindi si fa come dire a Renzi no in effetti lui ha messo sul tavolo la questione cruciale a cui Renzi aveva fatto solo riferimento e allusione cioè lui dice addirittura propone di cambiare completamente il ragionamento partiamo dal fatto che stabiliamo qui oggi che noi sosteniamo il governo fino alla fine della legislatura poi da questo discendono le altre conseguenze tipo il congresso che facciamo i tempi che useremo e così via nel non detto di Renzi invece questo va detto così ai nostri ascoltatori così più chiaro nel non detto di Renzi c'era il processo opposto cioè facciamo subito le primarie scegliamo subito il segretario venite facciamoci questa sfida e poi dopo si vede per le elezioni è una roba da detti a lavori non mi interessa a me naturalmente cosa sospetta la minoranza che in realtà lui Renzi voglia vincere le primarie per prendere la forza politica necessaria per provocare le elezioni anticipate ecco perché loro dicono invece stabiliamo tutti insieme da subito che si vota a scadenza della legislatura questo è il concetto e poi l'altro spunto è il pessimismo di Bersani Bersani dice la destra è sotto i nostri piedi cioè se andiamo a votare vince la destra tu pensi di andare a votare perché vinci attento perché vince la destra l'inerzia è dalla loro parte però c'è un non detto Marco Damilano in realtà proprio su questa cosa della data c'è il non detto se si vota il prima possibile tu hai ancora Renzi la forza d'inerzia nel partito e fuori se si vota più tardi tu sei molto più debole e quindi morstua vita mia ma certo ma è chiaro che su questa data si giocano i destini politici dei competitori Bersani si è infilato in una contraddizione evidente della relazione di Renzi ma anche di tutto quello che sta succedendo in questi due mesi da quando Renzi si è dimesso da Presidente del Consiglio perché Renzi a un certo punto aveva detto noi vi aspettiamo lì dove c'è la politica noi siamo altro siamo altrove ecco però Renzi non è in un altrove della politica perché Renzi è il segretario del principale partito allora per esempio quando ha detto non solo non si è fatta la riforma della Costituzione come l'ha detto D'Alema ma non si è neppure eletto il Presidente della Commissione Affari Costituzioni del Senato beh quella è una responsabilità anche del principale partito di questo Parlamento che resta il PD che lui dirige e quando dice sulla data delle elezioni decidono gli addetti ai lavori a parte che il Presidente della Repubblica ha detto ai lavori insomma non è un idraulico ma anche il segretario del principale partito è un addetto ai lavori e quindi da questo punto di vista però lui lo diceva soprattutto per dire a me non importa sì certo a me non importa però invece non si parla d'altro da due metri se posso dire la battaglia era proprio su questo cioè la mossa di Renzi del Congresso la mossa di anticipare il Congresso che abbiamo anticipato era legata proprio a questo fatto a non dire a non dire assolutamente quando deve essere interrotta la legislatura per poterla interrompere però all'Universario gli chiede addirittura di diventare il garante cioè lui dice non solo non voglio che tu fai cadere gentiloni da un momento all'altro ma ti chiedo già oggi la linea del PD è un garante della debruzata della legislatura vuol dire come si dice che i dettagli dovrebbero cantare e portare la croce Di Maio ha detto gentiloni adesso deve dimettersi subito andiamo subito al voto la linea del Movimento 5 Stelle di fronte a questo arretramento diciamo nel PD è di marcare subito il vantaggio competitivo 5 Stelle che pure teme il voto di motivi però diventerà il partito del voto subito e così via sapendo che non c'è il pensiero di cantare e portare la croce cantare vuol dire facciamo il congresso riorganizziamo il partito la politica il campo portiamo la croce assumiamoci la responsabilità di quello che fa gentiloni ed esattamente quello che Renzi non vuole fare e Alessandra secondo te questa mossa di Bersani che verosimilmente sarà suffragata da altri interventi costringerà Renzi a accelerare sulle demissioni questo non lo so potrebbe essere ma senz'altro lo costringerà a rispondere perché lui nel primo intervento effettivamente come abbiamo detto ha lasciato i prossimi interventi che vale la pena di immaginare e di sentire vedremo se parlano da lei ma sembra di no ma non lo sappiamo sicuramente Speranza sta per intervenire anche dopo adesso andiamo in pubblicità e facciamo in tempo a prendere dall'inizio Rossi che è uno dei candidati il governatore della Toscana alla segreteria poi dalla parte di Renzi chi è un nome forte che può il più forte è già intervenuto è Del Rio è Del Rio però questo è il significativo di quello che dicevi tu prima se parlasse non credo ma Orlando Orlando e Martina e Franceschini sono andati via comunque sono andati via quindi i gentiloni hanno lasciato la direzione e allora adesso ce ne andiamo via anche noi per tre minuti e ci rivediamo tra poco tra me Pierluigi che ci portiamo dietro da tempo sentiamo la conclusione in diretta di Orfini Presidente del Partito cioè questi problemi che noi oggi dobbiamo affrontare che Pierluigi ha raccontato sono anche se non soprattutto figli di quei governi e o noi facciamo sinceramente tra di noi questa discussione o non ne usciamo dici i giovani io faccio sempre lo stesso esempio i giovani non ci votano certo perché simbolicamente la precarizzazione del destino individuale della mia generazione che non è più giovane ma lo era nasce con i governi di centro-sinistra perché c'era un mercato del lavoro bloccato noi abbiamo inserito la flessibilità del Consiglio l'ha detto stampa di Berlusconi il Presidente del Parlamento Europeo quella flessibilità è diventata precarietà e non abbiamo messo le politiche industriali che consentissero un tessuto di piccole e medie imprese di aver bisogno di quei giovani a cui dicevamo studiate e questo vi basterà questi lo sanno lo vedono e se noi non facciamo questa discussione e non riconosciamo quelle difficoltà non ne usciamo è il tema delle privatizzazioni ma noi pensiamo davvero che si possa affrontare il tema del debito con le privatizzazioni io credo fosse sbagliato allora lo ha detto il segretario ma che si è sbagliato anche oggi lo dissi quando il Presidente del Consiglio era Letta e il Ministro era Saccomanni lo dico a Piercarlo e a Paolo cioè noi non possiamo immaginare che oggi ricominciamo una stagione anche se piccoline o parziali di privatizzazioni perché oggi se noi riconosciamo che il tema è la protezione in quei quartieri difficili non ti chiedono Matteo abbassare le tasse di una tantum ogni tanto ti chiedono semmai di costruire le condizioni per cui i loro figli trovino lavoro e questo tu lo fai solo attraverso una grande strategia di investimenti pubblici e per avere una grande strategia di investimenti pubblici hai anche bisogno dei soggetti pubblici che siano interpreti di quella strategia che vogliamo fare di Cassa Depositi e Prestiti io penso che debba avere un ruolo più aggressivo che debba cambiare in qualche modo la sua funzione penso che non sia una bestemmia oggi dire più Stato nell'economia credo che di queste questioni noi abbiamo bisogno di discutere al congresso guardando anche agli errori del passato e ho finito l'altro polo di questa discussione congressuale è che diamine di partito ci serve perché è vero che il partito non è in uno stato meraviglioso anzi è vero che questa fatica deriva da lontano e ha una storia lunga però è anche vero che noi dobbiamo decidere come metterci mano cosa farne perché se alcune nostre politiche non funzionano è perché in quelle realtà difficili non c'è un grande soggetto collettivo che è veicolo e strumento di inclusione cioè quello che si trova in una periferia degradata e disperata dove non c'è nulla non trova un vettore di trasformazione di quella difficoltà individuale in una battaglia collettiva siamo in grado di trasformare il partito democratico in una roba del genere o deve rimanere solo uno strumento di organizzazione nella nostra discussione ecco io credo che di questo noi possiamo e dobbiamo discutere al congresso che su questo abbiamo probabilmente idee differenti ma è bene che le sciogliamo non credo sia un'assurdità dire che se la affrontiamo così possiamo serenamente continuare a camminare insieme perché non sono argomenti di tale portata da produrre una lacerazione che non solo farebbe male al nostro partito ma leverebbe a questo paese l'unica speranza possibile che è il partito democratico grazie parlato Orfini presidente del partito ha parlato un po' più a lungo ma non si è tolto la parola visto che è lui che presiede andiamo a vedere adesso c'è proprio io sono molto d'accordo con l'intervento che ha fatto Berzani dalla voce del governatore della Toscana Enrico Rossi che è uno dei candidati alla segreteria che ha iniziato dicendo sono del tutto d'accordo con Berzani sogliendo ogni polemica sterile che ci ha esposto troppo la gravità del momento credo ci impone di abbassare toni di non attizzare le ragioni delle contrapposizioni e di cercare se possibile una strada comune per affrontare i nodi che abbiamo davanti a mio parere noi dobbiamo stare attenti a non ripetere uno schema che già abbiamo avuto quello di difendere le ragioni di un governo come quello che abbiamo avuto e limitarsi a questo non capire dove i punti non hanno dato risposte adeguate ai bisogni dei cittadini e quindi anche le difficoltà che incontriamo nel Paese i problemi che anche le ultime tornate elettorali mostrano in maniera evidente un conto è stato a mio parere il risultato elettorale per le europee quando una speranza importante è stata riposta nel Partito Democratico e poi una sequela di risultati anche sui territori che non sono stati assolutamente incoraggianti noi bisogna domandarci certo qual è lo scenario che nel mondo nel frattempo è mutato ma domandarci anche se la nostra azione di governo è stata adeguata è stata all'altezza dei problemi che avevamo io non dico che non c'è stato impegno anzi sono rimasto colpito dalla energia dalla volontà con cui questo governo e il suo Presidente del Consiglio Matteo Renzi hanno cercato di far fronte alle situazioni quello che a mio parere è mancato sono alcune scelte fondamentali e persino direi una visione di fondo del futuro del Paese quali sono le forze sociali che noi vogliamo prioritariamente tutelare rappresentare e quale sistema di alleanze vogliamo mettere insieme penso che su questo non siamo stati in grado di essere adeguati i giovani precari ma anche il ceto medio ma anche gli imprenditori gli artigiani noi abbiamo ad esempio al Monte dei Paschi una situazione di capitalismo parassitario credo nessuno si offenda che dei 27 miliardi dei crediti inesigibili prende il 70% e non li restituisce nello stesso periodo in cui gli artigiani il popolo minuto quello che però guarda a noi le piccole imprese chiedevano un prestito il periodo del credit grunge e venivano nella mia regione a dichiarare che non c'era possibilità perché lì non abbiamo discusso in tempo e sto dicendo una cosa che non riguarda direttamente poi le iniziative che sono state prese dal governo giuste discutibili si può dire ad esempio che in quel caso un intervento più forte dello Stato fatto all'inizio certo difficile ma avrebbe potuto dare anche maggiori garanzie e forse anche maggiori risultati tant'è vero che poi si è voluto fare e poi ancora la situazione del precariato che certo non è diminuita il Jobs Act poteva avere un punto forte nel fatto di presentarsi come un'alternativa al precariato ed era stato presentato così dal governo Rossi è uno dei candidati alla segreteria del Partito Democratico in alternativa a Matteo Potevamo dire che il precariato era invece dire che però è uno dei candidati che sanno di partire ma non possono arrivare tecnicamente tanto perché Renzi resta al congresso il favorito ma insieme al governatore della Toscana Enrico Rossi c'è Emiliano il governatore della Puglia e i due un po' in qualche modo faranno gara insieme ma si elidono anche perché è Speranza l'uomo su cui immagino puntano di più gli esponenti della minoranza Dem che sono soprattutto i bersaniani perché dal punto di vista numerico contano di più sbaglio Marco e quindi dovrebbe essere lui l'avversario da finale per Matteo Renzi ma è evidente a tutti che anche Speranza misurato non soltanto con la popolarità ma anche con il peso di oggi è difficile che possa essere un candidato in grado di sbaragliare allora la domanda che faccio è se ci sarà il congresso potrebbe venire fuori un altro nome? doveva prevedere ad esempio il fatto che Bersani punta molto su Speranza che un suo pupillo ha dimostrato fedeltà perché si è dimesso da capogruppo in occasione dell'approvazione dell'Italicum e perché è un uomo di partito fondamentalmente uno che vuole fare quel mestiere lì poi nei giorni scorsi ma qui si entra in un tecnicismo regolamentare Bersani non escludeva che al congresso si potesse votare con un doppio turno che poi è paradossale perché quel doppio turno è quel valutaggio che sull'Italicum cioè sulla legge elettorale nazionale aveva scatenato reazioni durissime come si votò nel 2012 tra Bersani e Renzi quindi un primo turno dove si candidano tutti e un secondo dove vanno i due principali candidati però questo è tutto da vedere anche perché adesso ne stavamo parlando di tutto quello che riguarda poi l'oggetto congresso in realtà non si è detta ancora una parola soprattutto non si è detta la parola chiave cioè Renzi ha detto la parola dimissioni ma poi questo si è chiuso un ciclo ma non ha detto io mi dimetto e quindi si apre la fase congresso poi naturalmente noi sappiamo che il congresso si apre solo se ci sono delle dimissioni però la parola dimissioni come sta facendo anche notare è ancora tutto abbastanza aperto poi aggiungo una cosa che secondo me secondo la mia opinione ma questo lo dicono apertamente gli stessi rappresentanti della minoranza che dovrebbero sfidare Renzi se si fanno le primarie ad aprile quelli non partecipano le primarie perché escono dal partito sì ma l'ha detto Bersani la loro scelta è se lui ci precisa se Renzi ci precipita un voto ad aprile se lo fa da solo perché è più probabile a quel punto che tu devi porti il problema di chi guiderà la nuova formazione politica esatto anche perché ricordo a tutti che più o meno è tornato il proporzionale quindi fare una scissione è meno doloroso e le primarie hanno meno senso contemporaneamente questo rende meno sensato il meccanismo delle primarie perché le primarie servivano a selezionare un segretario candidato premier mentre Renzi ha diviso a questo punto i due ruoli proprio lui che li aveva creati comunque l'ultima frase dell'intervento di Bersani è se volete proseguire su un solipsismo l'autoreferenzialità eccetera ci saranno conseguenze molto gravi quindi la minaccia della scissione è stata messa ufficialmente sul tavolo questo è reale e voglio anche aggiungere che i tre stanno lavorando insieme anche questo lui si è dichiarato subito d'accordo con Bersani perché lui non era partito come un antirenziano quando si candidò voleva fare un po' il pontiere tra le due aree poi Emiliano e D'Alema insomma proprio quello lì e D'Alema Sferanza si sentono e concordano poi c'era la foto che era la prova qui ce l'ho un'altra che adesso tra poco passerà alla regia però surrettiziamente chi dei due tu facciamo scusate tolgo tolgo l'identificazione del adesso facciamo una cosa non lo vuoi fare allora non so se me la puoi quando solo quando è a fuoco eh ragazzi così facciamo una cosa fatta bene del tutto del tutto all'improvvisata vedete nella fotografia che si intravede poi la mostreremo bene con tutti i crismi però che non è questa che non è questa ovviamente se no purtroppo c'è qualche rimbambito anche tra di noi però allora guardate qui ci sono accanto Bersani poi Emiliano poi davanti c'è D'Alema c'è Stumpo c'è Speranza c'è Minniti accanto che in realtà è un ex come è noto era l'ex sottosegretario della presidenza quasi con la delega ai servizi per per nel governo di D'Alema e davanti c'è Epifani che è stato segretario tra Bersani e Matteo Renzi questo per dire adesso poi la vedremo bene no il pacchetto di mischia c'è il pacchetto di mischia davvero degli oppositori che sembrano non dico tutti coordinati però è evidente che c'è un trade union tra tutti coloro che si apprestano alla battaglia congressuale il discorso è che Bersani lo ha detto chiaramente facciamo iniziare a giugno il congresso prima lo prepariamo tesi candidature ricognizione sullo stato di salute delle strutture periferiche perché un problema non da poco che si è visto anche l'altra volta in tre anni le strutture del PD sono molto modificate peggiorate migliorate questo non aspetta a noi dirlo però sappiamo che il partito si è fatto più liquido per usare le formule perché ha citato Bauman Renzi ma qui si è proprio liquefatto per molti aspetti però bisogna fare la ricognizione e essere sicuri di fare un congresso perché questo è un congresso vero forse il primo congresso vero l'altra volta era nettamente favorito Renzi e ci fu semmai una battaglia di resistenza pensate uno dei due è Cuperlo ma l'altro Civati è fuori dal partito da due anni praticamente quindi questo sarà un congresso vero se ci sarà perché se sarà in questi termini loro ci sono ma se non ci sarà in che modo Polito in che modo possono uscire dal partito di qui al mancato congresso come vogliono loro beh dichiarando che questo in realtà questa accelerazione questo beauty contest questa gara di bellezza che Renzi sta organizzando perché 9 aprile così abbiamo letto sui giornali in anticipazione come data delle primarie 9 aprile è tra un mese praticamente perché mentre lo convoc e cede inizio di marzo in un mese oggettivamente non fa il congresso nei circoli nelle sezioni e così via quindi si tratta di una campagna per le primarie e loro a quel punto dichiarerebbero che questo porta il paese all'avventura e il partito diventerebbe il PD diventerebbe il partito all'avventura Bersani l'ha detto praticamente e quindi loro non ci stanno più perché viene prima l'Italia come lo slogan Italy first lo slogan di Bersani Italy first io credo che sia realistica questa prospettiva guarda perché lo dicevo anche prima il proporzionale cambia tutto cioè quando abbiamo chiesto a D'Alema in un'altra trasmissione dice ma tu poi fai la scessione poi dopo ti devi comunque poi rialleare dopo le elezioni con chi ti allei con Renzi dice sì ma da posizione di forza avendo stabilito qual è la mia forza più o meno grande che sia e quindi contrattando questa la sirena del del proporzionale con uno sbarramento basso alla Camera 3% anche se attualmente molto alto al Senato 8% e tra parentesi si dice che Renzi tutto vuol cambiare tranne quello sbarramento al Senato proprio perché alto la sirena è molto forte quindi secondo me non è mai stato così vicino al rischio di scissione il PD ed è continuo ancora con te e passo poi anche a loro ed è la fine del sogno PD l'hai visto nascere più di altri dal direttore del riformista e non soltanto il Partito Democratico come somma e fusione delle due correnti gli eredi riformisti diciamo più o meno così di quello che fu il Partito Comunista e gli eredi democratico popolari di quella che fu l'ADC la fusione che sembrava nella prima fase aver creato una creatura che assomigliava molto più a papà PC che a mamma DC detto detto onestamente e questo portò all'uscita di Rutelli tra l'altro uno dei due soci fondatori principali e poi si è trasformata nel suo contrario e questo è uno dei motivi di quello che sta succedendo il fatto che in realtà da una parte vediamo vuoi o non vuoi tutti gli ex PC e dall'altro vediamo tutti gli ex DC intanto c'è questo fatto curioso che Rutelli è uscito e poi tutta la Margherita ha preso il potere perché tutti i suoi tutti i rutelliani compreso una beffa compreso il capo dello Stato perché Mattarella è stato a lungo militante hanno fatto l'unplane hanno fatto l'unplane e l'addetto stampa di Renzi era l'addetto e lo stesso Gentiloni era addetto stampa iniziò come addetto stampa di Rutelli quindi un trionfo da questo punto di vista secondo me per rispondere alla tua domanda no il problema si è determinato quando una nuova generazione cioè Renzi gente che non era né del PD né della DC ha preso come dire giustificatamente il comando e non ha retto alla prova del governo cioè non è tanto questo l'esito finale di una gara tra ex comunisti e ex democristiani anche perché di ex democristiani ne vedo pochi in giro questo è invece piuttosto magari uno scontro tra generazioni cioè i giovani quarantenni quelli che correnzi erano andati al potere e che i vecchi accusano di aver fallito quindi vecchi giovani sì mi sembra più una cosa di generazioni che di culture politiche e così ricordando poi tra l'altro che una delle accuse che vengono fatte a Renzi e dall'esterno all'intero PD è di aver perso questo però è un dato di fatto non è una contestazione il voto giovanile sì però è vero che quando Renzi si è candidato alla guida del partito e del paese nel 2012 la prima cosa che ha comunicato e lui non era né un ex né un post è vero i democristiani erano ex democristiani i comunisti preferivano definirsi post comunisti ma il prefisso segnalava comunque il doc la denominazione di origini controllata mentre lui la prima cosa che ha comunicato è io non ho questa storia non sono ex niente e non sono post qualcosa io sono una generazione nuova io sono un univista e quindi la Leopolda era il tentativo di costruire un'identità nuova però ebbe qui negli studi prima del referendum come è noto Renzi e De Mita e De Mita certo ma no e il cortocircuito che ci fu allora insomma disegnava da una parte una linea di continuità dall'altra una contaminazione tra gli unici due leader italiani che avevano avuto il doppio incarico assolutamente no ma anche l'hanno perso ma anche oggi ma perfino oggi pomeriggio Renzi ha citato Giorgio Lapira quindi che ci sia una linea di origini ma non c'è una cosa che la prima cosa è che ha vinto De Mita cioè è per questo che va in pezzi il PD questo è stato stenduto ha vinto De Mita con una profezia sull'arroganza però io penso anche che ci sia un problema di sistema cioè il PD è nato in un momento in cui si andava verso non solo un bipolarismo ma un bipartitismo perché fu seguito rapidamente dalla nascita del PDL quando Berlusconi mise insieme AN e Forza Italia Fini e Berlusconi e nello statuto questa cosa è segnata dall'idea che il candidato premier del PD è il segretario del partito tutto questo presuppone che ci siano due partiti perché se ce n'è un terzo e dice no io voglio un altro candidato premier poi devi fare le primarie sentiamo solo un attimo Deborah Serracchiani scusate cose concrete di argomenti utili al paese non ce ne frega niente chiacchieriamo tra di noi complimenti perché questa è la prima cosa che ci individua per quello che siamo allora sentite io ho ascoltato con attenzione ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno che mi hanno preceduto ma io credo intanto di dover ringraziare per il tono perché oggettivamente è stata l'occasione non si vedeva da molto tempo per tornare a discutere di politica di far discutere questo partito delle cose concrete abbiamo avviato io credo un percorso di discussione rispetto a quelli che sono i bisogni per il paese quelle che sono anche le utili proposte che possono essere fatte a questo governo sulle analisi mi pare che siamo tutti d'accordo forse non siamo tutti d'accordo sul come possiamo arrivare al merito di questa discussione per tanto tempo è stato chiesto il congresso anticipato oggi credo che la relazione del segretario abbia eliminato ogni dubbio abbia anzi detto con chiarezza che ci sono ci saranno anche come diceva Graziano Del Rio doverosamente necessariamente le condizioni per avviare il percorso congressuale deve essere un congresso vero io non credo che sia una questione di tempistica credo che sia una questione di serietà con cui intendiamo davvero fare questo congresso ed è il motivo per cui su una parte non mi trovo d'accordo con l'intervento di Pierluigi Bersani io non credo che sia sufficiente convocare i gruppi parlamentari io non credo che sia sufficiente aprire una discussione che sia limitata soltanto non me ne vogliate parlamentari credo invece che il congresso debba essere aperto a tutti perché io voglio sapere dagli iscritti del Partito Democratico dai non iscritti al Partito Democratico da quelli che guardano al Partito Democratico con interesse con simpatia o semplicemente ci guardano anche con antipatia in questo momento io da loro voglio sapere se vogliono oppure no mantenere le province in piedi perché non ci si capisce più niente e non è più una questione che può essere riportata soltanto all'ambito governativo o all'ambito parlamentare perché io credo che ci sia la necessità di tornare ai cittadini che ci hanno detto con chiarezza che le province non le volevano ci sono alcune regioni come la mia che le province le hanno eliminate e adesso chiedono per cortesia di completare il percorso vorrei sapere almeno dagli iscritti del Partito Democratico dai militanti dai simpatizzanti da coloro che parteciperanno al congresso cosa ne pensano vorrei che mi dicessero loro ad esempio su un tema delicatissimo perché noi lo ha detto anche il segretario stiamo affrontando forse per la prima volta in modo diverso gli aspetti legati all'immigrazione lo stiamo facendo con il ministro Minniti ministro Minniti che si è presentato a Lanci che ha firmato un documento con Lanci che ha aperto una discussione con la conferenza delle regioni che ha avviato un percorso che in qualche modo si fa vedere anche con occhi diversi il tema dei flussi migratori bene su questo io credo che bisogna tornare alla base del Partito Democratico e chiedere alla base del Partito Democratico cosa ne penso su delle emozioni molto chiare congressuali perché noi che stiamo portando avanti l'accoglienza diffusa abbiamo anche il bisogno di sapere con grande con grande come dire ed è una cosa importante sapere che cosa sono i centri di rimpatrio degli irregolari dove intendiamo farli se riusciamo a portare a compimento un percorso amministrativo che preveda un unico intervento sui richiedenti asilo senza il ricorso e senza il periodo degli anni nei quali rimangono sul nostro territorio pur irregolari abbiamo bisogno di sapere se stiamo andando in quella direzione o se stiamo andando in una direzione diversa vorrei per esempio chiedere ai militanti simpatizzanti agli elettori ai non elettori del Partito Democratico cosa ne pensano dello Ius Soli perché io credo che su questo tema il Partito Democratico si debba immediatamente subito rimettere in movimento c'è la discussione sulla cittadinanza al Senato bene allora la vice segretaria Deborah Serracchiani che è presidente della regione Friuli Venezia Giulia dice attenzione non dobbiamo fare il congresso solo per stabilire la nostra linea politica interna ma anche per una serie di temi che travalicano il nostro partito e riguardano il paese che ne è delle province le abbiamo abolite oppure no ci sono ci devono essere lo Ius Soli cioè cosa fare riguardo a chi nasce in questo paese ed è figlio dei migranti guardate questa è la fotografia che prima le ho fatto vedere in maniera un pochino acrobatica però è significativa perché è letteralmente la foto di gruppo e delle opposizioni a Renzi non solo vedete in alto il più corpulento Michele Emiliano che è il presidente della regione Puglia alla destra vedete si siede Pierluigi Bersani davanti ci sono uno accanto all'altro Zoggia che fu il segretario organizzativo del partito responsabile dell'organizzazione sotto Bersani D'Alema Speranza Stumpo e Minniti che tenta di uscire dalla inquadratura ma non fa il tempo in mezzo tra Bersani e Emiliano c'è Massimo Paolucci un euro parlamentare PD dalle Mianissi dalle Mianissi e davanti ex Bassolini e davanti c'è Guileno Epifani ex segretario della CGL quindi è proprio un gruppo omogeneo ex segretario della CGL e segretario del PD apostrofo tra Bersani e Renzi l'uomo che portò al congresso passato apostrofo Rosa Rosa insomma ecco questa vediamo un'altra foto subito dopo l'intervento di Bersani un colloquio un fitto conciliabolo si sarebbe detto nelle cronache politiche di un tempo tra lo stesso Emiliano e Bersani vedete faccio notare soltanto e chiudiamo con secondo te gli hanno fatto un recinto o si sono messi loro proprio secondo me questo sì è il ghetto diciamo davanti notate l'espressione cogitabonda di Massimo Edalè ma io non sono sicuro che alla fine non alzi il dito per chiedere la parola però ci dobbiamo fermare tra poco alla segreteria è una cosa ecco un altro dei candidati necessari congressuali alla segreteria Emiliano appena iniziato a parlare perché quando ti ho sostenuto nell'ultimo congresso e l'ho fatto con tutto il cuore l'energia anche la commozione me ne devi dare atto stai rifacendo la stessa faccia che facevi mentre parlava Bersani ti prego fammi fammi le facce che fai con gli altri ti prego perché io ti sto parlando dicendo col cuore quello che penso e non devi sospettare che io ti parli con un'altra finalità l'ultima volta che ti ho sostenuto e che ho dato una mano al cambiamento di questo partito perché l'idea di rinnovare la classe dirigente l'idea di riconnettere il partito democratico con le questioni ambientali la green economy che era nel tuo programma mi hanno affascinato vivevo in una terra drammaticamente colpita da eventi legati all'ambiente potrei parlare di Taranto potrei parlare di Bari dell'inquinamento da mianto insomma mille cose non voglio far retorica però voglio andare al sodo e ho pensato che rispetto al passato e lo dico alla presenza di Pierluigi di Massimo D'Alema tu rappresentassi un cambiamento netto rappresentassi un cambiamento netto anche di classe dirigente io a un certo punto ho cominciato a pensare che c'era qualcosa che non andava quando tutte le persone che avevo contro in Puglia sulle grandi questioni di merito e che erano legate alla precedente maggioranza del partito è vero Claudio io me le sono ritrovate tutte con te e sulle stesse posizioni di prima e non avevo più te vicino non avevo più il nuovo del partito per cambiare le cose mi sono ritrovato in una condizione di grande difficoltà quando prima ancora della campagna elettorale quella scuola pubblica alla quale io debbo tutto vengo da una famiglia modesta vengo da una famiglia dove c'erano pochi libri dove non c'era scritto da nessuna parte che io avessi dalla vita ciò che la vita mi ha riservato e che mi ha reso un uomo assolutamente soddisfatto e privo di ulteriori esigenze però quella scuola pubblica che io ricordo a memoria i nomi di tutti i miei insegnanti è stato oggetto della prima discussione politica tra me io probabilmente ho sbagliato a non considerare che tu eri in un momento difficile nel rapporto con la scuola pubblica e il fatto che io avessi dedicato la mia campagna elettorale alla scuola pubblica era probabilmente un gesto politicamente eccessivo mi capita di fare gesti politicamente eccessivi soprattutto quando non capisco quando non mi si parla quando non mi si dice dove si vuole arrivare in questi anni in questi mille giorni è successo tante volte che io non sia riuscito a capire dove volevi andare a parare e non sia riuscito a dire le cose giuste e non sia riuscito a costruire quella comunità che era necessario costruire mi sono trovato in difficoltà di nuovo quando avevamo detto che non avremmo toccato l'articolo 18 che non serviva che era un tabù e poi l'abbiamo cambiato mi sono trovato in difficoltà successivamente quando avevamo detto che mai avremmo toccato il mare della Puglia il mare della Basilicata e io e il presidente della Basilicata siamo rimasti chiusi fuori dal Mise perché il governo non voleva parlare con noi su come provare ad evitare un effetto perverso che si era creato tra le norme dello sblocca Italia e l'intenzione di non trivellare nelle 12 miglia addirittura qualcuno dei militanti del partito mi dice perché tu hai creato questo mito che ogni volta che si perde un referendum si dovrebbe dimettere non so se mi dicono ma perché non ti sei dimesso quando hai perso il referendum a parte che io non credo che noi abbiamo perso il referendum perché la stragrande maggioranza degli italiani e se visto erano a favore di quelle ipotesi ma soprattutto quello era un referendum bandito non da me chiesto non da me ma da 5 consigli regionali per la prima volta nella storia d'Italia cioè era la prima volta nella storia d'Italia in cui il partito mio si beccava dai consigli regionali quasi all'unanimità un referendum non era mai successo prima ci sarebbero bastati 5 minuti per evitarlo quel referendum anche nella fase successiva quando più prudentemente 5 dei 6 quesiti referendari furono riassorbiti avremmo potuto riassorbire anche il sesto avremmo evitato il referendum avrei evitato di soffrire quando me ne hai dette di tutti i colori la sera finale del referendum eri molto carico quella sera e avevi vinto dal tuo punto di vista e come posso dire quella fase nella quale poi tu mi chiedi ma perché dici che noi siamo il partito dei petrolieri perché studiando le norme del diritto minerario perché grazie a te mi sono dovuto studiare tutta questa roba mi sono accorto che l'unica questione di quell'ultimo quesito tu stesso te ne rendesti conto alla fine era evitare il costo del decommissioning in capo alle aziende petrolifere che può anche essere un ragionamento valido perché se quelle aziende sono strategiche perché gravarle avremmo potuto trovare in altra maniera il modo di smontare le piattaforme esaurite senza invece eliminare il termine discadenza delle autorizzazioni ma questo per dirti che ci siamo trovati tante volte spiazzati ci siamo trovati spiazzati per esempio quando avevamo detto nella nostra carta dei valori che non avremmo mai cambiato la costituzione a maggioranza l'avevamo detto noi non l'abbiamo cambiata quella norma quando ci siamo permessi di dire guardate che la struttura dell'articolo 70 fa paura l'ho detto da giurista di serie B l'ho detto disperatamente nei luoghi dove era possibile dirlo guardate che c'è il rischio che quel referendum venga interpretato come una specie di ghigliottina generale se lo vinco a zero tutti i miei avversari interni ed esterni io lo so che non è così lo so che tu avevi un autentico originale genuino desiderio di cambiamento e di efficientamento di questo paese ma l'effetto complessivo è stato inverso e se noi avessimo avuto la comunità di cui tu parli cioè dialogante avessimo avuto la possibilità di aiutarci gli uni gli altri forse io non avrei dovuto aspettare il governo Gentiloni quindi quasi 18 mesi di governo mio della regione per parlare dell'ILVA col presidente del consiglio dopo che avevo disperatamente chiesto di parlare delle questioni ecco perché a un certo punto mi sono accorto che un congresso è necessario abbiamo cominciato a raccogliere le firme è necessario non tanto per vedere chi farà il segretario perché se ho capito bene il mondo è cambiato la legge elettorale che dovremmo in qualche maniera definire io non so come si fa a fare un congresso senza sapere qual è la legge elettorale perché se poi facciamo una legge elettorale che dovesse avere chiedo scusa vi spiego il concetto non perdete subito la calma avete preso delle cattive abitudini nell'ultimo periodo di non ascoltare il finale degli discorsi vi prego vi prego perché io sono sempre quello di prima sono quello che l'ha votato lui non è che sono cambiato solo perché adesso sono un po' perplesso sul proseguire con lui nella guida del partito noi siamo comunque la stessa comunità non dovrebbe cambiare niente se lo fa lui il segretario se lo faccio io se lo fa Enrico lo fa un altro io so che alcuni la pensano in un modo altri la pensano in un altro ma quel che è certo è che finire di parlare in un'assemblea peraltro integrata oggi oggi abbiamo integrato questa assemblea non so per quale ragione mi fa piacere perché invitato mi fa piacere mi fa piacere però è evidente che se continuiamo a non dialogare e a non spiegarci la ragione delle cose qualcuno l'ha presa qualcuno ha preso questa iniziativa come un desiderio di sequestrare il dibattito si sono spaventati hanno cominciato a pensare per esempio che tu volessi andare al congresso ad aprile io escludo che nel tuo ragionamento si possa andare al congresso ad aprile lo escluderei perché se un congresso un congresso ad aprile senza conoscere la legge elettorale ma che roba è cioè chiedo scusa non vorrei che adesso voi confermaste i sospetti di quelli che pensavano che gli inviti servissero a creare un'atmosfera difficile per i allora posso proseguire posso proseguire scusate a parte che Michele non ti spaventerai io credo credo che andare andare al congresso con la Pasqua in mezzo senza conoscere la legge elettorale senza conoscere senza conoscere quante federazioni provinciali sono commissariate quanti circoli non sono in grado di rilasciare le tessere eccetera eccetera sia una di quelle cose che rischia e credetemi in questi giorni ho fatto di tutto per evitare il rischio come lo ha chiamato il segretario di scissione perché è necessario che questa scissione sia evitata soprattutto ricostituendo il rapporto di fiducia tra maggioranza e minoranza e credo di poterlo dire perché non facevo e non faccio parte di alcuna di queste componenti io sono uno di quelli che ogni volta va al congresso guardate che sono centinaia di migliaia i militanti del PD che non appartengono a nessuna corrente e che vanno a votare a seconda di come gli piace il candidato presentato punto senza nessuna presupposizione allora io mi chiedo in una giornata come questa dove il segretario ha fatto uno sforzo uno sforzo che io ho apprezzato di comprendere che dopo una sconfitta politica grave pesante e anche molto più dannosa delle mie frasi sul sul PD partito dei golfisti sono battute ovviamente però spesso e volentieri parliamoci chiaro credo di aver imparato anche da te qualche volta a fare qualche battuta del genere non c'è nulla di male se in un momento in cui c'è bisogno di ricucire un rapporto ci si provochi al fine di incontrarsi se questo scopo è stato raggiunto oggi cioè se tu oggi davvero vuoi mettere il congresso al centro della nostra discussione e vuoi aprire al progetto di un'Italia che possiamo condividere nuovamente io e te non so in quali posizioni ma possiamo condividere in modo tale che chiunque vinca sostenga l'altro questo processo deve essere autentico possibilmente appassionato vero vicino alle persone in molti momenti sei apparso lontanissimo dalle persone e sei stata l'immagine sbagliata di un partito che invece non è lontano dalle persone noi siamo gli eredi della resistenza del movimento operaio noi siamo l'essenza stessa della concezione dello Stato di diritto siamo quelli che abbiamo fatto la lotta alla mafia siamo la parte migliore di questo paese e tu devi esprimere tu o il segretario che ti succederà questa capacità di rappresentare il popolo italiano che è un popolo di persone che vuole lavorare che vuole avere possibilità che non vuole che il suo orizzonte sia cambiato da una regoletta improvvisamente mutata nell'Unione Europea o nel Parlamento perché c'è qualche lobbista che riesce a infilarla contro la nostra stessa volontà dentro un provvedimento decisivo allora il partito democratico può essere il partito di quelli che non contano niente può essere il partito e quelli che non contano niente non sono solo i crociard o i disoccupati sono anche i titolari di un'azienda che ha mille operai e che ha anche un certo giro d'affari che però può essere cancellata con un frego di penna quelli che non contano niente sono quelli dei call center che rischiano di vedere chiuse le loro aziende perché le aziende di stato fanno gare al massimo ribasso e mettono in difficoltà le commesse e gli appalti liberando mano d'opera da tutte le parti e questa operazione dal mio punto di vista e chiudo significa che il partito democratico o torna nel suo alveo naturale o rischia di andare fuori dalla fotografia fuori dalla cornice di sembrare una cosa per giovani irresponsabili io purtroppo giovane non sono più e forse sono stato irresponsabile nell'immaginare di candidarmi alla segreteria del partito però ho l'impressione che se tante persone in questo momento mi stanno spingendo in questa direzione non è perché io abbia diciamo così un ruolo particolare in questo partito sono uno come tanti altri ma evidentemente quello che è accaduto fino ad oggi ha scontentato tanti ha scontentato tanti li ha buttati fuori dal partito li ha indotti a non reiscriversi io vorrei a tutte queste persone che spero ci stiano seguendo chiedere innanzitutto di rientrare nel partito democratico reiscrivetevi per favore dateli un termine se avete deciso di fare un congresso e dateli un termine per fare queste iscrizioni per fare queste tessere lo so come abbiamo fatto altre volte agevolate quelli che tu stesso hai invitato a venire agevolateli e non respingeteli fatelo in ogni parte d'Italia e fatelo con l'aiuto diciamo dell'organismo che potrà essere il segretario l'organismo di garanzia decidetelo voi io non sono esperto di congressi ecco fatelo facendo rispettare le regole e facendo capire a tutti che il partito democratico è un luogo aperto di libertà di giustizia ed uguaglianza grazie a tutti ecco questo è stato Michele Emiliano che si è candidato alla segreteria all'inizio ha detto non guardarmi a Renzi come guardavi Bersani vediamo la foto di Renzi che guarda Bersani perché abbiamo anche questa possibilità ed è evidente che come dire lo guardava senza particolare considerazione ecco mettiamola così non è certo quello che emerge da questa foto ma è solo per documentare che Renzi presta attenzione marca uomo coloro che sono le figure vediamo adesso almeno per iniziare poi tra qualche minuto dovremmo andare in pubblicità l'uomo forse più pesante tra coloro che non sono Renzi e sono potenziali candidati alla segreteria Orlando ho deciso di intervenire nonostante le remore io non sono uno che parla frequentemente se non nell'ultimo periodo per una ragione molto semplice che non ha a che vedere con le candidature ma con il fatto che ritengo che il Partito Democratico sia la conquista più importante ottenuta dalla mia generazione è un po' come l'Europa ci accorgiamo della sua importanza quando rischia di venire meno e credo che la parabola che ci ha proposto Matteo non farà diminuire il numero mi pare 327.000 delle visualizzazioni sul termine resa dei conti 327 376 ecco io prevedo che domani aumenteranno in modo significativo perché perché Matteo ha detto una cosa che è molto vera è scomparso il futuro dal dibattito politico dopo la sconfitta del referendum è scomparso per una ragione che ritengo fondamentale perché il no come lui ha detto non indica una prospettiva non ha indicato una prospettiva ma la sconfitta del sì ha fatto venire meno una strategia che non era la strategia di Matteo Renzi era la strategia di tutto il centro-sinistra rispetto alla crisi della democrazia sostanzialmente noi abbiamo detto dall'ulivo in poi si riforma e si costruisce una democrazia più efficiente per riavvicinare i cittadini alla partecipazione consumata quella sconfitta oggi non c'è una proposta in campo su questo tema e i risultati del referendum o almeno la sua distribuzione territoriale ci dicono che le ragioni della crisi della democrazia sono anche profondamente sociali se così è l'onere di avanzare una proposta io mi sarei aspettato anche qualche elemento autocritico da chi ha sostenuto il no rispetto alla situazione attuale ma l'onere di avanzare una proposta tocca a noi siamo noi gli unici che possono avanzare una proposta su questo tema allora se tocca a noi non credo Matteo che il problema sia che sono riniziati i caminetti sono riniziati i caminetti se sono riniziati io devo dire che vengo spesso definito come un habitué non ne ho mai fatto uno ma non mi interessa questo dico soltanto che i caminetti sono riniziati perché manca una proposta politica forte in questo momento e manca una proposta politica forte perché credo che le cose che tu hai detto oggi ci avrebbero aiutato se tu le avessi dette all'assemblea nazionale dopo il referendum perché credo che incominciano a porre alcune questioni che sono fondamentali per ricostruire un rapporto con il paese tu hai posto alcune questioni che non campeggiano nel dibattito politico di questa fase ma che io ritengo siano fondamentali per esempio sta finendo il fiscal compact qual è la modalità di governo dell'euro che si costruisce dopo la fine del fiscal compact da questo dipende il nostro destino tu hai detto mettiamo alcune spese fuori dal patto di stabilità io dico perché non mettiamo fuori dal patto di stabilità la spesa sociale tu hai detto il ceto medio che è stato colpito io dico riflettiamo sul fatto che quel ceto medio è quel proletariato che noi avevamo fatto uscire da condizioni di difficoltà attraverso la costruzione dello stato sociale e della repubblica ma tutte queste cose servono e tutte queste questioni possono essere approfondite se davvero troviamo la via per discutere e voglio dire con molta franchezza che il nostro statuto e il modo in cui si celebra si celebrerà il congresso può essere non è adeguato a fare questa discussione e non è adeguato a questa discussione perché è stato pensato in una fase diversa in una fase di sistema maggioritario accentuato stiamo andando verso un sistema proporzionale e perché era servito e serviva esclusivamente alla legittimazione del leader oggi noi dobbiamo ricostruire una piattaforma politica è un po' come provare a fare le tagliatelle con una macchina da scrivere io non credo che alla fine di questo percorso noi avremmo una piattaforma nella quale si sarà esaltata la partecipazione popolare ma vedo il rischio piuttosto che infatti io non sono tra quelli che hanno chiesto congresso prima e ora dicono non lo facciamo più io il congresso ho sempre pensato che dovesse venire dopo un altro passaggio che dirò poi qual è io penso che il rischio che abbiamo di fronte è che il partito democratico da soggetto principale della stabilizzazione del sistema politico italiano diventi l'epicentro della instabilità del sistema politico e per ragioni che vado a dire molto rapidamente abbiamo bisogno di parlare di province non credo che gli iscritti al congresso parleranno di province forse il nuovo congresso lo faremo meglio io vi dico come ho vissuto l'ultimo nell'ultimo partecipavano alla discussione 10, 20, 30 persone e poi alla fine di questa discussione si sviluppavano delle lunghissime code nelle quali si andava a votare dubito che questa volta sarà molto diverso ma sono sicuro che nelle prossime settimane staremo sui giornali sul tema del tesseramento e dubito soprattutto Deborah che in quell'occasione ci sarà grande possibilità di incidere sulla piattaforma perché diciamolo con molta franchezza non è un percorso consentito nel senso che chi viene lì dice sostanzialmente o sì o no rispetto a piattaforme che sono state costruite si parla non so cosa rimane di quello che dice ora io non so quanti verbali sono rimasti dell'ultimo congresso che hanno registrato le opinioni dei nostri iscritti però sì sì io penso che per esempio senza fare un congresso potremmo dire già da adesso e credo basterebbe chiederlo ai candidati che sullo ius soli siamo tutti d'accordo quello quello che temo poi è la seconda fase cioè quelle delle primarie che senza una restrizione del range senza una condivisione su una piattaforma senza un'autodisciplina dei candidati finiranno per essere una sagra dell'antipolitica il tutto consumato dentro la campagna elettorale delle elezioni amministrative allora che cosa propongo perché uno mi può dire vabbè ma dici che cosa non va e che cosa propone certo il clima è importante e il clima lo vorrei dire con molto affetto al compagno Bersani è fatto anche dalle dichiarazioni quotidiane che chiedono le dimissioni o mettono in mora o delegittimano il segretario del partito è evidente che il segretario del partito per ricostruire un messaggio è una parola che parli al paese è l'asset fondamentale del quale disponiamo quando se ne leggerà un altro utilizzeremo quell'altro a oggi il segretario del partito che io ritengo sia in questo momento anche una e forse la energia più forte per parlare al paese credo lo dobbiamo utilizzare soprattutto allora adesso dobbiamo andare in pubblicità continuiamo a seguire poi sunteggeremo quel che resta o probabilmente ritroveremo ancora perché sono pochi minuti Orlando tra poco allora abbiamo visto passaggi importanti in questa direzione del PD ma da fuori dalla direzione del PD farà discutere forse una frase pronunciata dal presidente della Repubblica Mattarella che ricevendo una scolaresca ha risposto una domanda su chi è un buon cittadino un buon cittadino è quello che rispetta le regole fin qui lo sapevamo la risposta dall'altra parte però dice nessuno può pretendere di forzare le condizioni a proprio vantaggio questo sarà interpretato a torto a ragione anche come una risposta a chi vuole forzare la situazione nella scena politica ripeto arbitrariamente ci sarà questa interpretazione delle parole del capo dello Stato e la questione in questo momento proprio della direzione del PD è proprio questa forzare per andare al voto prima o la proposta di Bersani sul tappeto dire il contrario noi andiamo fino in fondo con la legislatura e intanto ne approfittiamo per farci il nostro congresso in grazia di Dio dobbiamo dire che l'intervento che abbiamo seguito praticamente che siamo dati in pubblicità del ministro della giustizia Andrea Orlando è stata un'altra zeppa sulla strada della prosecuzione della legislatura o della sua interruzione Orlando vuole un congresso vero non ha minimamente sposato le tesi e l'assunto di Matteo Renzi e chiede sostanzialmente un congresso sui contenuti un congresso che sia un congresso che non può essere fatto a volo d'uccello e non può essere fatto a tappe forzate perché lo chiede con la consistenza adeguata della verifica sulla struttura periferica del partito e insomma un congresso che ha bisogno del suo tempo con ciò andando dalla parte anche degli oppositori di Renzi e forse mettendosi nel mezzo possiamo dirla così Antonio Polito che in realtà si è messo proprio in mezzo dimostrando che c'è in questo momento un'ala che noi potremmo chiamare Franceschini Orlando Martina che si è impossessato del cuore o del centro strategico del partito di Renzi io penso che sia stato l'intervento politicamente più importante finora dopo la relazione perché sappiamo che Orlando fa parte della maggioranza cioè sosteneva Renzi e lui ha detto esplicitamente la frase dice se facciamo le primarie adesso nel pieno tra l'altro della campagna per le amministrative diventano il festival dell'antipolitica cioè facciamo un favore ai nostri nemici cioè si è dichiarato mi pare in maniera esplicita contro l'ipotesi di andare alle primarie subito che tutti sappiamo essere diciamo così l'idea la speranza l'aspirazione di Renzi questo forse spiega anche perché Renzi nella sua relazione cioè la posizione di Orlando spiega perché Renzi nella sua relazione non ha citato né date né dimissioni come pure erano state annunciate cioè si vede che lui sa che nella sua maggioranza c'è ancora una notevole incertezza quindi mi è perso un intervento più politicamente più importante e poi è stato quello pirotecnico di Emiliano che ci fa capire che è nata una stellina se così vogliamo dire se si faranno poi diciamo le primarie lui sarà certamente un animatore ecco un animatore del villaggio che però ha un altro capovillaggio possibile che è Orlando a questo riguardo se mi permetti Marco Damilano ho notato nell'intervento di Orlando proprio una vocazione centrista nel senso di dire hai sbagliato Renzi su una serie di cose ma tu Bersani devi smetterla di attaccare e far attaccare tutti i giorni il segretario perché così lo delegittimi e seghi lo stesso ramo su cui sei seduto è come a dire le regole le impostiamo noi soltanto se tu non fai troppo il protagonista solitario Renzi e se voi non smettete di cannoneggiare pregiudizialmente senti quei partiti che abbiamo nominato prima DC e PC avevano una regola ferrea una regola aurea si governava dal centro questo valeva per la DC dove il centro erano Dorotei e compagnia valeva a maggior ragione per il partito comunista dove c'erano le due ali la destra migliorista e gli ingraiani ma il cuore del partito lo governava chi sapeva a fare una sintesi e chi era si metteva al centro di quel partito Orlando fatte le debite proporzioni ovviamente si è dal ministro nel ministero della giustizia che fu di Togliatti all'inizio della Repubblica ed è quello che oggi pomeriggio è sembrato proprio interpretare plasticamente ma anche nel linguaggio usato ad esempio quando lui ha detto le primarie diventano la sagra dell'antipolitica che è l'orrore di chi invece predica la priorità della politica il totus politicus l'uomo totus politicus e si è messo tra ha bacchettato sia Bersani sulla scissione ma è stato anche molto molto duro e soprattutto è stato molto duro con Renzi perché ha smontato proprio l'impianto ideologico del PD di questi dieci anni Marco si può dire che sembrava sentire parlare Napolitano beh lui in questo momento è sicuramente il giovane esponente del PD più vicino a Giorgio Napolitano e anche esponenti come un uomo sponente ricordiamo che è al governo perché Napolitano lo indicò mentre Renzi gli portò il suo primo governo tutta l'indicazione dei ministri il ministro della giustizia era nella proposta di Renzi Nicola Gratteri procuratore della Repubblica in Calabria e Napolitano disse mai un passaggio diretto dalla giustizia dal ruolo in Firenze posso dire che i due interventi consecutivi di Emiliano e di Orlando sono interessanti perché ci sono due volti del renzismo cioè di fatto Emiliano ha accusato Renzi di cosa? Di non essere stato abbastanza antipolitico cioè gli ha detto ma come tu hai detto la rottamazione il cambiamento che avresti cacciato tutti e io poi mi sono ritrovato con tutti i notabili della Puglia che stavano con te e io sono rimasto da solo Orlando che è un'altra sfumatura invece gli dice noi speravamo che tu diventassi da rottamatore crescessi e facessi politica la politica quella ordinata con cui quindi non si va lo scontro tutti contro tutti non si fa l'uomo solo contro tutti si fa un percorso comune con altri e gli dice non insistere su questa strada è stato interessante che questi due interventi di fatto sono tutti e due contro Renzi ma da due punti di vista opposti comunque gli ha detto una cosa molto forte nell'affermazione che i caminetti si fanno perché non c'è una proposta politica forte questo è un punto molto una dichiarazione impegnativa d'altra parte a questo punto bisognerebbe sapere cosa dirà e se parlerà Dario Franceschini per avere un quadro completo di tutte le correnti e di cosa fanno però certamente è di Martina Martina ha meno truppe diciamo così nei gruppi parlamentari però è sicuramente significativo però è l'ala settentrionale perché bisogna l'intreccio che ci sarà tra congresso e elezioni amministrative è cruciale proprio per Renzi perché una sconfitta alle amministrative si riverbererebbe sulla salute del partito per questo lui vuole anticipare il congresso proprio rispetto alle amministrative della partita e l'altra partita che c'è in corso in questo momento quando si dice presto sta parlando l'ex sindaco e fondatore del PD Piero Fassino in questo momento ma l'accenno il cenno diretto fatto da Orlando all'assenza di una di una linea politica di fatto manca la proposta politica e ci riporta a quella differenza che c'è tra il congresso per la leadership e il congresso per la determinazione della linea politica futura del PD e mi sembra questo lo scontro vero che riporta la politica perché questo è il problema di fondo dalla scena italiana è scomparsa proprio l'elaborazione politica io questo audicene stavo pensando lo dico a te che sei più anziano dei nostri sono più anziano anche di te beh insomma siamo lì ma sembra di rivivere le assemblee diciamo le direzioni della DC perché in realtà è il partito che tiene il governo all'interno del quale si decidono gli equilibri ormai le correnti sono numerose oggi il colliere ne contava 11 per difetto per difetto e con diciamo tutti siamo lì prendiamo le labbra di Orlando di Martina di Franceschi che con tutto il rispetto tre anni fa insomma eravamo meno attenti non sapevamo che esistessero diciamo no ma eravamo meno attenti a quello che dicevano quindi ci troviamo veramente in una situazione del genere e quindi è un passaggio veramente fondativo di questo partito democratico tu hai perfettamente ragione la questione è proprio quella facciamo le primarie per decidere chi è più bravo chi è più popolare più telegenico più capace e qui c'è Renzi c'è poco da fare oppure facciamo il congresso per stabilire dopo il segretario che linee deve seguire perché qui non si capisce se ci dobbiamo alleare con Alfano se ci dobbiamo alleare con Pisapia con tutti e due se sarà un listone una coalizione se avremo un candidato premier oppure poi lo farà come ha detto Renzi lo farà Oderrio o Gentiloni chi capita cioè veramente la incertezza è totale e credo che dovranno chiarirlo questo punto come è possibile fare un candidato premier nel momento in cui c'è una legge elettorale proporzionale no è chiaro che se non ci fosse oddio se ci fosse il premio alla coalizione cosa che ha chiesto Franceschini allora devi fare le primarie di coalizione come si facevano un tempo ti ricordi ma ci sono non ci sono i numeri probabilmente poi oltretutto vabbè ma questo poi si vedrà dopo le elezioni ma è fuori di dubbio che se si va col proporzionale non puoi proporre nessuno come candidato premier perché poi verrà dall'accordo con gli altri se ci sarà un accordo se ci sarà Strasburgo c'è solo candidato premier possibile di quella coalizione che è Berlusconi per quanto sembri una provocazione dirlo perché se devi fare l'alleanza con Forza Italia però scusa la proporzionale ha un'altra regola diciamo perché qui ormai bisogna andare la regola aurea della proporzionale è che il principale nemico con buona pace di quello che viene detto non è il più lontano è quello più vicino a te perché sono quelli i voti contendibili e già nel centro è già esplicito che Salvini comincerà a dire che Berlusconi non è abbastanza duro sull'immigrazione non è abbastanza trampiano e Berlusconi dirà che Salvini è uno sfascione l'ha già definito sbruffoncello quindi è perché i voti sono quelli sono quelli che tu devi acchiappare e se ci dovesse essere qualcosa del genere dentro il PD si assisterà allo stesso film se ci sarà l'accessione come sì esatto è l'inversione totale di tutto il percorso della vocazione maggioritaria che lanciò Beltroni e di cui Renzi sembrava diciamo così l'interprete più vincente che ha provato a evocare citando il lingotto ma in una maniera che insomma è l'inversione di marcia proprio però si dà l'idea comunque di un partito che ha perso la rotta no? e in cui le indicazioni che ci sono adesso la rotta mazione e e adesso ha difficoltà a trovarne una unificante perché prevalgono ovviamente gli interessi diversi è chiaro che scusate se vado sul personale Orlando non può essere il leader carismatico è una figura su cui molti fanno affidamento proprio perché non oscurerebbe sarebbe un primus inter pares no? è diverso ovviamente se tu fai la scelta di Renzi che è l'unica altra adesso sentiamo però chi è il vero avversario già indicato di Renzi ovvero speranza è cambiato alla minoranza è stata una discussione di alto livello e che per certi aspetti almeno a mia memoria mi pare essere tra le migliori degli ultimi anni e soprattutto prova ad indicare se abbiamo o non abbiamo un terreno vero comune che prescinde anche dal dibattito e dalle dinamiche politiche più quotidiane e io penso che partire di qui sia la cosa più giusta e e dobbiamo provare a capire se questo c'è perché guardate la sinistra nel mondo non Renzi perché sennò sembra che noi siamo sempre qui lo dico a me stesso a parlare di Renzi la sinistra nel mondo attraversa una crisi senza precedenti perché la sinistra è nata per combattere le diseguaglianze e per paradosso nel momento in cui le diseguaglianze esplodono in tutto il mondo appare senza parole l'unico uomo è Papa Francesco che è una parola forte su questi temi qui e allora esiste una domanda straordinaria che riguarda tutti noi e che può essere la base di una ripartenza comune Matteo siamo condannati a consegnare questa domanda di protezione di chi è stato sconfitto dentro la globalizzazione alle nuove destre ai populismi che avanzano o ci può essere una nostra strada guardate è una ricerca aperta senza risposte tu hai parlato di Macron a me affascina di più il tentativo di Hamon ma vediamo discutiamo confrontiamoci ma il punto di fondo qual è è che rispetto ad un mondo che è cambiato e rispetto a questa domanda di protezione fortissima che sta arrivando dai ceti sociali più deboli dei paesi occidentali e che non riconoscono più noi noi sinistra noi progressisti come interlocutori e noi siamo di fronte ad un'incapacità di offrire una risposta e allora anche il congresso che io penso sia auspicabile e che ritengo sia giusto per un grande partito il congresso nei fatti sta sostanzialmente già arrivando per la scadenza statutaria ha senso se prova a partire di qui e se dando una risposta a questo tema prova a riavvicinarci ad un mondo che si è allontanato da noi e qui io voglio dirvi fino in fondo la verità per come la penso nella chiarezza del nostro dibattito pubblico io caro segretario sono tra quelli che come sappiamo benissimo tutti io e te in modo particolare ha favorito l'inizio dei tuoi mille giorni a Palazzo Chigi credo di dire una cosa che tu conosca benissimo e che è anche reso pubblica in più di un'occasione io ho pensato nel febbraio del 2014 che di fronte ad un fiume in piena che stava venendo addosso a tutti noi perché questa era la fotografia di quei giorni la tua presenza a Palazzo Chigi potesse rappresentare una diga più alta questa è stata una valutazione politica con la stessa franchezza oggi io dico che dopo i mille giorni di governo in cui tu sei stato il capo ma che riguarda tutti noi io da parlamentare ho votato più di 50 fiducia una non ne ho votata sulla legge elettorale le ho votate tutte ma penso che dopo mille giorni di governo quella diga lì e in qualche modo non regge perché alcune scelte di fondo che noi abbiamo fatto e che hanno riguardato il corpo sociale di questo paese non hanno convinto e questo è un grande tema sento parlare di scissione continuamente e guardate però qui è no attenzione 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 a me non fa paura la scissione del futuro a me fa paura la scissione che c'è già stata e se serve un congresso non è un congresso per evitare una nuova scissione ma un congresso per provare a ricucire un popolo che oggi è in una situazione di grande difficoltà nei rapporti con noi e vi prego non credo di essere il solo io in questi giorni sto girando per l'Italia come immagino girino tanti di noi i nostri amministratori ma sono solo io a non vedere che c'è un pezzo della nostra gente che abbiamo perso per strada sono solo io a non vedere che in alcuni gangli tradizionalmente molto legati a noi noi siamo in crisi ne dico uno su tutti la scuola quel mondo lì lì c'è stata una frattura e allora io penso che il congresso se questo se il tentativo di una sterzata vera di un confronto vero su che cosa noi pensiamo debba essere la risposta nella versione italiana di questa crisi nella sinistra nel mondo allora va benissimo dico a Matteo Orfini il gioco delle figurine ma guardate il gioco delle figurine è un rischio in queste figurine mi ci metto anch'io io ho paura che la nostra discussione non riesca a stare a quel livello lì e ho paura e faccio autocritica lo dico a me stesso e alcune delle cose che ho ascoltato da Andrea Orlando oggi e in particolar modo la proposta di costruire un perimetro culturale prima del momento di conta più specifico mi sembra vadano nella direzione giusta allora io non voglio aggiungere altro perché mi pare che la discussione sia stata lunga vera approfondita ma penso che noi abbiamo il tempo per mettere il treno sui binari ed evitare chiederagli abbiamo il tempo per fare un lavoro al governo che serve qui permettetemi di dire una cosa sola sui referendum della CGL lì c'è una domanda politica di un pezzo di mondo che dove deve stare deve stare con Grillo deve stare con la destra o deve stare con noi milioni di cittadini che hanno raccolto quelle firme con chi devono stare nel progetto politico per il futuro di questo paese e allora io penso che dovremmo avere il coraggio di trasformare quel rischio del referendum in un'opportunità attraverso il lavoro parlamentare per provare a recuperare per provare a recuperare la sintonia con un mondo e si può fare così come penso non c'è il tempo di discuterne che in Parlamento subito bisogna lavorare senza caricature ad una nuova legge elettorale anche qui permettetemi di dirlo noi c'è un punto di mezzo noi appariamo come un pendolo impazzito alcune volte l'Italicum era la legge più maggioritaria del pianeta ora ci troviamo qualcosa di simile al proporzionale puro ma ci sarà qualcosa in mezzo ci sarà il modo di dar rappresentanza favorendo la governabilità è un grande tema chi lo fa? lo fa il PD perché noi abbiamo questa responsabilità Matteo io te la dico così tu dici non mi occupo della data delle elezioni ci sono gli addetti ai lavori forse io sono modestamente tra questi addetti ai lavori in quanto parlamentare della Repubblica ma tu sei il segretario del partito che esprime 400 parlamentari e allora io penso che la nostra discussione debba continuare con questo coraggio io sono molto preoccupato ho sentito in questa discussione il tentativo di trovare di trovare una strada uno spirito costruttivo perché non si rompa questo filo che mi rendo conto è più sottile di quello che forse noi immaginiamo però questo dipende dalla responsabilità di tutti io da parte mia farò il possibile ma credo che la responsabilità più grande sia esattamente nelle tue mani prima l'Italia allora queste le parole di lo giudice poi di Speranza Roberto Speranza si è andato a iscrivere a quella parte della direzione nazionale che dice prima organizziamo il perimetro degli argomenti dei temi congressuali e poi andiamo a fare il congresso che non è soltanto mettere le date nel senso di arrivare fino alla fine della legislatura che è quello che vuole anche Bersani e Speranza è vicinissima a Bersani anzi è il candidato di Bersani ma è anche incidere su quella che è una contraddizione che è stata proprio sollevata da Andrea Orlando quindi trovare un'alleanza nel partito per dire Matteo non è una gara a chi è il miglior candidato premier penso che anche tra di loro siano tutti d'accordo su chi sarebbe il miglior candidato premier oggi anche se molti lo vorrebbero vedere sparire chi vincerebbe le primarie ma diciamo qual è la linea politica e è evidente che c'è un partito molto dilaniato la stessa indicazione data dallo stesso Speranza che in Francia è chiaro Renzi voterebbe Macron e lui Speranza voterebbe Hamon tra i due c'è una distanza come ci può essere in Italia tra Pisapia e Salvini quasi come Salvini però insomma Macron è un uomo minimo Alfano insomma Macron è uno che più spregiudicatamente faceva l'indipendente vicino ai socialisti entrando al governo e poi adesso incide su tutte le contraddizioni dei socialisti possiamo dire che c'è la differenza che c'è tra i renziani e i bersagliani forse con l'aggiunta che Macron non è il candidato del PS no no appunto candidato però per dire che ci sono due partiti nel partito lo ha confermato indirettamente questo passaggio però lo chiedo prima a Antonio Polito che poi così salutiamo che avrebbe nel suo piccolo da fare il vice direttore del Corriere della Sera allora questo ci dimostra che in realtà le manovre sono in corso e che diciamo questa direzione non ha un esito scontato numericamente sappiamo che Renzi è la maggioranza però le parole di Orlando disegnano un quadro più contrastato si sta costruendo mi pare un abbozzo di maggioranza allora diciamo che lì per riprendere la tua metafora come si dividono si dividono quelli che non vogliono votare né per le elezioni politiche né per le primarie e quelli come Renzi che vogliono votare qualcosa o le elezioni politiche o le primarie ma qualcosa bisogna votare quindi questa è la divisione dalla discussione che stiamo sentendo si sta formando mi pare di capire una robusta coalizione di quelli che non vogliono votare perché Orlando che ce lo siamo detti è un po' un uomo di mezzo è un po' lago della bilancia quindi mai come stavolta bisogna sentire le conclusioni cioè capire se Renzi poi decide di comunque di forzare di dire ciò che non ha detto nella relazione oppure si piglia un altro po' di tempo perché ha capito che le cose sono un pochino più incerte naturalmente questo è come nel campionato di calcio quando dice le distanze sono rimaste invariate ma intanto è passato un'altra giornata cioè ogni giorno che passa e non si arriva allo showdown che Renzi vorrebbe è un giorno che allontana le elezioni perché poi i tempi non sono comprimibili cioè se vuoi votare a giugno bisogna fare delle cose rapidamente quindi chiaramente per quelli che non vogliono votare guadagnare tempo è comunque un passo avanti anche se c'è un non detto l'unico che ha parlato esplicitamente di questo è stato Bersani che ha detto io secondo me dovremmo rivendicare perché o la disputa è tecnica e tutto vale tutto o la disputa è politica e uno dice è un valore portare a termine la legislatura ha detto Bersani che è quello che ha portato dentro nella legislatura gli eletti perché era lui il candidato premier e segretario del partito che poi tra mille vicissitudini ha ottenuto il premio di maggioranza ed è per questo che come ha ricordato Speranza a Renzi ci sono 400 parlamentari del PD su 960 quanti sono i parlamentari complessivamente quindi c'è soltanto Bersani che ha una linea politica della legislatura che deve andare a termine poi ci sono posizioni tattiche conviene di più andare presto conviene di più andare più avanti conviene andare fino in fondo e su questo mi pare che siano in tanti a rallentare vero Marco si vede con chiarezza accidenti per rallentare Renzi per comprare tempo o per rallentare Renzi cioè sapendo che a Renzi conviene andare è quello io penso che un pezzo di partito continui a guardare Renzi anche lo stesso Orlanno ha detto continuo a guardare Renzi come il leader il segretario cioè non mettono in dubbio la leadership a condizione che Renzi non metta a repentaglio il governo Gentiloni la durata della legislatura ecco mi sembra questo il punto in cui si incrociano i pezzi l'altra cosa che stiamo commentando una direzione stiamo commentando una partita nel suo svolgimento l'altra cosa impressionante è che tra gli intervenuti non c'è un relatore di peso un oratore di peso che rivendichi il renzismo anche Renzi nella relazione ha detto ha usato questo termine non so cosa sia il renzismo i mille giorni di governo un certo modo di concepire la politica un certo modo di esercitare la leadership però quello che stiamo vedendo ormai da un paio d'ore è che è un lungo elenco di distinguo qualcuno ha assunto addirittura i toni del processo perché Michele Emiliano che è un ex magistrato ha rimesso la toga addirittura ha detto sei lontanissimo dalla gente più di quanto lo sia il partito che è un po' tutto dire ma non c'è un avvocato difensore non c'è qualcuno che sale lì e rivendica e rivendica intanto il passato e anche che abbozzi una linea politica futura perché la linea politica futura effettivamente non c'è credo che si debba leggere questa direzione dove naturalmente Renzi ha sicuramente la maggioranza per come è strutturata però è un avvertimento molto pesante sul fronte dei gruppi parlamentari cioè il riflesso di questa direzione se uno la dovesse sovrapporre alle geometrie dei gruppi parlamentari invece insomma non è così da un segno più di isolamento di Renzi e quindi questo forse è anche l'elemento che lo costringe ad accettare l'allungamento dei tempi poi bisogna vedere cosa mette sul piatto in cambio di questo possiamo dire che si delinea e così andiamo in pubblicità salutando Polito si delinea una costituzionalizzazione della monarchia renziana perlomeno? beh sai lui l'ha definito Camiletto che più un po' è quello ci si siede intorno alla tavola rotonda e si concorda tutto che poi sostanzialmente è quello che ha chiesto Orlando adesso si si però con una con una variabile perché noi non dobbiamo essere così ingenui da non sapere che in tutti quelli che vogliono costituzionalizzare la monarchia ci sono anche molti reggicidi cioè gente che dice la costituzionalizziamo così alle amministrative prende un'altra scoppola il congresso si fa dopo il congresso si fa dopo gli italiani se lo dimenticano eccetera eccetera e poi dopo ce ne liberiamo perché per onestà chi vuole allungare i tempi ha anche qualcuno ha anche questo retro pensiero è vero hai fatto bene a Sottolineano però un po' me la tiri allora ulteriormente un aspetto che non si è tracciato è il sollievo generale per per il cambio di passo di Gentiloni cioè il rallentamento che ha comportato il governo Gentiloni cioè la fine di quella cosa stressante continuativamente stressante che è stata l'attività triennale di Renzi sempre a passo di corsa per tutti a inseguirlo non solo i giornalisti ma anche i suoi compagni di partito e i suoi alleati il sollievo generale per un ritorno a modalità ma quando dici generale intendi anche nell'opinione pubblica perché i sondaggi puri lo segnalano questo elemento meno ansiogeno poi naturalmente intendiamoci queste cose durano poco poi Gentiloni tra un mese gli si dirà che non lo si vede mai che non parla mai che non dice niente che non fa che il governo non fa niente l'opinione è volubile insomma si sa però è vero in questo momento perché onestamente una delle ragioni della sconfitta del referendum è stato questo elemento di ansia palingenetica che lui metteva sulla sua azione cioè la prima volta che abbiamo fatto questo anche oggi non è sfuggito la sua tentazione di buttare la slide una c'è stata fatto zero all'inizio dell'anno 2015 cioè abbiamo battuto la Germania abbiamo battuto la Germania da quando ci sto io abbiamo battuto la Germania ora questa è lui aveva promesso meno slide più cuore Matteo andiamo a Berlino come disse Bergo mia carezza la famosa frase non lo so più andiamo a Berlino in mondiale quando fu battuta la Germania nella famosa semifinale ed è una di quelle frasi che restano in un immaginario collettivo andiamo a Berlino ed è questo sì la volontà di Renzi di essere sempre però il portatore di un elemento di novità un passo sempre avanti non mai restare fermi chi si ferma è perduto sembrerebbe il sottotesto di Renzi non è caso forse non è caso però mi sembra che l'accerchiamento sia in corso sì sì io voglio dirlo siccome sono stato anche un critico diciamo di questa di questi tratti del renzismo di Renzi però bisogna sapere anche che dentro diciamo la moderazione di chi vuole riportarla a piumi di consigli c'è anche c'è anche i fattori della paludia c'è i fattori di quelli che vogliono tornare a una situazione in cui poi le cose si decidono nel chiuso di una stanza in una riunione di corrente piuttosto che il consociativismo diciamo che va bene allora ringraziamo Antonio Polito andiamo in pubblicità e dopo però incombono interventi importanti a tra poco eccoci qui ancora con la nostra trasmissione qualcuno dirà maratona ma se ormai si dice per tutte le trasmissioni durano più di un minuto comunque la nostra trasmissione in diretta vediamo le immagini c'è Lella Paita che fu candidata e sfortunata alla guida della regione Liguria battuta dal forzista Toti che sta ultimando il suo intervento che si è esercitata bene e si è costruita all'interno di un perito che trova all'esterno c'è Emiliano andiamo con Celata Emiliano consentire agli italiani di scegliere e bisogna consentire anche a tutti coloro che sono usciti dal partito democratico perché non gradivano la segreteria Renzi di rientrare per poter partecipare al congresso questo è molto importante per la fase preliminare meno per diciamo le primarie con le quali il congresso si conclude e un'altra cosa noi abbiamo le elezioni amministrative non si vorrà costringere il partito democratico a fare insieme il congresso o le elezioni amministrative quindi la data giusta per fare un congresso che consenta a tutti di fare bene il proprio lavoro è da settembre ottobre settembre ottobre peraltro è la migliore delle maniere per partire poi verso le elezioni politiche a febbraio Renzi vuole il congresso d'aprile invece? Renzi ha solo un compito in questo momento tutelare il governo Gentiloni il governo Gentiloni deve andare avanti questa è una cosa unanime la sua dichiarazione sul fatto che il destino del governo deve essere deciso da alcuni addetti ai lavori è singolare spiritosa ma l'unico addetto ai lavori che può decidere una cosa del genere è il segretario del partito democratico quindi se lui decide che il governo può andare fino in fondo torniamo dentro nella sala perché parla un altro delle figure chiave Martina Maurizio Martina ministro delle politiche agricole che è una con Orlando una delle due figure chiave del centro del partito ma rimangono ovviamente aperti alcuni nodi risolti che hanno molto però a che vedere con le questioni che anche qui abbiamo in parte sfiorato a proposito di sovranismo di protezione di globalizzazione del tempo in cui stiamo diciamo che dall'osservatorio agricolo questi queste grandi fratture si vedono e si vede tutta l'insufficienza delle risposte che in generale il campo progressista sta dando diciamo che se dovessi muovere la riflessione a partire da questo vi direi concretamente quanto insufficiente il pensiero del campo progressista ben oltre i nostri confini quanto in realtà celata con Emiliano Roberto Speranza ci sono molte persone che stanno facendo un lavoro per evitare che il segretario abbia come unica preoccupazione il seguito della sua carriera politica se il segretario si interessa al paese e al partito in quest'ordine troverà certamente la maniera per farci fare un congresso come si deve per sostenere bene il governo Gentiloni e per andare alle elezioni a tempo debito come peraltro gli italiani vogliono tutti i sondaggi dicono ciò che dice la Costituzione e cioè che le legislature devono andare fino al loro esito naturale grazie a tutti ecco grazie abbiamo sentito torniamo dentro torniamo da Martina che è l'ultimo intervento prima della replica di Renzi poi ci sarà la votazione sulla assemblea nazionale convocata per sabato prossimo dai giudizi che abbiamo rispetto ai mille giorni alle leadership a chi ha fatto bene a chi ha fatto male a come si vive dentro questo partito pluralismo unità tema irrisolto io non riesco a trovare un'altra soluzione che non quella di interpretare una fase congressuale che ci dia la possibilità di sciogliere questi nodi capisco alcune iniziative che sono state avanzate anche qui dico la verità le trovo di bassa intensità rispetto ai nodi che abbiamo davanti che sono nodi anche di leadership è inutile stare a girarci attorno si sta ponendo da mesi una questione di leadership anche di leadership e penso che in una discussione come la nostra l'abbiamo già abbondantemente apparecchiata sui giornali e sui media ma ci stia anche discutere di questo secondo punto in relazione a a questo elemento io ho fiducia del nostro popolo tutte le volte che noi abbiamo chiamato ad una corresponsabilità partecipativa la gente che ha voluto provare a star dentro questo percorso questa gente ci ha stupito e non ci sto a rappresentare questi percorsi solo con le iniziative deplorevoli che magari vanno arginate per tempo e dobbiamo evitare perché la storia dei nostri passaggi ben prima che arrivasse questo segretario anche in relazione a come abbiamo interpretato questa via di rapporto con i cittadini è una storia importante io non ci sto a buttarla via perché abbiamo vissuto alcuni passaggi che magari hanno anche inquinato rovinato questa storia continuo a pensare che noi dobbiamo provare a costruire degli strumenti di larga partecipazione e ricordo bene che conta fa la differenza non tanto lo strumento anche ma la qualità della proposta e soprattutto la capacità che ciascuna leadership ciascuna proposta avrà di interpretare questo tentativo non ci sarà nessuna regola che risolverà questo problema se non facciamo un salto di qualità nel modo con cui noi concepiamo anche questi passaggi congressuali non ci sarà nessuna regola che ci metterà al riparo dai tentativi che talvolta ahimè vengono animati anche dai gruppi dirigenti mettiamoci tutti dentro maggioranze minoranze di far saltare quel minimo comun denominatore che rimane fondamentale per far vivere tanto una conferenza programmatica quanto una primaria guardate che la gente è un po' più avanti di noi la capisce al volo questa cosa la capisce al volo questa cosa se noi non siamo sinceri allora io credo che provare a percorrere tutti insieme anche per i toni che sono stati utilizzati qui anche per le questioni che sono emerse c'è una parte del dibattito di oggi che io considero assolutamente preziosa anch'io ho bisogno di discutere a proposito di prezzo del grano di come si protegge nel tempo della globalizzazione ho un maledetto bisogno di capire come organizzo gli strumenti della protezione nella globalizzazione non mi interessa percorrere le vie già percorse in anni passati so benissimo che questa questione è una questione che ha molto a che vedere col campo progressista ho bisogno di risposte nuove ma non demolendo l'esperienza che abbiamo fatto fin qui perché se penso alla battaglia europea che abbiamo cercato di condurre se penso alle iniziative che abbiamo iniziato e abbiamo cercato di sviluppare in questi mille giorni di governo anch'io non sono soddisfatto però voglio anche riconoscere gli avanzamenti voglio anche sentirmi una comunità che riconosce lo sforzo poi guarda Matteo metterci in discussione di più sì 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 ci sto so benissimo che anche noi abbiamo commesso errori che potevamo essere più forti più radicali su certi temi che c'è mancato a un certo punto la possibilità di stringere per mio conto ad esempio stiamo andando troppo lenti sulle iniziative di contrasto alla povertà e non ne faccio una questione del ministro e basta o del rapporto che abbiamo noi perché ci lavoriamo ma stiamo andando troppo lenti perché se un pezzo di quel lavoro fosse concretizzato segliete voi la via noi forse oggi avremmo anche un argine un po' più alto a certe deformazioni a certe dinamiche a certi problemi allora mi interessa discutere così mi interessa costruire un'agenda di governo che sia in sintonia con questo sforzo io ci sto anche a calibrare un'agenda di governo che affronti questi nodi ora non tra un po' ora a partire dalla povertà per arrivare anche a alcuni temi che sono stati posti si è detto dello Ius Solis secondo me sì assolutamente è un grande tema delle prossime settimane ci aggiungo il testamento biologico guardano alcune questioni del lavoro e perché e perché questo e perché questo non può essere il terreno su cui rilanciamo rilanciamo l'iniziativa del partito democratico responsabile al governo in questo tempo e nel contempo apriamo un percorso congressuale che deve vederci uniti nella possibilità di esprimere un confronto plurale aperto come sappiamo fare noi io credo in questo sforzo non mi rassegno all'idea che siccome abbiamo paura della nostra discussione rinviamo ancora una volta questo nodo facciamolo insieme facciamolo responsabilmente ciascuno di noi ho finito lo dico per me non mi vengono le battute forti ma utilizziamo delle norme di linguaggio che riescano a trasferire anche fuori dai nostri ambienti che questa è una comunità per davvero facciamolo si può fare non è vero che non si può fare nella pluralità allora io vorrei che compissimo questo sforzo e vorrei che questo lavoro sia a fiancarsi a un lavoro che sviluppa la sua iniziativa vediamo vediamo di intenderci Martina cerca un un raccordo tra tutti coloro che vogliono andare a un congresso ragionato dialogato il più possibile consensuale per fare l'operazione che in altri termini anche Orlando e altri intervenuti hanno indicato quella di riavvicinare il partito democratico a quella parte del suo popolo che lo ha abbandonato in questi anni tra pochi secondi riprende la parola Renzi per la replica secondo te da Milano è impossibile non abbiamo una sfera e poi basterebbe aspettare qualche minuto per saperlo senza interrogare adesso mi fai fare una previsione che sarà smentita tra pochi assolutamente non ti vorrei così male ma quello che ti voglio chiedere è si è mai trovato in questa situazione era questa la domanda più facile no perché non abbiamo mai assistito a un pomeriggio in cui fosse così evidentemente messo in minoranza anche se il voto anche se in maggioranza anche se in maggioranza perché le truppe della direzione sono quelle dei rapporti di forza costruiti nel congresso del 2013 quindi c'è una maggioranza solidamente renziana che alla fine voterà la linea del segretario però il punto è che nella relazione questa linea non è stata espressa né in termini di roadmap quando come cosa non è mai stata detta la parola di missioni non è stato detto cosa pensa Renzi del governo Gentiloni e dei tanti temi che qua e là sono spuntati mentre invece gli altri hanno messo in campo una serie di condizioni e un abbozzo di linea che è quello di isolare il segretario forse per ucciderlo in un secondo momento però su questo almeno oggi pomeriggio probabilmente ci sono due linee di pensiero diverse sei d'accordo Alessandro? sì perché c'è chi ancora e l'ha anche detto lo considera comunque l'asset ha voluto preservare insomma l'idea che un'alternativa in realtà non c'è nelle alternative che si sono profilate come Speranza e Emiliano in realtà non si riconoscono tutti quelli che pure sono stati critici nei confronti di Renzi ecco che ora dovrebbe prendere la parola dovrebbe toccare proprio proprio a Renzi aspetta forse c'è un altro intervento sì che forse è De Luca vediamo chi è beh De Luca lo sentiamo andiamo a sentire il dibattito di questi due mesi a un cristiano normale credo che sarei stato in grandissima difficoltà siamo arrivati sinceramente a punte di masochismo inimmaginabili eppure avevamo la possibilità attraverso una riflessione autocritica rigorosa seria il colpo preso e pesante di ricominciare il nostro cammino abbiamo visto invece rimperversare altri soggetti politici a cominciare da quell'emminente webmaster dei 5 stelle che reduce dalla sua battaglia contro la storia geografia e ultimamente contro la grammatica si è riproposto diciamo all'attenzione dell'opinione pubblica come possibile guida dell'italia carico ovviamente della nuova gloria acquisita nel governo di roma capitale dove sono state introdotte come abbiamo visto forti novità politiche dalle accettazioni delle dimissioni con riserva alle polizze al milite ignoto diciamo ripartiamo vorrei ripartire da una indicazione data dal segretario del partito all'indomani del voto riferendario ripartiamo dall'italia reale che significa per me ripartire dai punti di crisi che si sono determinati fra il nostro partito e l'Italia dopo il referendum non dobbiamo raccontarci le cose in qualche caso davvero straordinarie fatte dal governo Renzi dobbiamo ragionare sulle difficoltà sui punti di crisi sulle rotture che si sono determinate con la società italiana e che sono state messe in evidenza dal referendum il sud in larga misura del sud il PD è un corpo estraneo abbiamo un tema che a mio parere è ineludibile il rapporto con la disoccupazione giovanile del sud è ineludibile il centro nord ha recuperato tutti i posti di lavoro perduti dall'inizio della crisi nel sud siamo sotto di 500 mila posti di lavoro abbiamo calcolato ne parlavamo con Giuliano Poletti che in questo anno i lavoratori che rimarranno senza protezione sociale saranno 200 mila una questione sociale gigantesca da fare paura io credo che dobbiamo avere il coraggio di mettere in campo un piano per il lavoro per i disoccupati del sud so bene non ce lo ripetiamo che sono in campo iniziative di grandissimo rilievo abbiamo provato un patto per il sud qui a lavoratore vincenti con grande intensità abbiamo un masterplan che sta andando avanti abbiamo avuto risultati per la defiscalizzazione di un'area sociali credito d'imposta va bene tutto ma dobbiamo capire che siamo a un punto tale di crisi sociale che questa crisi sociale sta diventando una crisi democratica dopo tre anni di crisi in America è venuto fuori il new deal dopo dieci anni di crisi in Italia e in Europa dobbiamo produrre pensieri nuovi e coraggio non possiamo gestire una crisi di questa dimensione con l'ordinaria amministrazione e non possiamo dire ad una intera generazione devi aspettare altri cinque anni non reggiamo dunque lavoriamo lo stiamo facendo a un grande piano di inserimento di centinaia di migliaia di giovani laureati e diplomati nella pubblica amministrazione so che quando diciamo questa cosa si comincia a tremare io credo che noi abbiamo dei vincoli di bilancio che sono insuperabili abbiamo una media ai dipendenti pubblici che deve attestarsi su quella della Germania e della Francia ma veniamo anche da decenni di blocco del turnover da un invecchiamento della pubblica amministrazione da una impossibilità di fare programmi di informatizzazione se ragioniamo con serietà e con rigore scaglionando nel tempo le retribuzioni noi siamo in grado di dare una speranza di vita e di lavoro a decine di migliaia di giovani diplomati e laureati l'alternativa è la desertificazione sociale di interi territori e campo libero alla demagogia dei 5 stelle al reddito di cittadinanza scuola io credo che dobbiamo trovare il coraggio di chiedere scusa al mondo della scuola dobbiamo ricostruire una sintonia umana con un mondo che si è separato a volte in maniera violenta da noi ho registrato in questi mesi che il problema non era soltanto l'algoritmo il ruolo dei presidi la scelta fra stabilizzazione e famiglia c'è tutto un mondo che è avvertito come una violenza burocratica su di sé come una mancanza di rispetto credo che dobbiamo ricostruire con umiltà questo rapporto per fare poi le modifiche legislative a cui si sta lavorando e per poter anche sulla base di una ripristinata sintonia umana rivendicare anche scelte storiche 3 miliardi di euro al mondo della scuola sono una scelta storica e decine di migliaia di docenti stabilizzati sono stati una scelta di civiltà mondo della pubblica amministrazione credo che concordiamo tutti quanti sul fatto che occorre combattere aree di parassitismo e di inefficienza vorrei evitare parliamo con grande chiarezza che facessimo il bis della riforma sulla scuola devo dire che in questi mesi è arrivato un unico messaggio al mondo della pubblica amministrazione ed è un messaggio punitivo e in qualche caso intimidatorio non va bene così parliamo di centinaia di migliaia di dipendenti che vengono a sette anni di mancato rinnovo contrattuale e parliamo di dirigenti che vivono una condizione di lavoro con terrore noi siamo arrivati in questo paese a verificare che non arrivano i contributi alle famiglie dei terremotati che a volte non arriva uno spazzaneve per il conflitto di competenze bene c'è un nodo che dobbiamo deciderci a sciogliere senza il quale non si muoverà una foglia quali che siano le riforme ed è quella legge che in nome della moralizzazione della pubblica amministrazione ha approvato un provvedimento assolutamente demenziare a ragione da Vigo non abbiamo eliminato la corruzione abbiamo solo aumentato il prezzo delle tangenti mi riferisco a quella norma che prevede che per una condanna in primo grado per abuso d'ufficio un dirigente pubblico riceve il dimezzamento dello stipendio il demanzionamento e lo spostamento a settori non operativi non c'è più nessuno fra i dirigenti dei settori tecnici disponibile a mettere una firma su una variante urbanistica su una procedura che comporti una qualche assunzione di responsabilità ormai l'unica legge dominante è diventata quella per la quale bisogna mettere a posto le carte non arrivare al risultato mettere a posto le carte io chiedo che su questo punto noi in tempi rapidi la prossima settimana approviamo un decreto che ripristini un elemento di civiltà giuridica e poi che si dia mandato ad una commissione distretta ministero della giustizia ANM associazione anticorruzione si definiscano i limiti e i contenuti del reato di abuso ufficio in queste condizioni l'Italia rimarrà una grande parude burocratica c'è un altro grande capitolo di riflessione su cui registro punte di criticità il grande campo dei lavori pubblici degli enti locali delle province non abbiamo tempo di approfondire io penso che condividiamo ovviamente il lavoro di Graziano del Rio per la molarizzazione del campo dei lavori pubblici credo che dobbiamo fare sempre di più per introdurre elementi di rigore non sono convinto delle soluzioni che abbiamo adottato con la legge nuova sugli apparti io credo che in queste condizioni noi non apriamo un cantiere tempi amministrativi alla mano prima della fine del 2018 non credo che possiamo reggere in queste condizioni credo che abbiamo la necessità avendo condiviso con Graziano gli obiettivi di fondo di mettere mano a questa normativa perché se si blocca o si paralizza quello che è il settore anticiclico per eccellenza abbiamo ascoltato in gran parte dell'intervento del presidente della regione Campania perché sappiamo che De Luca è sempre pirotecnico lo è stato nell'attacco iniziale avete sentito ai 5 stelle ma lo è stato soprattutto anche in un'analisi spietata spietata autocritica spietata e soprattutto la critica ovviamente più dura è stata nei confronti del provvedimento cosiddetto della buona scuola la riforma che è costata carissima secondo l'opinione presso unanime dei commentatori a Matteo Renzi e forse anche con un riverbero sullo stesso referendum di dicembre comunque ha detto nel sud il PD è un corpo estraneo tutto il sud è governato dal PD in questo momento la disamina sulla condizione giovanile numeri alla mano nel mezzogiorno e anche sulla perdita di occupati in generale nel mezzogiorno a differenza che nel centro nord la dice lunga sulla carica che c'è ha parlato come un dirigente svincolato mi pare dallo sequio nei confronti della maggioranza renziana e adesso è entrato ha un dente avvelenato personale l'abuso d'ufficio è proprio come si sa l'ha fatto in specie di reato per cui era stato condannato in primo grado e assolto in appello su cui c'è stata anche la campagna su di lui e anche la famosa disputa intestina con Rosi e Bindi torniamo a vedere a sentire il finale poi vediamo se ci sarà Renzi subito dopo di lui possiamo richiamarne altri c'è un grande campo di riflessione comune anche di innovazione so bene lo diceva il segretario avremmo avuto bisogno di innovazione anche se avessimo vinto il referente so bene che non possiamo presentarci come tre anni fa davanti all'Italia intanto perché abbiamo tre anni di governo alle spalle ma poi perché alcune speranze si sono consumate alcune parole hanno perso significato abbiamo bisogno di innovare in maniera radicale credo che ci siano tutte le condizioni per farlo abbiamo davanti a noi ho citato alcuni titoli un grande campo di riflessione comune davvero non è possibile trovare una linea unitaria una possibilità di convivenza ragionando su questi grandi temi che sono quelli che interessano il 90% dei cittadini italiani allora vediamovi capirci con grande chiarezza io guarderei come a una tragedia un'eventuale divisione del partito Antonio Gramsci diceva che la tolleranza è il predicato dell'intransigenza raccomanda a noi stessi a tutti noi di avere una tenace pazienza capiamoci bene se la preoccupazione è di evitare la dittatura della maggioranza io sono d'accordo se la preoccupazione è di garantire a ognuno di non essere ospite in questo partito ma cittadino a pieno titolo io sono d'accordo se il problema è garantire lo spazio alla dialettica politica e anche al dissenso io sono d'accordo se il problema è garantire anche rappresentanze istituzionali equilibrate io sono d'accordo ma se si immagina che la dialettica politica interna debba tradursi in una interdizione nei confronti del diritto e del dovere di un segretario eletto di esprimere la propria direzione io non sono d'accordo e se si immagina che la dialettica politica debba arrivare al punto che anche il voto di fiducia sul governo debba diventare opinabile beh non credo che questa sia vita democratica questa è un'altra cosa che ci paralizzerebbe posso capire una volta un voto di coscienza ma se la coscienza si dilata all'infinito beh lo possiamo consentire anni costumbo ma non di più la coscienza una volta due ma poi il voto di fiducia deve essere un vincolo di lealtà per tutti allora ho finito io davvero credo che ci siano le condizioni sulla base di una riflessione seria di fondo e anche di una innovazione radicale rispetto ai punti di crisi per andare avanti e riprendere il cammino consapevoli voglio credere che lo siamo che questa è l'unica classe dirigente con tutti i suoi limiti a disposizione dell'Italia e voglio credere che siamo tutti consapevoli che al destino di questo partito è legata in ultima analisi l'unica possibilità di vita di questo paese della povera gente grazie grazie come al solito mi scuso con tutti quelli che non riusciranno a parlare però sono le 7.10 quindi siamo 10 minuti oltre i tempi che ci eravamo dati e quindi dare la parola al segretario per una replica allora parla parla Matteo Renzi la sua replica poi c'è il voto i punti che sono stati posti la linea della replica è che condivido ciò che ha detto Maurizio Martina io ho fiducia nella nostra gente noi non siamo i soli a rappresentare il partito democratico ci sono centinaia di migliaia di iscritti che rappresentano il partito democratico che possono essere più o meno apprezzati più o meno coinvolti ma hanno una grande chance di coinvolgimento a partire dal congresso ci sono milioni di persone che hanno partecipato alle consultazioni primarie in passato e noi ci auguriamo che siano altrettanti nelle prossime quando esse siano e soprattutto io penso che dopo due mesi in cui tutte le volte che abbiamo avanzato delle proposte il giorno dopo ci è stato detto di cambiare posizione credo che a un certo punto un punto vada messo non io non noi ma l'assemblea che è sovrana in questo senso mi piace l'idea ho visto che sono state raccolte alcune firme per un documento perché l'assemblea si svolga il prima possibile e l'assemblea che ha la sovranità statutaria per decidere sia i tempi del congresso che le modalità possa esprimersi in pieno rispetto delle regole statutarie amici e compagni se siamo in una fase in cui per due mesi c'è una disponibilità totale al punto da cambiare linea una volta alla settimana perché diciamocelo abbiamo cambiato linea una volta alla settimana per venire incontro alle esigenze di tutti e tutte le volte viene spostata e Andrea te lo dico con affetto la conferenza programmatica è quella di quattro puntate fa poi siamo passati alle primarie alla contendibilità al momento di confronto al congresso al congresso in tempi anticipati al congresso regolare e allora io credo che l'assemblea debba decidere con molta chiarezza che il congresso si faccia nei tempi che l'assemblea deciderà lodo Piero Fassino che di congressi se ne intende Piero ha spiegato molto chiaramente su questo dunque non sono io che decido i tempi del congresso sarà l'assemblea come prevede lo statuto di questo partito perché noi rispettiamo le regole in un momento di difficoltà a maggior ragione secondo punto Michele Emiliano pone una serie di elementi faccio la faccetta carina pone una serie di elementi specifici ne rispondo soltanto ad alcuni quelli che credo possano riguardare il dibattito di tutti in primis si può fare un congresso con la legge elettorale ancora in itinere beh l'altra volta Michele lo ricorderà perché io partì da Bari non soltanto c'era una legge elettorale in itinere ma c'era una sentenza della Corte Costituzionale pendente e uno di noi in sciopero della fame e noi facemmo un congresso molto ampio su molto serio molto bello molto discusso nel senso di molto appassionato fu uno dei meno discussi dal punto di vista invece delle regole e quindi la legge elettorale è evidente che non è un elemento ostativo al congresso per nessun articolo né dello statuto né del buon senso della politica invece rispetto alla questione del referendum abbiamo opinioni diverse probabilmente sono stati fatti degli errori ragione Michele e probabilmente anche noi quando abbiamo fatto il tentativo di bloccarne 5 su 6 già che c'eravamo potevamo bloccarne 6 su 6 dall'altro lato è vero che non era quell'argomento che invece è stato utilizzato ma ormai appartiene al passato però Michele non ti ho mai offeso quella sera e forse mi confondi se vuoi polemizzare con qualcuno dove è andato Ernesto che è molto più bello di me che ti fece un ciaone di cui si sono sentiti gli ecchi si è sentita l'eco fino ai mesi appena trascorsi mai e poi mai mi sono permesso di dire una parola contro in particolar modo in una dinamica che per noi era difficilissima da spiegare perché c'era un voto importante mi ha fatto male questo sì Michele quando tu hai definito il governo assassino quando parlavamo di Ilva e ne abbiamo parlato tante volte non era un tuo sosia quello che a Taranto insieme a me a Claudio De Vincenti ha affrontato per tre volte anche le critiche e una volta con il tuo fare che io trovo molto simpatico ma hai anche lasciato nella stanza chiusa con la dottoressa dei pediatri con la presidente dei pediatri quindi evidentemente c'è un po' di confusione sul racconto del passato sì Claudio De Vincenti non l'ha presa benissimo è una persona molto brava ogni tanto si arrabbia ma sostenere che non si sia mai parlato di Ilva quando siamo stati qualcuno ci ha fatto il viottolo a Taranto e non soltanto Claudio ma anche Graziano in precedenza trovo che sia un po' ingiusto il tema dell'Ilva è un tema che sarà interessante approfondire e affrontare lo faremo sicuramente anche in futuro elezioni quando? lo dico a Pierluigi io non ne sto fuori Pierluigi in modo tattico ne sto fuori per convinzione per un modo ti dico come la penso poi naturalmente ciascuno ha la sua opinione a me pare che naturalmente noi abbiamo preso una decisione in direzione a chi mi dice il segretario abbiamo preso una decisione in direzione e poi abbiamo deciso di fare il congresso se qualcuno vorrà utilizzare il congresso per dare la linea sulle elezioni lo faccia io credo che sarebbe irrispettoso perché penso che la decisione su quando si va a votare la deve prendere il Presidente del Consiglio i Ministri e i Parlamentari mi sembra di avere un atteggiamento di una serietà e di un rigore istituzionale che è la risposta più chiara a chi cerca tutti i giorni di preoccuparsi soltanto della data delle elezioni che si voti a giugno a settembre a ottobre a febbraio per me è un tema che non riguarda l'essenza del Partito Democratico riguarda le aspirazioni le ambizioni i desideri delle persone ma se da due mesi siamo fermi nella nostra discussione possiamo davvero far credere a qualcuno fuori da casa che tutto il tema sia quando si va a votare possiamo davvero far credere a casa che l'unica cosa che ci anima è quando andremo a confrontarci e non cosa diremo io penso che sia più serio nei confronti del governo sostenere il governo dare una mano al governo cercare di lavorare sulle grandi battaglie in Europa assistere a quello che sta accadendo a livello di Parlamento europeo di istituzioni europee e smetterla con l'ansia autoreferenziale di pensare soltanto a quella che è la durata della legislatura che interessa gli addetti ai lavori quando gli italiani vogliono risposte che noi possiamo dare e sono in prima fila per dire che il dibattito congressuale debba essere sui contenuti noi sabato o domenica quando faremo l'assemblea vedremo arriveremo con un manifesto con delle idee precise ma la costruzione del programma non potrà che venire dal basso e questo è un punto molto importante perché se c'è stato un limite lo avete detto io lo riconosco nell'azione di governo è che talvolta si è dato l'idea di un riformismo dall'alto non soltanto sulla scuola anche sulle cose riuscite meglio si è dato l'idea che certe scelte le facessimo noi e che poi le spiegassimo fuori bene a cosa servono gli errori a ripartire e allora da sabato o da domenica quello che sarà metteremo in campo uno strumento di coinvolgimento molto serio non è più tempo dei giri per l'Italia con gli sciò teatrali ma di un tavolo Sandra ricorderà alcuni momenti del passato che sicuramente la emozionano in cui innanzitutto ascoltare è tempo innanzitutto di mettersi in confronto ma senza negare che ciò che è stato fatto non appartiene a qualcun altro appartiene alla storia più straordinariamente impegnativa che abbiamo fatto in questi tre anni la storia condivisa di un partito e di un Parlamento che ha fatto delle cose che sembravano in questa legislatura impossibili e le ha fatte lasciatemelo dire a testa alta senza paura di rischiare senza paura di mettersi in gioco e non riguarda soltanto i diritti riguarda anche la sfera dei doveri perché quando questo Paese continua a riflettere su temi come quelli che riguardano il sociale in modo diverso dal passato io sono orgoglioso dei denari in più che abbiamo messo in questo settore e sono in prima fila a augurare al Parlamento a incitare il Parlamento a stimolare il Parlamento a spronare il Parlamento perché le tante questioni rimaste a metà siano portate a casa fatelo fatelo con lo spirito il coraggio e l'orgoglio di chi crede nelle proposte che ha fatto ma allora smettiamo di stare da due mesi soltanto a discutere di questioni che fuori da qui non interessano e su questo per essere chiari e chiudere fino in fondo amici e compagni c'è un limite a tutto c'è un limite a tutto abbiamo detto di fare il congresso c'è stato detto di no abbiamo detto di fare l'assemblea c'è stato detto di no abbiamo detto di fare la conferenza programmatica c'è stato detto di no De Luca ha detto che siamo dei masochisti io trovo una definizione geniale quella di chi ha detto sai chi è il sadico il sadico è uno gentile con i masochisti io non posso essere sadico in questa discussione io non posso pensare che la gente che sta alle feste dell'unità e che rimette in piedi e che anche quest'anno farà le feste dell'unità ci venga a raccontare per l'ennesima volta che noi stiamo sei mesi a discutere tra di noi su che cosa sul niente allora tutto ciò che serve per creare un clima in cui ciascuno si senta a casa sua sarà fatto ma quando qualcuno che sta nel partito democratico ha paura di confrontarsi con la propria gente con le regole che valgono per tutti noi con i modalità che sono state scelte la scorsa volta non con modalità che ci inventiamo se qualcuno ha paura del confronto lo deve dire io vorrei che le porte fossero aperte spalancate e che ciascuno di noi si sentisse a casa con il sorriso sulle labbra con l'entusiasmo di poter dare una mano ma anche con la consapevolezza che l'ennesimo rinvio e l'ennesimo passo indietro non sarebbe capito nemmeno dai nostri dunque avete chiesto il congresso venite andiamo a fare un bel congresso con il sorriso sulle labbra e con l'entusiasmo di chissà che da questo congresso il partito democratico sarà un partito ancora più democratico se gli altri non lo sono se gli altri si affidano agli algoritmi se gli altri giocano soltanto sulla cooptazione e sul capo è un problema loro ce ne faremo una ragione noi siamo il partito democratico e non rinunciamo alla democrazia neanche a quella interna grazie allora se andiamo subito a sentire che c'è la votazione che conclude allora fermi che dobbiamo votare noi abbiamo la presidenza ricevuto due ordini del giorno che vi leggo quindi chiederei chi non è delegato può anche andare via se non è ma gli altri dovrebbero restare chi non è delegato membro della direzione allora il primo ordine del giorno firmato da Mirabelli Ermini Marcucci Campana Scani Piccione Paris recita così la direzione nazionale del partito democratico udita la relazione del segretario nazionale Matteo Renzi la prova invita il presidente dell'assemblea nazionale a convocare l'assemblea stessa per l'avvio dell'iter congressuale auspicando la definizione di regole analoghe a quelle utilizzate per lo svolgimento del congresso del 2013 il secondo firmato da Agostini Boccia Emiliano La Forgia Miotto Rossi Sarracino Speranza Stumpo Zoggia Tocci più lungo leggo recita che premesso che nel mondo e assistiamo nel mondo assistiamo a processi e trasformazioni che impongono una riflessione approfondita sulle risposte che una comunità di persone come quella rappresentata dal PD può e deve dare l'Europa sempre più debole vive una fase di forte fibrillazione dovuta anche agli appuntamenti elettorali che diversi paesi dovranno affrontare quest'anno il nostro paese sta affrontando diverse situazioni di forte criticità e necessità di un governo stabile in grado di dare risposte adeguate ma tematiche come a titolo esemplificativo il sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto l'emergenza sociale e occupazionale soprattutto delle generazioni più giovani la crisi che coinvolge imprese e il sistema bancario italiano a tutela dei risparmiatori si avvicina a una scadenza elettorale importante per monti alti locali presidi di democrazia e colonne portanti del nostro sistema istituzionale per cui il partito democratico dovrà scegliere e condurre una campagna elettorale al fianco dei diversi candidati e coalizioni con l'obiettivo di vincere la direzione si impegna a sostenere il governo Gentiloni fino alla scadenza naturale del mandato impegnandolo a sostenere in questo periodo le popolazioni colpite dal terremoto ad affrontare il tema della povertà individuando uno strumento universitario avete capito che le due emozioni sono una sostanzialmente si va nel weekend all'assemblea nazionale e si va dritti al congresso l'altra è si decide che si sostiene che la legislatura vada avanti fino alla scadenza naturale del 2018 e si fa poi e si fa in questo anno il congresso del partito capite che sono due linee opposte ma sono quelle che abbiamo visto emergere da questa direzione nazionale del partito democratico allora sentiamo come finisce e perché subito dopo la votazione l'equilibrio tra governabilità e rappresentatività e quindi alla convocazione di un congresso in tempi tali da garantire il coinvolgimento della nostra comunità per affrontare una discussione larga e approfondita sulle sfide che abbiamo davanti e sulle risposte che il PD dovrebbe dare anteponendo una discussione approfondita sulla linea politica conferenza programmatica la fase finale della scelta della leadership da svolgersi tra i mesi di ottobre e novembre 2017 questi sono i due ordini del giorno che evidentemente sono alternativi quindi io metterei intanto in votazione il primo se i presentatori degli ordini del giorno sono d'accordo vuoi votare anche il secondo comunque chiaro uno dei presentatori vuole che si votino tutte e due comunque siccome sono alternativi se passasse il primo quello della maggioranza secondo Orfini sarebbe inutile votare votare l'altro invece si chiede che tutte e due da parte degli esponenti della minoranza che tutte e due vengano votate sono dei passaggi in cui se noi mettiamo l'ordine del giorno la votazione il primo ordine del giorno e passa questo esclude il voto al secondo se mettiamo se mettiamo in votazione anche il secondo con la formulazione che c'è c'è una formulazione in cui questa assemblea è chiamata a dare la fiducia al governo Gentiloni e come no e come no quindi attenzione a cosa mettiamo in votazione io lo dico solo perché siamo ben consapevoli quindi io penso che la procedura che è poi la procedura parlamentare è chiaro che il voto del voto il primo ordine dice attenzione che se non passa che se non passa poi l'ordine del giorno della minoranza non c'è la fiducia al governo Gentiloni cioè secondo Fassino forse si adombrava il rischio adesso arriva Stumpo penso che è il firmatario della tengo fuori il governo ad una condizione però che approvando il primo non significa che gli togliamo la fiducia il che non è possibile e allora proprio perché la motivazione è questa non c'è alternatività non c'è un problema in merito al fatto che approvandone uno non si possa votare l'altro anche perché nel primo è scritto si avvia il congresso e nel secondo c'è scritto si avvia il congresso poi ci sono scritte altre cose ma non sono alternativi non c'è un problema rispetto al governo nel primo e qui c'è scritto che bisogna dare la fiducia fino al 2018 se qualcuno vuole fare un ordine del giorno in cui si dice vediamo se dare la fiducia allora a quel punto diventano alternativi avete capito cari telespettatori che c'era effettivamente una codina velenosa nella contrapposizione di queste due emozioni come tutti sappiamo perché siamo abbastanza professionisti dell'argomento congressuale e parlamentare diciamo hanno una premessa e un dispositivo i due dispositivi di questi ordini del giorno sono oggettivamente alternativi perché li rileggo uno invita me a convocare l'assemblea stessa per l'avvio dell'iter congressuale auspicando la definizione di regole analoghe a quelle utilizzate per lo svolgimento del congresso del 2013 che sono evidentemente differenti da quanto previsto nel dispositivo del secondo cioè convocazione di un congresso in tempi tali da garantire il coinvolgimento della nostra comunità per affrontare una discussione larga e approfondita sulle sfide che abbiamo davanti e sulle risposte che il partito democratico dovrebbe dare anteponendo una discussione approfondita sulla linea politica conferenza programmatica che è uno strumento previsto dal nostro statuto e che non è previsto dal leader congressuale classico ma è un'altra cosa rispetto al leader congressuale e non era nelle regole del 2013 anteponendo quindi alla fase finale la scelta della leadership da svolgersi fra i mesi di ottobre e novembre del 2017 queste due cose sono oggettivamente alternative e quindi se se ne vota una è precluso la votazione all'altra come in qualunque assemblea del mondo cosa diversa riguarda la prima parte in cui ci sono considerazioni e io ripeto anche su questo evidentemente alcune condivisibili altre meno condivisibili ma diciamo siccome non credo che vogliamo arrivare a votare gli ordini del giorno per singole parti separate perché mi farrebbe eccessivo stiamo alla discussione sul dispositivo mettiamole in votazione ed evidentemente sono due dispositivi alternativi quindi però questo è il potere della presidenza scusami la valutazione della presidenza come vedete come si dice si sono incartati no? e questo è quello che è successo in buona sostanza con quella con quell'elemento velenoso che si era che si era rappresentato che è stato scoperto diciamo così da Fassino adesso il dovere oltre che diritto della presidenza dare questa valutazione l'ho espressa peraltro all'unanimità del collegio di presidenza perché è abbastanza palese l'alternatività di due persone l'abbiamo deciso insieme il presidente e lui vicepresidente Sandra Zampa Proviana e Matteo Ricci il sindaco di Pesaro ecco si sta votando stiamo parlando di quello Mirabelli Ermini eccetera l'ordine del giorno della maggioranza della direzione vedete che l'hanno votato lo votano e c'è chi conta tutti i voti favorevoli è la fase conclusiva poi diciamo al nostro Celata di prepararsi a prendere le uscite come succede negli spogliatoi come succede dopo le partite vedete anche anche Renzi accanto a lui da una parte Guerini dall'altro la Serracchiani a votare favorevolmente così come dall'altra parte due su tre degli esponenti della presidenza ma non la Zampa si ultimano ci chiedo agli scrutatori ci siamo sicuri una conta laboriosa no? è chiaro che con questa cosa se come penso si possa anticipare c'è la maggioranza assoluta non c'è poi la votazione sull'altro consulta il suo smartphone possiamo fare i contrari? contrari ecco la controprova i contrari che conta? che sarà quel gruppettino noi non ne vediamo nemmeno uno sì noi diciamo di quei contrari abbiamo avuto una visualizzazione con le con le foto ok allora adesso bisognerà vedere ciò che sarà importante vedere al di là della conta numerica che è scontata vedere a quando sarà convocata l'assemblea nazionale che è nel fine settimana ecco astenuti si chiede la presenza di astenuti siamo proprio sulla direttura d'arrivo dopodiché la cosa che ci interessa sentire quindi sì ma mi dovete dare gli altri ecco qua come vedete mezzi avveneristici con 107 voti favorevoli 12 contrari e 5 astenuti di conseguenza il successivo è precluso ci vediamo in assemblea e quindi l'assemblea nel fine settimana probabilmente sono questioni logistiche che impediscono di dire se sabato o domenica e Paolo Celata spero che tu mi senta anzi ne sono sicuro vediamolo eccolo qui tre minuti di pubblicità e poi prendiamo le uscite dei protagonisti a tra poco eccoci allora per il gran finale Marco dovessi fare un titolo Renzi va a congresso sfida la minoranza al congresso e la sua maggioranza si non dico si sfalda diciamo si articola si articola sì perché dobbiamo tornare un po' a questi verbi secondo te Alessandra che titolo? il titolo devo farlo devo farlo tra mezz'ora quindi mi aiuto sicuramente il rinvio della decisione delle dimissioni di oggi però e il congresso insomma l'accelerazione sul congresso con un atteggiamento duro sfidante sicuramente nei confronti della minoranza anche perché i numeri dicono questo però ricordiamocelo quei numeri erano un po' scontati dalla direzione i numeri nella direzione sono questi i numeri nel partito sono dei punti interrogativi naturalmente i messaggi sono il dibattito che non è stato così schiacciante per Renzi diciamo che è stato più articolato di come si poteva immaginare di come sarebbe stato soltanto qualche mese fa però certamente Renzi non gli ha concesso la cosa che loro volevano cioè la certezza sulla data delle elezioni il più tardi possibile diciamo che lì sul tappeto anche se è stata battuta qui resta però la proposta di Bersani non è stata cancellata quella di dire perché sarà proposta anche al congresso verosimilmente garantiamo la durata della legislatura e nel salutare Marco Damilano e anche Alessandra che domattina deve fare omnibus quindi sta già per andare a letto l'abbiamo trattenuta a stento dal mettersi già il pigiama però grazie grazie chiediamo a chi è sicuramente Renziano a tutti i carati ma è anche un vicepresidente della Camera quindi su questo tema della durata della legislatura ha una qualche autorevolezza e che con il nostro Paolo Celata Roberto Giacchetti di dire la sua su questo esito io sono un Giacchettiano di ferro intanto buonasera direttore buonasera allora che che vogliamo dire si sono sentite molte più articolazioni di quanto forse diciamo che mi pare mi pare che prego prego sì dicevo mi pare che intanto questa sera possiamo archiviare una prima verità e cioè che non esiste un uomo solo al comando ma esiste un dibattito democratico dentro un partito che porterà ad assumere una decisione definitiva l'organo vicario del congresso cioè l'organo più importante che abbiamo che è l'assemblea nazionale assemblea nazionale che ricordo si era già riunita due mesi fa che doveva su proposta del segretario convocare il congresso in quell'occasione chi oggi chiede il congresso diceva che il congresso non bisognava farlo perché sarebbe stata una resa dei conti e che oggi che abbiamo detto di fare il congresso dice che però il congresso troppo vicino non funziona io penso che la cosa migliore è rivolgersi al partito voi avete ho sentito dire ho sentito da Milano ho sentito tutti voi che giustamente fate delle analisi sulla maggioranza più larga più stretta che la direzione non rappresenta il partito certamente l'assemblea nazionale che è un organo composto da parecchie persone è la fotografia più realistica del partito che abbiamo in questo momento vedremo cosa deciderà democraticamente l'assemblea nazionale e quali saranno i numeri in assemblea nazionale quella polemica finale con Fassino che ha sottolineato quel passaggio sul fatto che votare contro la seconda mozione voleva dire un po' sfiduciare noi il governo una trappoletta un gioco schermaglia anche lì ma guardate adesso io vengo da un partito come sa il direttore Mentana che si chiama il partito radicale dove diciamo c'era una caratteristica che diciamo non ci si nascondeva dietro le cose se c'era chiaramente una posizione opposta a quella della maggioranza la si presentava come tale e le due proposte venivano votate una come di maggioranza e l'altra come di opposizione oggi francamente abbiamo assistito a un giochetto nel quale si tentava di fare un ordine del giorno che chiaramente nel dispositivo prego ecco sì che chiaramente nel dispositivo era antitetico a quello che era stato presentato inserendo delle questioni per esempio la fiducia al governo Gentiloni dimenticano i nostri amici della minoranza che noi la fiducia al governo Gentiloni l'abbiamo votata due mesi fa nell'assemblea nazionale quando loro ci spiegavano che sui provvedimenti del governo Gentiloni si sarebbe dovuto decidere di volta in volta a seconda se li credivano o meno come se fossero un partito che dava l'appoggio esterno è purtroppo quello che ci troviamo di fronte con la minoranza tutti i giorni e cioè che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra allora Gentiloni deve essere giudicato provvedimento su provvedimento adesso Gentiloni dovrebbe andare avanti fino al 2045 però commentare quello che ha appena twittato Miguel Gotore esponente della minoranza non fanno votare un ordine del giorno che prevede di ribadire la fiducia della direzione del PD al governo Gentiloni il re è nudo e poi aggiunge hanno approvato l'ordine del giorno Paolo stai sereno ma questo è Gotore d'altra parte potrei portarvi altre 45 dichiarazioni di Gotore dello stesso tipo poi adesso arriveranno gli altri il fatto reale è che l'Assemblea Nazionale organo vicario del Congresso due mesi fa ha deliberato la fiducia al governo Gentiloni quella fiducia che quando si è assunta questa deliberazione i rappresentanti della minoranza sostenevano non essere da garantire sempre ma soltanto provvedimento per provvedimento si sono ravveduti va benissimo ma adesso che ci vengano a insegnare a noi qual è la serietà e la correttezza delle cose fa un po' ridere l'esperto della Camera del Parlamento ma anche diciamo dei meccanismi interni ci sono i tempi tecnici per andare ora al di là veramente del dato politico per andare alle elezioni prima dell'estate o più pensabile a questo punto che ci si va in autunno guardi i tempi tecnici come è noto sono quelli della convocazione dei comizi elettorali che sono 45 dai 45 ai 70 giorni prima delle elezioni quindi diciamo a seguire da questo i tempi tecnici formalmente ci sono poi oltre che i tempi tecnici ci sta anche la politica e bisognerà vedere cosa deciderà l'Assemblea Nazionale soprattutto se andremo a votare con questa legge elettorale o con un'altra e poi non dimentichiamoci mai che comunque le Camere le scioglie un signore che per fortuna abbiamo che si chiama Sergio Mattarella e che è il Presidente della Repubblica però sul voto prima dell'estate il Ministro Orlando ha detto attenzione ci sono le amministrative a fare le primarie in quell'occasione potrebbe essere pericoloso un farci male ma è una legittimissima opinione guardi io come lei forse ricorderà era uno di quelli che diceva che Matteo Renzi non avrebbe neanche dovuto prendere l'incarica all'inizio e che si sarebbe dovuto andare a votare già tre anni fa era una mia opinione che ovviamente ho espresso anche pubblicamente poi c'è un partito che democraticamente decide e sempre democraticamente tutti dovrebbero essere vincolati alle decisioni che prende la maggioranza abbiamo costruito una specie di mostro nel quale c'è un pezzo di questo partito che quando era al governo rispettava questa regola e che adesso che all'opposizione ritiene che se non è d'accordo con quello che ha deciso la maggioranza fa come gli pare ovvero scissione scissione e vedremo che succede grazie 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 Giacchetti dobbiamo grazie a voi dall'ombra delle piramidi ci si chiede l'ultima pubblicità e ci vediamo tra tre minuti se trovi un esponente della minoranza così facciamo facciamo ambo a tra poco grazie ecco allora per equità abbiamo sedito il rappresentante della maggioranza Giacchetti Celata ha subito trovato anche una delle figure cardine dell'opposizione della minoranza PD Roberto Speranza buonasera a te Celata le domande candidato alla segreteria appena finito di dire discussione vera partecipata soddisfatto dalla discussione però il finale no non le è piaciuto una discussione secondo me all'altezza di un partito che prova a uscire dalle difficoltà in cui è un voto finale che non capisco fino in fondo non capisco perché non viene messo ai voti un documento in cui si dice che Gentiloni può governare fino al 2018 perché questo getta oggettivamente un'ombra sul dibattito che abbiamo fatto oggi è come se ci fosse un non detto che sinceramente non possiamo tenere così perché è un non detto abbastanza delicato che riguarda il paese noi abbiamo detto prima il paese e questa vicenda dell'ordine del giorno finale io credo che vada chiarita Giacchetti però ha detto è un trucchetto sul quale ci volevano impegnare però è stato un modo di farci dire una cosa noi in realtà Gentiloni lo sosteniamo e non c'è alcun dubbio su questo guardi io me lo auguro perché non si spiega come si fa a non sostenere in questo momento un governo che deve fare alcune cose importanti per il paese dall'emergenza terremoto alla questione sociale alle tante cose che conosciamo e soprattutto non si capisce come si può andare al voto senza una legge elettorale che può garantire un minimo di governabilità garantire anzi una parola sbagliata favorire e io penso che la direzione di oggi abbia avuto una buona consistenza anche sul piano delle idee ma che questa coda finale rischi di macchiare senza il ministro Orlando che pure come voi insomma chiede la prospettiva l'anno prossimo però ha detto basta evocare scissione lei nel suo intervento ha parlato di scissione di una scissione che già è in atto nel partito democratico nel popolo democratico c'è una parte c'è una parte dei nostri elettori dei nostri militanti dei nostri iscritti che già si sente fuori da questo partito allora il congresso ha senso se li riporta dentro c'è una scissione che è avvenuta a prescindere da Speranza da Bersani da tutti gli altri e io penso che il nostro obiettivo è fare un congresso vero ben messo non una conta tra figurine per provare a capire se queste persone le riportiamo dentro altrimenti noi potremo anche restare dentro ma la scissione sarà già avvenuta nelle cose direttore Speranza buonasera mi è parso che nel quel finale a cui avete fatto riferimento abbia riprodotto quel reciproco non detto da parte da parte della maggioranza ci si vuol tenere la carta di far finire la legislatura togliendo la fiducia a Gentiloni o chiedendo a Gentiloni di dimettersi autonomamente per poter per poter arrivare a elezioni quando la maggioranza del vostro partito lo ritenesse più opportuno da parte vostra l'esatto speculare è il contrario di vincolare con un voto della direzione Gentiloni fino al 2018 non sarebbe più facile andare a congresso su questo anche l'ha fatto in parte Bersani dicendo dobbiamo essere impegnati a dire andiamo avanti rivendicare la conclusione naturale della legislatura così non è un gioco di contrapposizioni mascherate diciamo ma mascherate fino a un certo punto penso che ci hanno detti delle verità oggi e questo è stato giusto io penso che se l'obiettivo è un congresso lampo per poi un voto lampo trasformiamo il PD nel partito dell'avventura e a quel punto non è che c'è la scissione non è più il PD perché il PD rischia di contraddire uno dei suoi elementi sostanziali il PD è stato il cardine del nostro sistema democratico in questi anni il partito della responsabilità immaginare che il PD pur di arrivare ad una qualche rilegittimazione delle proprie leadership mette in discussione il futuro di questo paese con un voto a giugno che poi ci porta a rivotare dopo qualche mese sul modello spagnolo è chiaro che per noi crea un problema enorme per cui oggi secondo me comunque è stato fatto un passo avanti nella discussione questo esito finale è sinceramente incomprensibile allora un'ultima domanda se mi permette le faccio commentare dice Calderoli della Lega che praticamente questa direzione è stata senza contenuti e il PD è il partito del sovrano Renzi lei che sicuramente non è un renziano non ricordo non ricordo sinceramente una sola discussione fatta dal partito di Calderoli nella propria esistenza per cui le parole di Calderoli le respingo al mittente sono imbarazzanti e senza senso il PD è l'unico grande partito che fa una discussione di questo tipo aspetto di vedere che un altro partito in Italia faccia una discussione di questo tipo qui grazie buona serata grazie grazie a speranza grazie tantissimo anche al nostro Paolo Celata che si è fatto un pomeriggio in centro ha visto come è fatto il centro di Roma ed è giusto che se no è sempre in giro per altre zone e grazie ovviamente le abbiamo già ringraziate i nostri ospiti di oggi ovvero Antonio Polito Marco Damilano e la nostra Alessandra Sardoni io vi dovrei dire ci vediamo la prossima volta ma in realtà tra due minuti e mezzo di pubblicità ci vediamo per il telegiornale grazie a tutti Grazie.